rachel e di ottima poco tempo dopo si tenne in casa di di ottima la prima seduta dell'azione patriottica la sala da pranzo attigua al salone era stata trasformata in sala del consiglio al centro c'era il tavolo per mangiare allungato al massimo e coperto di panno verde frisme di carta protocollo e matite di varie durezze sallineavano davanti ad ogni posto le credenze erano state portate via gli angoli della sala erano vuoti anche le pareti erano sfoglie salvo un ritratto di sua maestà fatto appendere da di ottima e quello di una dama embustata che il signor tuzzi aveva portato da un soggiorno all'estero ma che avrebbe potuto benissimo essere preso per il ritratto di un'antenata ad ottima sarebbe piaciuto porre ancora un crocifisso a capo del tavolo ma il capo di visione tuzzi sarà burlato di lei prima di lasciare quel giorno per delicatezza la propria casa l'azione parallela infatti doveva cominciare in ambiente assolutamente privato non erano presenti ministri né alte cariche di stato e nemmeno uomini politici e questo di proposito da principio si dovevano raccogliere in un cerchio ristretto solo i disinteressati servitori dell'idea erano attesi il governatore della banca di stato il signor von holzkopf e il barone wisniewski alte dame dell'alta aristocrazia noti esponenti della beneficenza borghese e in ossequio alla massima del conte leinstorf cultura e capitale i rappresentanti delle scuole superiori delle associazioni artistiche dell'industria della proprietà immobiliare e della chiesa gli organismi governativi avevano mandato in rappresentanza giovani funzionari scialbi che per classe sociale sintonavano all'ambiente e che godevano la fiducia dei loro capi questa posizione rispondeva ai desideri del conte leinstorf che ha pensato a una manifestazione spontanea sorta dal cuore del popolo ma dopo l'esperienza dei punti fissi trovava che era un gran sollievo sapere con chi si aveva da fare la cameriera rachel la padrona con traduzione un po libera in francese la chiamava rachel era già in piedi alle sei del mattino aveva allungato la tavola aggiunto all'estremità due tavole da gioco poi coperto il tutto di panno verde e tolto la polvere con cura particolare tutti quei lavori noiosi erano stati compiuti da lei con vivo entusiasmo la sera prima di ottima le aveva detto domani forse in casa nostra si fa la storia e rachel ardeva da capo a piedi per la felicità di assistere a un simile avvenimento il che era molto lusinghiero per il detto avvenimento perché il corpo di rachel sotto l'abitino nero era incantevole come una porcellana di maisen rachel aveva 19 anni e credeva ai miracoli era nata in galizia in una brutta capanna dove il rotolo della torà era appeso allo stipite della porta e dalle crepe del pavimento veniva fuori la terra era stata maledetta e scacciata di casa mentre la madre aveva un'aria smarrita e i fratelli ghignavano con facce spaventate lei aveva chiesto pietà in ginocchio e la vergogna le attanagliava il cuore ma non era servito a nulla un giovane senza coscienza l'aveva seduta e lei non sapeva più come aveva dovuto partorire in casa dei stranei e poi lasciare il paese e così rachel era partita e la sudicia scatola di legno in cui viaggiava l'accompagnava la disperazione era finita dal pianto vide la capitale dove istintivamente era venuta a rifugiarsi non altrimenti che una gran cortina di fuoco dove voleva buttarsi per morire invece o miracolo quella cortina si era aperta e l'aveva accolta allora era sempre parso a rachel di vivere all'interno di una fiamma dorata il caso l'aveva condotta in casa di diotima e questa aveva trovato naturalissima la fuga dalla casa paterna in galizia poiché doveva condurla a lei sovente quando furono entrate in confidenza parlava alla piccola delle persone celebri altolocate che frequentavano la casa dove rachel aveva l'onore di prestare servizio e anche dell'azione parallela le aveva già confidato qualcosa perché era un piacere guardare negli occhi di rachel che ogni notizia sfolgoravano e sembravano specchi d'oro riflettenti in un nimbo l'immagine della padrona poiché è vero che la piccola rachel era stata maledetta dal padre per colpa di un giovane senza coscienza ma ciò nonostante era una ragazza per bene e amava tutto l'idiotima i mormi di capelli scuri che le era concesso spazzolare mattina e sera le vesti che l'aiutava a indossare le lacche cinesi e i tavolini indiani i libri in lingue straniere sparsi dappertutto di cui non capivo una parola amava anche il signor Tuzzi e adesso pure il nababbo che il secondo giorno dopo il suo lei diceva il primo aveva fatto visita alla signora la che l'aveva contemplato in anticamera con estatico fervore come se fosse stato il dio dei cristiani uscito dal suo tabernacolo d'oro e il suo unico dispiacere era che non avesse portato con sé il suo nero soliman per farne omaggio alla padrona ma oggi nell'imminenza di un avvenimento mondiale era convinta che anche per lei doveva succedere qualcosa e immaginava che questa volta soliman avrebbe accompagnato il nababbo come esigeva l'occasione solenne quella speranza non era però la cosa principale ma soltanto la relativa complicazione il nodo o l'intrigo che non mancava in nessuno dei romanzi mediante i quali rachel compiva la propria educazione rachel infatti aveva licenza di leggere i romanzi deposti da di otima così come l'era concesso di adattare per sé la biancheria che di otima non portava più rachel cuciva e leggeva correntemente era al suo retaggio ebraico ma quando aveva tra mano un libro definito da di otima una grande opera d'arte ed erano quelli che preferiva naturalmente ne coglieva gli episodi solo così come si sta a vedere lo svolgersi di un avvenimento da una grande distanza o in un paese straniero qui gli sviluppi a lei incomprensibili la interessavano e addirittura commuovevano senza poterci metter bocca e questo le piaceva moltissimo e la mandavano fuori per commissioni o se venivano in casa visite di riguardo e la gustava nello stesso modo gli aspetti imponenti ed eccitanti della città imperiale una dovizia inconcepibile di fatti meravigliosi a cui ella partecipava appunto perché vi si trovava in mezzo in un posto privilegiato e non voleva prenderli meglio la sua istruzione elementare ebraica le massime profonde della casa paterna tutto aveva dimenticato per rancore e non ne aveva bisogno così come un fiore non ha bisogno di cucchiaio e forchetta per nutrirsi dei succhi della terra e dell'aria riprese ancora una volta tutte le matite e ne introdusse cautamente le punte luccicanti nella macchinetta applicata all'orlo del tavolo la quale temperava il legno con tanta perfezione che a ripetere il procedimento non ne cadeva più nemmeno una fibrilla poi rimise le matite accanto ai fogli di carta vellutata tre per posto ciascuna di tipo diverso e pensò che quella macchina perfetta che l'era dato di adoperare veniva dal ministero degli esteri un inserviente l'aveva portata di là la sera prima e anche le matite e la carta intanto erano suonate le sette rachel abbracciò con rapida occhiata tutti i particolari della disposizione le corse via per svegliare di ottima perché la seduta era fissata alle dieci e un quarto e di ottima dopo la partenza del signor tuzzi era rimasta ancora un po a letto quelle mattinate con di ottima erano una gioia speciale di rachel la parola amore non l'esprimerebbe piuttosto la parola venerazione presa nel senso più completo per cui l'onore reso a una persona la penetra dal segno da riempirla tutta e da scacciarla addirittura dal posto che occupa dentro se stessa di quell'avventura al paese era rimasta rachel una bimbetta che ora aveva un anno e mezzo la prima domenica ad ogni mese e la pagava puntualmente alla donna che l'aveva in custodia una buona parte del suo salario e visitava anche la piccina ma pur non trascurando i suoi doveri materni li vedeva soltanto come una punizione meritata in passato e il suo sentire era ridiventato quello di una fanciulla il cui corpo innocente non si ancora aperto all'amore si avvicinava al letto di diottima e i suoi occhi adoranti come quelli di un alpinista nello scorgere la vetta nevosa che se stolle dal crepuscolo mattutino nelle prime luci azzurre accarezzavano le sue spalle prima che le sue dita toccassero il tenero calore madreperlaceo della pelle poi e la saporava il fine odore composito della mano che usciva all'anguida dalle coperte per essere baciata ed esalava ancora i profumi del giorno innanzi ma anche gli umori del riposo notturno accostava la pantofola al piede nudo cercante e acoglieva lo sguardo di desto ma il contatto sensuale con quello splendido corpo di donna sarebbe stato infinitamente meno bello per lei se non l'avesse raggiato l'importanza morale di diottima hai messo per sua signoria il seggiolone abbracciò lì davanti al mio posto il campanello d'argento e dodici foglie di carta per il segretario e sei matite rachel per il segretario non tre sole disse diottima quel mattino a ognuna di quelle domande rachel ricapitolò fra sé quello che aveva fatto palpitando d'orgoglio come se fosse in gioco una vita umana la signora sarà buttata addosso una vestaglia e si avviò alla sala della seduta il suo modo di educare rachel consisteva nel ricordarle continuamente che nulla di quel che si fa o non si fa è una faccenda personale ma che bisogna pensare sempre invece al suo significato universale se rachel rompeva un bicchiere rachel veniva ammonita che il danno in sé era insignificante ma che il vetro trasparente va inteso come un simbolo dei minuti doveri quotidiani quasi impercettibili all'occhio uso ad affisare cose più alte ma i quali appunto perciò si deve dedicare una cura particolare e rachel a quel cortese trattamento ministeriale si sentiva spuntare negli occhi lacrime di rimorso e di felicità mentre raccoglieva i cocci le cuoche dalle quali di ottima pretendeva ragionamenti corretti e riconoscimento degli errori commessi cambiavano sovente da quando rachel era in servizio ma rachel amava di tutto cuore quelle magnifiche frasi come amava l'imperatore le sepolture e i ceri splendenti nella mistica oscurità delle chiese cattoliche qualche volta mentiva per togliersi da un guaio ma dopo si considerava l'ultima delle creature anzi forse le più piccole bugie le erano care perché grazie ad esse misurava la propria cattiveria a paragone di diottima ma di solito se le permetteva soltanto quando sperava di poter ancora trasformare di nascosto una menzogna in verità se una persona ne ammira un'altra in tutto e per tutto può accadere che il suo corpo le venga tolto e che essa precipiti come un piccolo meteorite nel sole dell'altro corpo di ottima non aveva trovato nulla da ridire e fece una carezzina affettuosa alla piccola cameriera poi andarono nella stanza da bagno e incominciarono la toletta per la grande giornata dosare l'acqua calda far schiumare il sapone o asciugare con lenzuolo di spugna il corpo di diottima così intimamente come se fosse stato il proprio e dava molto più piacere che se fosse stato per davvero il proprio corpo questo le sembrava insignificante e indegno di familiarità e mai le sarebbe venuto in mente di fare un raffronto quando toccava la statuaria floridità di diottima il suo animo era quello di un coscritto zoticone che appartenga a un reggimento brillantissimo così diottima si armò per la grande giornata allo scoccare dell'ultimo minuto comparve il conte leinsdorf accompagnato da ulrich rachel che era già in fiamme perché fino a quel momento aveva aperto la porta a una processione ininterrotta di invitati li conobbe subito quest'ultimo e constatò con soddisfazione che anche lui non era stato un visitatore qualunque ma un personaggio condotto in casa dalla sua signora da motivi di eccezionale importanza perché adesso ritornava insieme con sua signoria e la svolazzò fino alla porta della sala che aprì con solennità e poi si mise a origliare davanti al buco della serratura per sapere che cosa sarebbe successo il buco della serratura era largo e lei poteva vedere il mento glabro del governatore la cravatta viola del prelato nido manski e la dragona d'oro del generale stum von bordwehr che il ministro della guerra benché non invitato aveva mandato in rappresentanza il ministero aveva espresso in una letta del conte l'einsdorf il suo desiderio di partecipare ad un'iniziativa così altamente patriottica anche se la sua origine e il suo probabile svolgimento non lo concernevano direttamente di ottima però aveva dimenticato di avvertire rachel quindi la ragazza fu molto eccitata dalla presenza di un ufficiale tuttavia di quel che stava accadendo nella sala per il momento non capì altro l'ottima intanto aveva accolto sua signoria e dedicato poca attenzione a Ulrich perché stava facendo le presentazioni presentò per primo al conte il dottor paul arnheim dichiarando che un caso propizio aveva condotto a lei quell'illustre amico della sua famiglia e seppure egli in qualità di forestiero non poteva partecipare alle sedute in veste ufficiale e la desiderava però averlo accanto come proprio consigliere personale poiché e qui ella introdusse subito una velata minaccia le vaste relazioni e la profonda esperienza del dottor arnheim nel campo della cultura internazionale e la conoscenza dei rapporti fra questi problemi e quelli dell'economia sarebbero state inestimabilmente preziose mentre finora aveva dovuto riferire da sola e anche in avvenire non sarebbe stato tanto facile sostituirla benché ella fosse fin troppo consapevole della propria insufficienza il conte l'einstorff si vide preso a tradimento e per la prima volta dall'inizio delle loro relazioni dovette stupire per una mancanza di tatto della sua amica borghese anche arnheim si sentì a disagio come un sovrano il cui ingresso non è stato convenientemente preordinato da che egli credeva che il conte l'einstorff sapesse del suo invito e lo approvasse ma di ottima con guance di porpora e aria ostinata non cedette come tutte le donne che hanno la coscienza troppo pura in fatto di moralità coniugale era capace di spiegare un'insopportabile sfrontatezza femminile quando si trattava di una faccenda onorevole a quel tempo era già innamorata di arnheim che l'aveva visitata alcune volte ma nella sua inesperienza non aveva alcun sospetto sulla natura dei propri sentimenti discutevano insieme ai moti di un'anima che fra le piante dei piedi e le radici dei capelli nobilita la carne e trasforma in vibrazioni armoniche dello spirito le impressioni confuse della civiltà ma anche questo era già molto e poiché di ottima era avvezza alla cautela e sempre preoccupata di non compromettersi quella confidenza l'era sembrata troppo improvvisa ed era stata costretta a mobilitare i grandi sentimenti proprio i grandissimi che dove si trovano mai più ovviamente nella sfera dove tutti li trasferiscono quella degli eventi storici l'azione parallela era per di ottima e d'arnheim l'isola salvagente in mezzo al traffico sempre più intenso dei loro rapporti spirituali ai loro occhi era quasi un destino speciale che li aveva riuniti in quel momento così delicato e si trovavano perfettamente d'accordo nell'opinione che il movimento patriottico fosse una prodigiosa occasione e responsabilità per creature spirituali lo diceva anche arnheim però non dimenticava mai di soggiungere che in primo luogo importava che fossero persone forti pratiche tanto di questioni amministrative che di problemi del pensiero e l'estensione del movimento veniva solo in secondo luogo così indiotima l'azione parallela era indissolubilmente legata ad Arnheim e la sua primitiva mancanza di idee sull'impresa aveva ceduto il luogo a un'esuberante dovizia s'avverava nel modo più infausto la speranza che il tesoro di sentimenti insito nell'anima austriaca potesse venire rafforzato dall'educazione mentale prussiana e così forti erano quelle impressioni che la corretta signora non si rese conto di commettere un atto di prepotenza invitando Arnheim ad assistere alla seduta inaugurale adesso era troppo tardi per cambiare strada ma Arnheim che subodorava ai motivi vi trovava qualcosa di pacificante pur dispiacendogli di essere stato messo in quella situazione e sua signoria in fondo era troppo ben disposto verso l'amica per dare al suo stupore un'espressione più forte di quella involontaria alla dichiarazione di Diotima tacque e dopo un silenzio breve e penoso porse cortesemente la mano al dottor Arnheim e gli diede il benvenuto con le parole più gentili e più lusinghiere a quasi nessuno dei convenuti era sfuggita la piccola scena e chi sapeva chi fosse il dottor Arnheim si meravigliò della sua presenza ma tra gente beneducata si presuppone che tutto abbia le sue valide ragioni e non è buona creanza indagarle curiosamente la signoria tenne un discorso l'aveva preparato da alcuni giorni e il suo carattere intellettuale era troppo saldo perché egli potesse mutare qualcosa all'ultimo minuto appena attenuò le allusioni più scoperte all'uso dei fucili a lago subdolamente introdotti dai prussiani nel 66 battendo i fucili a bacchetta austriaci si riunisce qui disse il conte Leinsdorf il comune pensiero che una possente manifestazione sorta dal cuore del popolo non può essere abbandonata al caso ma invece ha bisogno di essere guidata da un'autorità preveggente e lungimirante e dunque bisognerà prendere atto di un gran passo avanti senza contare che sua signoria non aveva nemmeno esposto tutto il suo pensiero dopo questo discorso prese la parola di Otima per delucidare le intenzioni del presidente la grande azione patriottica e la fermò deve eleggersi una grande meta la quale come aveva detto sua signoria sarebbe sorta in mezzo al popolo noi che siamo qui adunati per la prima volta non ci sentiamo ancora chiamati a definire questa meta ma per ora lavoreremo insieme per creare un organismo atto ad avviare la formazione di progetti che conducano a questo scopo con tali parole e la aprì la discussione per un poco ragniò un profondo silenzio chiudi in una stessa gabbia uccelli e specie di linguaggi diversi e vedrai che in principio tacciano allo stesso modo finalmente un professore chiese la parola Ulrich non lo conosceva sua signoria doveva aver fatto invitare quel signore all'ultimo momento dal suo segretario privato il professore parlò del cammino della storia se guardiamo davanti a noi che gli disse un muro impenetrabile se guardiamo a sinistra e a destra un eccesso di avvenimenti importanti senza una linea di sviluppo riconoscibile qualche esempio l'attuale conflitto col Montenegro le dure lotte sostenute dagli spagnoli in barocco l'ostruzionismo degli ucraini al parlamento austriaco ma se invece si guarda indietro ecco che tutto appare meravigliosamente scalettato secondo un ordine e uno scopo perciò se così gli era lecito esprimersi noi viviamo a ogni istante il mistero di un reggimento miracoloso ed era da acclamarsi come un'altissima idea l'iniziativa di aprire gli occhi al popolo su queste vedute di lasciargli penetrare i disegni della provvidenza invitandolo in un'occasione di suprema importanza ecco quello che aveva voluto dire allo stesso modo nella pedagogia moderna si fa lavorare l'allievo insieme al maestro invece di poi gli dinanzi risultati belle pronti l'assemblea fissava imperterrita il panno verde del tappeto anche il prelato che rappresentava l'arcivescovo aveva conservato di fronte a quello spirituale intervento di un laico lo stesso atteggiamento cortese e paziente dei consigliari ministeriali senza lasciare apparire sul suo viso il più lieve segno di un cordiale consenso era come quando qualcuno per la strada si mette ad apostrofare forte i passanti tutti anche quelli che non stanno pensando a niente sentono improvvisamente di trovarsi fuori per gravi e importanti impegni o di assistere ad un abuso di suolo pubblico il professore mentre parlava aveva avuto da lottare con la propria timidità e le parole gli erano uscite di bocca stentate e modeste come se il vento gli togliesse il respiro quando ebbe finito aspettò una risposta e non senza dignità cancellò dal suo viso l'espressione d'attesa fu per tutti una liberazione quando dopo quell'incidente il rappresentante della casa civile dell'imperatore chiese la parola e diede all'assemblea un ragguaglio delle istituzioni e opere che nell'anno del giubileo sarebbero state finanziate dalla cassetta privata del grazioso sovrano cominciò con l'offerta per la costruzione di un santuario in un luogo di pellegrinaggio e una cassa per soccorrere ecclesiastici privi di mezzi poi sfilarono le associazioni di veterani arciduca Carlo e Radeschi vedove e orfani di guerra delle campagne 1866 e del 78 un istituto per sotto ufficiali a riposo l'accademia delle scienze e via discorrendo l'elenco non conteneva nulla di straordinario aveva il suo corso e posto prestabiliti in tutte le celebrazioni pubbliche della sovrana generosità finito l'elenco si alzò subito la signora Weg Huber moglie dell'industriale dama benemerita nel campo della beneficenza assolutamente incapace di concepire che potesse esistere al mondo qualcosa di più importante che gli oggetti delle sue cure e propose all'assemblea la fondazione di una cucina imperatore Francesco Giuseppe per la minestra dei poveri suggerimento che venne approvato l'inviato del ministero dell'istruzione del culto fece però osservare che anche al suo di Castero era stata presentata una proposta in un certo senso analoga la pubblicazione di un'opera monumentale l'imperatore Francesco Giuseppe I e il suo secolo ma dopo questo felice avvio si fu di nuovo un silenzio e la maggior parte dei presenti fu di nuovo in preda ad un imbarazzo penoso se qualcuno mentre si recavano al convegno avesse chiesto loro se sapevano che cosa fosse un grande evento un evento storico e così via avrebbero certo risposto affermativamente ma posti di fronte all'urgente problema di inventarne uno si erano a poco a poco afflosciati e avevano sentito dentro di sé qualcosa come un brontolio di carattere molto naturale in quel momento pericoloso Diotima che aveva fatto preparare dei rinfreschi sospese con un tatto squisito la seduta primo incontro di Ulrich col gran uomo nella storia del mondo non accade nulla di irragionevole ma Diotima sostiene che la vera Austria è tutto il mondo nell'intervallo Arnheim osservò che quanto più vasta l'organizzazione tanto più disparate sarebbero state le proposte ma appunto per questo era un prodigioso proposito costringere tutto un popolo a concentrarsi sulla volontà l'ispirazione e l'essenza cose più profonde che la ragione per tutta risposta Ulrich gli chiese se credeva davvero che dal movimento sarebbe nato qualcosa senza dubbio affermò Arnheim i grandi avvenimenti sono sempre l'espressione di una generale disposizione d'animo questa oggi esisteva e il fatto stesso che fosse stata possibile una donata come l'odierna ne dimostrava la profonda necessità c'era però qualcosa che non era facile penetrare opinò Ulrich supposto che il compositore dell'ultima operetta che aveva avuto un successo mondiale fosse un intrigante e si facesse nominare presidente di tutti gli stati del mondo cosa non impossibile data la sua enorme popolarità questa sarebbe stata un'inclinatura nella storia o l'espressione di uno stato d'animo ma è assolutamente escluso dichiarò serio il dottor Arnheim un compositore di quel genere non può essere né un intrigante né un politico altrimenti non si spiegherebbe il suo genio comico musicale e nella storia del mondo non accade mai nulla di irrazonevole nel mondo sì molto spesso nella storia del mondo mai Arnheim era visibilmente nervoso poco distante Diotima e il conte Lansdorf parlavano animatamente a bassa voce sua signoria si era decisa ad esprimere all'amica il suo stupore di vedere un plussiano in quel movimento che doveva essere austriaco per eccellenza non fosse altro che per motivi di tatto riteneva escluso che uno straniero potesse avere una parte importante nell'azione parallela mentre Diotima gli faceva notare l'ottima e pacificante impressione che una simile assenza di egoismo politico doveva produrre all'estero ma poi cambiò tattica e allargò di sorpresa i suoi piani parlò della delicatezza femminile che è una grazia del sentimento e non si cura dei pregiudizi della società sua signoria doveva ascoltare quella voce almeno una volta Arnheim era un europeo uno spirito noto in tutta l'Europa e appunto perché non era un austriaco la sua partecipazione serviva a dimostrare che lo spirito come tale ha nell'Austria una patria e improvvisamente sparò l'asserzione che la vera Austria era tutto il mondo il mondo e la spiegò non avrebbe trovato pace se non quando nazioni in esso avessero vissuto concordi come le stirpi austriache nella loro patria comune un'Austria più grande un'Austria mondiale ecco la sublime idea che ella suggeriva in quel fortunato momento a sua signoria l'idea fastigio che mancava finora all'azione parallela travolgente una pacifica dominatrice la bella di Otima stava di fronte al suo nobile amico il conte L'Einstorf non sapeva ancora risolversi ad abbandonare le sue obiezioni ma ammirò anche questa volta l'ardente idealismo e l'ampiezza di vedute di quella donna e Ponderosa non sarebbe stato meglio far partecipare Arnheim alla conversazione che rispondere subito a una proposta così gravida di conseguenze Arnheim era inquieto perché fiutava quel colloquio senza poterlo influenzare lui e Ulrich erano circondati da curiosi attratti dalla persona del Creso e Ulrich stava appunto dicendo ci sono migliaia di professioni in cui gli uomini si consumano lì è concentrata la loro intelligenza ma se si chiede loro semplicemente ciò che è umano e a tutti comune non restano che tre cose la stupidità il denaro e tutto il più qualche reminiscenza di religione giustissimo la religione interloquì Arnheim con energia chiese a Ulrich se credeva che fosse già del tutto sradicata e scomparsa aveva pronunciato la parola religione in tono così enfatico che il conte Leinsdorf doveva averla udita per forza nel frattempo sembrava che il conte Leinsdorf avesse concluso un patto con Diotima perché condotto dall'amica si avvicinò al gruppo che si sciolce discretamente e diresse la parola al dottor Arnheim Ulrich a un tratto si ritrovò solo a rosicchiarsi le unghie incominciò sai Dio come per ammazzare il tempo o per non starsene lì derelitto a ripensare alla scarrozzata che l'aveva portato al raduno il conte Leinsdorf che l'aveva preso seco come uomo moderno possedeva l'automobile ma poiché in pari tempo era attaccato alla tradizione si serviva anche talvolta di una pariglia di splendidi sauri che aveva conservato con cocchiere e carrozza e quando il maggiordomo era venuto a prendere gli ordini sua signoria aveva trovato opportuno recarsi alla seduta inaugurale dell'azione parallela trainato dai due bellissimi animali ormai quasi storici quello è Pepi e quello è Hans indicò il conte Leinsdorf lungo il tragitto si vedevano le brune colline danzanti delle groppe e ogni tanto una delle teste annuenti che a tempo si volgevano di lato facendo volar via la schiuma della bocca era difficile capire che cosa avessero in mente i cavalli la mattina era bella e si correvano forse la corsa e il foraggio sono le sole grandi passioni equine se si considera che Pepi e Hans erano castrati e non conoscevano l'amore come esigenza tangibile ma soltanto come un anelito e una velatura che talvolta rivestiva di nubi sottili e lucenti il loro cosmo il culto del foraggio si celebrava in una mangiatoia marmorea con biade squisite e in una greppia piena di fieno fresco al tintinio degli anelli sulle cavezze e si riassumeva nelle esalazioni caldo umide della stalla il cui afroreschietto ammoniacale penetrava come aghi quel forte senso di individualità qui sono i cavalli in quanto alla corsa doveva essere diverso allora la povera anima è ancora legata al branco ove da qualche parte giunge al puledro che lo guida o a tutti insieme con impulso alla corsa e si slanciano tutti incontro al vento e al sole perché quando l'animale è solo e lo spazio gli sta aperto nelle sue quattro dimensioni sovente un fremito di follia gli attraversa il cervello ed egli scatta via il galoppo senza meta e si precipita in una terribile libertà che è vuota in una direzione come nell'altra finché smarrito si ferma ed è facile allettarlo al ritorno con un sacchetto d'avena Pepe e Hans erano cavalli ben addestrati al tiro si misero al trotto battendo con gli zoccoli la strada soleggiata con le siepe di casa i uomini apparivano loro come un brulichio grigio che non diffondeva né gioia né spavento le mostre varie pinte dei negozi le donne sfoggianti colori luminosi erano pezzi di un prato non commestibile i cappelli le cravate i libri e i brillanti lungo la strada un deserto solo due isole di sogno ne emergevano la stalla e il trotto e ogni tanto Hans e Pepe si spaventavano per un'ombra come nel sogno o nel gioco si stringevano al timone si lasciavano rinfrancare da una frustata piatta e si abbandonavano grati alla briglia e improvvisamente il conte Leinstorf si era sollevato sui cuscini e aveva chiesto a Ulrich dottore Stalburg mi ha detto che lei si adopera per un tale nella sua sorpresa Ulrich non trovò subito la replica adatta e Leinstorf seguitò è bello da parte sua so tutto secondo me non si potrà fare granché perché si tratta di un individuo abominevole ma quel tanto di imponderabilmente individuale e di meritevole di indulgenza che è in ogni cristiano spesso si rivela appunto in un soggetto di questo genere e quando ci accingiamo noi stessi a una grande impresa dobbiamo ricordarci con umiltà dei derelitti forse si potrà farlo sottoporre a un'altra perizia medica dopo aver emesso fra le scosse della carrozza questo lungo discorso il conte Leinstorf si lasciò ricadere sui cuscini e aggiunse ma non dimentichiamo che in questo momento tutte le nostre forze devono essere consacrate a un avvenimento mondiale Ulrich in fondo sentiva una certa simpatia per l'ingenuo vecchio aristocratico che stava ancora discorrendo con Giotima e Arnheim e quasi un po' di gelosia la conversazione infatti pareva molto animata Giotima sorrideva il conte Leinstorf allargava gli occhi stupiti nello sforzo di seguire e Arnheim parlava con signorile pagatezza Ulrich colse l'espressione portare il pensiero nelle sferze del potere non poteva soffrire Arnheim semplicemente come forma di esistenza per principio il tipo Arnheim quella combinazione di spirito affari vita comoda e cultura gli era supremamente intollerabile era convinto che Arnheim fin dalla sera prima avesse tutto concertato per arrivare alla seduta né primo né ultimo ma che tuttavia non aveva di certo guardato l'ora prima di uscire ma forse l'ultima volta prima di sedersi a colazione e ascoltare il rapporto del segretario che gli porgeva la posta il tempo che gli restava a disposizione l'aveva trasformato nell'attività interna a cui voleva dedicarsi fino al momento di muoversi e abbandonandosi a quell'attività era sicuro che essa avrebbe riempito esattamente il tempo perché la cosa giusta e il tempo che le bisogna sono uniti da una forza misteriosa come una scultura e lo spazio che occupa o colui che lancia il giovellotto e il bersaglio che gli colpisce senza guardare Urrich aveva già sentito dire tante cose di Arnheim e alcune ne aveva lette in uno dei suoi libri era scritto che l'uomo usa a sorvegliare nello specchio il proprio vestire non è capace di agire con tranquilla serenità perché lo specchio creato in origine per la gioia egli spiegava è diventato uno strumento di paura come l'orologio che è un surrogato creato dal fatto che le nostre attività non si susseguono più secondo un ordine naturale Urrich dovette scuotersi per non fissare ineducatamente il gruppo vicino e l'occhio gli cadde sulla camerierina che scivolava fra i gruppi conversanti e sbattendo le palpebre con riverenza serviva rinfreschi ma la piccola Raquel non si accorse di lui lo aveva dimenticato e non venne nemmeno a porse di il suo vassoio si era avvicinata ad Arnheim e gli offriva i suoi stori come se fosse stato un dio avrebbe voluto baciare la mano corta e tranquilla che prese la limonata e tenne distrattamente il bicchiere senza che il nababbo bevesse dopo quel momento culminante ella fece il suo dovere come un piccolo automa conturbato e scappò in fretta dal salotto tutto gambe e conversazioni dove si faceva la storia tornandosene in anticamera continuazione e fine della grande seduta simpatia di Ulrich per Raquel e di Raquel per Soliman definitiva organizzazione dell'azione parallela a Ulrich piaceva quel genere di servette che sono ambiziose si comportano bene e nella loro beneducata timidezza somigliano ad alberelli i cui frutti dolci e maturi cascheranno un giorno in bocca a un giovine signore ozioso che si degni di schiuder le labbra devono essere valorose e indurite come le donne dell'età della pietra che di notte dividevano il giaciglio e di giorno portavano in lunghe marce le armi e le suppellettili del loro guerriero e gli pensò sebbene lui stesso salvo che nell'era lontana della virilità che si desta non avesse mai percorso quel sentiero di guerra ospirando tornò al suo posto perché la seduta riprendeva ripensandoci gli venne in mente che l'abito bianco e nero imposto a quelle fanciulle ha lo stesso colore di quello delle monache non notava per la prima volta e se ne meravigliò ma la divina diottima stava già parlando e dichiarava l'azione parallela deve culminare in un gran segno questo non vuol dire che debba avere una qualsiasi meta visibile da lontano per patriottica che essa sia ma a quel fine deve commuovere il cuore del mondo non bisogna che sia solamente pratico deve essere un poema epico deve essere una pietra miliardi deve essere uno specchio nel quale il mondo si contempli e arrossisca non soltanto arrossisca ma come nella fiaba scopra il suo vero volto e non possa più dimenticarlo perciò sua signoria aveva suggerito l'idea dell'imperatore della pace ciò premesso non si poteva disconoscere che le proposte finora discusse fossero inadeguate se nella prima parte della seduta ella aveva parlato di simboli non intendeva dire naturalmente cucine per distribuire minestre si trattava invece niente meno di ricomporre quella coesione umana che gli interessi personali ormai tanto differenziati avevano distrutta naturalmente si affacciava quindi subito la domanda se il tempo presente i popoli d'oggi fossero ancora capaci di grandi idee collettive tutte le proposte avanzate erano bellissime ma assai divergenti e ciò bastava a dimostrare che nessuna di esse possedeva la forza coesiva e mancava dunque appunto dell'essenziale mentre Diotima parlava Ulrich osservava Arnheim ma la sua avversione non si soffermava sui particolari fisionomici bensì su tutto l'insieme anche se quei particolari il duro cranio fenicio da mercante dominatore il viso severo ma come modellato con materiale un po' scarso e perciò con poco rilievo la compostezza della figura rilevante al gran sarto inglese e nel secondo punto dove l'uomo sguscia fuori dell'abito le mani dalle dita un po' brevi erano abbastanza degne di nota ciò che irritava Ulrich era il buon rapporto reciproco di tutte queste cose uguale sicurezza spiravano anche i libri di Arnheim il mondo funzionava bene subito che Arnheim lo aveva esaminato in Ulrich si risvegliò una voglia monellesca di gettare sasso immondizia su quell'uomo cresciuto nella perfezione e nella ricchezza mentre lo guardava disporsi a seguire con la massima attenzione quegli insulsi dibattiti li beveva addirittura come un intenditore il cui viso esprime non voglio dir troppo ma questa è una vita nobilissima di ottima intanto aveva finito nell'intervallo appena tutti avevano ripreso i loro posti le facce dei presenti esprimevano la persuasione che adesso si sarebbe venuti a un risultato nessuno ci aveva meditato su ma tutti avevano preso l'atteggiamento in cui si aspetta qualcosa di importante e ora di ottima concluse al quesito dunque se il tempo presente e i popoli d'oggi siano ancora capaci di grandi ideali comuni si può e si deve aggiungere e della forza che riscatta perché si tratta di redenzione di uno slancio liberatore in poche parole anche se non si poteva ancora farsene un'idea ben chiara doveva nascere dalla collettività oppure non nascere affatto perciò ella presi gli accordi con sua signoria si permetteva di fare la seguente proposta a chiusura della seduta odierna la signoria aveva osservato con ragione che in fondo anche i ministeri rappresentano una divisione del mondo secondo i suoi principali punti di vista come religione istruzione commercio industria giustizia e così di seguito con la costituzione di commissioni presiedute ciascuna da un delegato di quei di casteri fiancheggiato da rappresentanti delle pertinenti cooperazioni e parti della popolazione si sarebbe dunque creato un organismo dove le forze principali del mondo avrebbero avuto il loro ordine naturale sarebbero state vagliate e incanalate la commissione centrale avrebbe quindi elaborato l'assetto definitivo e sarebbe poi bastato completare l'edificio con qualche comitato e sottocomitato con compiti speciali per esempio la propaganda e la raccolta di fondi quanto a lei si sarebbe riservata la formazione di un comitato spirituale per l'ulteriore sviluppo delle idee fondamentali collegato naturalmente con tutte le altre commissioni tacquero di nuovo tutti ma questa volta con sollievo il conte può rispondere il generale stum von bordwer mentre tutti gli altri oratori prima di lui avevano parlato restando seduti ben sapeva e gli disse che al soldato in sala di consiglio è assegnata una parte modesta se dunque prendeva la parola non era per mescolarsi alle critiche insuperabili delle proposte presentate che erano tutte eccellenti intendeva tuttavia sottoporre a un benevolo esame il pensiero seguente la manifestazione ideata doveva agire verso l'esterno ma ciò che agisce verso l'esterno è la potenza di un popolo d'altronde la posizione dell'Austria nella famiglia dei popoli europei come aveva detto sua signoria era tale che una manifestazione di quel genere sarebbe stata tutt'altro che inutile l'idea dello stato è insomma l'idea della forza come dice Traitschke lo stato è la forza di sostenersi nella lotta dei popoli si toccava una piaga ben nota ricordando la situazione poco soddisfacente in cui si trovavano per l'indifferenza del parlamento ottuso la nostra artiglieria e la nostra marina e gli invitava quindi a considerare nel caso che non si trovasse quel fine ultimo che ancora mancava se non fosse opportuna una larga popolare partecipazione ai problemi dell'esercito e del suo armamento si vis pacem parabellum la forza che si spiega in tempo di pace tiene lontana la guerra o perlomeno la brevia e gli poteva dunque garantire che simili misure promuovono anche la conciliazione dei popoli e sono manifestazioni caratteristiche di una profonda volontà di pace in quel momento accadde nella sala qualcosa di strano la maggior parte dei convenuti aveva avuto sulle prime l'impressione che quel discorso non si confaceva all'impegno particolare della riunione ma via via che il generale si amplificava acusticamente sempre di più credettero di sentire il passo di marcia tranquillizzante di ben ordinati battaglioni impulso primitivo dell'azione parallela far meglio della prussia risorse timidamente come se una banda militare suonasse in lontananza la marcia del principe eugenio che va a combattere i turchi olinno dio salvi il nostro imperatore tuttavia se il conte Lannesdorf che però non ci pensava affatto si fosse alzato a proporre di mettere a capo della banda militare il fratello prussiano Artheim tutti avrebbero creduto nel vago stato di esaltazione in cui erano di sentir suonare invece l'inno tedesco salve tra i lauri della vittoria e non avrebbe trovato nulla da obiettare dietro il buco della serratura Rachel segnalò adesso parlano di guerra se alla fine dell'intervallo era tornata in anticamera ciò dipendeva dal fatto che Arnheim questa volta si era davvero portato appresso il suo soliman poiché il tempo si andava guastando il moretto aveva seguito il padrone con un sopravito quando Rachel gli aveva aperto lui l'aveva guardata con un'aria sfacciata perché era un vizioso monello berlinese che le donne pezzeggiavano in un modo in cui egli non sapeva ancora approfittare debitamente ma Rachel pensava che gli si dovesse parlare nel linguaggio dei negri e non l'era neanche venuto in mente di provare in tedesco poiché bisognava bene intendersi aveva risolutamente cinto col braccio le spalle del sedicenne se l'era condotto in cucina gli aveva dato una sezzola e gli aveva messo davanti tutti i dolci e le bevande che erano a portata di mano mai in vita sua aveva fatto una cosa simile e quando si scostò dalla tavola il cuore le batteva come pestarlo zucchero in un mortaio come si chiama signorina disse infine Soliman egli parlava tedesco Rachel aveva risposto Raquel ed era scappata via Soliman in cucina aveva fatto onore alle paste al vino ai tramezzini si era accesa una sigaretta e iniziò una conversazione con la cuoca Raquel quando ritornò dopo aver servito i rinfreschi ebbe un colpo al cuore disse di là stanno per prendere decisioni molto importanti ma Soliman se ne infischiava e la cuoca che era anziana rise può anche venirne fuori una guerra aveva soggiunto Raquel eccitata e rincarò al massimo con sua segnalazione di dietro la toppa che ormai erano arrivati al punto Soliman drizzò gli orecchi ci sono anche dei generali austriaci guardi lei disse Raquel uno c'era di sicuro e andarono insieme ad usciolare lo sguardo cadeva ora su un foglio bianco ora su un naso ogni tanto passava una grande ombra o scintillava un anello la visione si scomponeva infatti isolati si vedeva il panno verde stendersi come un prato una mano bianca appariva spaisata nel vuoto cerea come in un diorama e guardando di sbieco si poteva cogliere in un angolo lo scintillio della dragona d'oro del generale persino il viziato Soliman si mostrava scosso favolosa e inquietante la vita ingigantiva vista attraverso un'illusione e un foro di serratura la posizione curva faceva rombare il cuore negli orecchi e le voci al di là della porta ora rumoreggiavano come massi di roccia ora scivolavano come su assi insaponate Rachel si raddrizzò lentamente sentiva il suolo alzarsi sotto i suoi piedi e lo spirito del grande vento la rinserrava come se avesse messo il capo sotto uno di quei panni neri usati da incantatori e fotografi poi anche Soliman si rialzò e il sangue li discese vibrando dai loro cervelli il moretto sorrise e dietro le labbra azzurre splendettero le gengive scarlatte ma quell'istante trascorreva lento nell'anticamera come un suono di tromba fra i sopraviti appesi di personaggi influenti nella sala si prendevano le risoluzioni finali dopo che sua signoria ebbe caldamente ringraziato il generale per i preziosi suggerimenti dichiarando però che per il momento bisognava limitarsi a gettare le basi organizzative a tal uopo oltre l'adattamento del progetto alle esigenze mondiali secondo i vari punti di vista dei ministri occorreva votare ancora una risoluzione conclusiva la quale diceva che tutti i convenuti all'unanimità avevano deliberato appena il voto del popolo si fosse espresso attraverso la loro azione di sottoporlo a sua maestà con l'umilissima preghiera di voler benignamente disporre dei mezzi atti alla sua traduzione in pratica che nel frattempo sarebbero stati predisposti e procazzati questa risoluzione aveva il vantaggio di far sì che il popolo si proponesse spontaneamente ma per intercessione della sovrana volontà la meta riconosciuta più degna ed era stata formulata per desiderio speciale di sua signoria perché anche se si trattava soltanto di una questione di forma egli riteneva importante che il popolo non facesse nulla per conto proprio e senza il secondo fattore costituzionale neppure onorare il medesimo gli altri partecipanti non avrebbero guardato tanto per il sottile ma appunto perciò non ebbero nulla in contrario e che la seduta si cudesse con una risoluzione corrispondeva alle regole infatti sia che a una rissa si metta il punto finale col coltello o alla fine di un pezzo per pianoforte si piantino due o tre volte tutte le dieci dita nella tastiera o il ballerino si inchini davanti alla sua dama o si prenda all'unanimità una deliberazione ci si sentirebbe a disagio in questo modo se gli avvenimenti se la svegnassero alla buona senza assicurare ancora una volta come si deve di essere veramente avvenuti ed è proprio per questo che si usa così 44 tacito incontro di due vette solitarie tolta la seduta il dottor arnheim per suggerimento di diottima aveva discretamente manovrato in modo da restare l'ultimo il capodivisione Tuzzi avrebbe differito il suo ritorno per non rientrare sicuramente in casa prima della fine della seduta in quei momenti fra la partenza degli ospiti e il consolidamento della situazione durante il passaggio da una stanza all'altra interrotto da riflessioni dalla necessità di dare certi ordini e dall'irrequietezza che lascia dietro di sé un grande avvenimento arnheim sorridendo aveva seguito diottima con gli occhi diottima sentiva che la sua casa era tutta in un moto vibrante gli oggetti che per il grande evento avevano dovuto mutare luogo tornavano l'uno dopo l'altro al loro posto era come quando una grande ondata ritirandosi dalla riva scorre via dai numerevoli fossi e fossetti e mentre arnheim aspettava in signorile silenzio che lei e quel movimento intorno a lei ritornassero alla calma diottima si ricordò che seppur tanta gente aveva frequentato la sua casa mai prima d'ora un uomo era stato così familiarmente solo con lei da sentire il muto palpito della casa vuota tranne il capo di visione Tuzzi e all'improvviso il suo pudore fu turbato da una visione assolutamente inconsueta la casa deserta dove mancava anche il suo marito ne parve un paio di calzoni che arnheim avesse infilato simili immagini possono presentarsi come mostruosi parti della notte alla più casta delle creature e il sogno meraviglioso di un amore in cui corpo e anima fossero una cosa sola risplendette indiotima arnheim non ne aveva alcun sospetto la piega dei suoi calzoni era inappuntabilmente perpendicolare al pavimento lucido la sua finanziera la sua cravatta il suo volto distinto calmo sorridente non parlavano tanto erano perfetti veramente aveva avuto l'intenzione di fare qualche rimostranza adiotima per l'incidente occorso alla sua venuta e prendere le sue misure per l'avvenire ma in quel momento l'uomo avvetto a trattare da uguale con i magnati della finanza americana ricevuto da imperatori e da re il navabbo in grado di pagare ogni donna a peso d'oro era invece costretto da un certo non so che a fissare affascinato di otima che in verità si chiamava ermelinda anzi soltanto ermine tuzzi ed era semplicemente la moglie di un alto impiegato per questo non so che è gioco forza usare ancora una volta la parola anima è una parola già comparsa sovente ma non proprio nelle forme più chiare rappresentata ad esempio come ciò che il mondo contemporaneo ha perduto o che non si può conciliare con la civiltà come l'antitesi degli istinti materiali e delle abitudini coniugali come ciò che l'idea di un assassino esita non unicamente a sdegno come ciò che l'azione parallela deve affiancare come meditazione religiosa e contemplazio in caligine divina del conte Leinsdorf e come passione per le allegorie in molte persone eccetera eccetera di tutte le singolarità di questa parola anima la più notevole però è che i giovani non possono pronunziarla senza ridere perfino di ottime Arnheim si vergognavano di usarla senza associarla a un'altra perché si può ancora sostenere di avere un'anima generosa nobile vile ardita volgare ma dire la mia anima nuda e crudo è superiore alle nostre forze la frase è esclusivamente adatta alle persone anziane e se ne deduce l'ipotesi che con l'andare degli anni si faccia sempre più sentire qualcosa per cui occorre un nome e non lo si trova finché ci si decide con riluttanza finché ci si decide con riluttanza a servirsi di quello tanto a lungo rifiutato come dunque descriverla sia un bel dire ma l'essenziale non è quel che si ha davanti quel che si vede si ode si vuole si assalta si domina emerge come un orizzonte come un semicerchio ma gli estremi di questo semicerchio sono congiunti da una corda il cui piano passa attraverso il centro del mondo sul davanti ne sporgono fuori le mani e la faccia sentimenti e aspirazioni gli trascorrono innanzi e nessuno dubita che quel che ivi si fa sia sempre ragionevole o perlomeno appassionato vale a dire le condizioni esterne determinano le nostre azioni in un modo che è comprensibile ad ognuno oppure quando in balia della passione compaiono azioni incomprensibili anche questo alla sua maniera ma per intellegibile e coerente che tutto ciò appaia è pur sempre accompagnato dall'oscura sensazione che è soltanto una cosa a mezzo una metà c'è qualche difetto d'equilibrio e l'uomo si sposta in avanti per non barcollare come un funambolo e poiché procede negli anni e la vita vissuta rimane alle sue spalle ciò che ha già vissuto e ciò che ha ancora da vivere formano un muro e il suo cammino finisce per essere simile a quello di un tarlo nel legno che può contorzersi suo piacere e anche invertire la marcia ma lascia dietro a sé sempre lo spazio vuoto e da questa terribile sensazione di uno spazio cieco tagliato fuori al di là dello spazio colmo da questa metà che seguita a mancare quando tutto è già un intero si discerne finalmente ciò che si chiama anima si intende che la si pensa sente indovina in ogni tempo nelle più diverse varietà di surrogati e secondo la natura e il carattere in gioventù è un vago senso di dubbio se ciò che si fa sia veramente giusto in vecchiaia è stupore di aver fatto così poco di quel che ci si proponeva nell'età di mezzo è consolazione di essere un buon figuolo pieno di belle virtù anche se non tutto quel che si è fatto è giustificabile oppure di trovare che anche il mondo non è proprio come dovrebbe essere cosicché in fin dei conti tutto ciò che si è sbagliato costituisce ancora un buon accomodamento e finalmente non pochi pensano che al di là di tutto questo c'è sempre un dio il quale fa scivolare loro in tasca il pezzo mancante una posizione speciale è unicamente quella occupata dall'amore in tale caso che è un caso d'eccezione la seconda metà è in sopravvanzo l'essere amato perché si trovi proprio là dove di solito manca qualcosa le anime si congiungono per così dire dos a dos e così facendo si rendono superflue perciò la maggior parte della gente dopo il grande amore di gioventù non sente più la mancanza dell'anima sicché quella cosiddetta follia adempia un grato compito sociale né Diotima né Arnheim avevano mai amato di Diotima lo si sa già ma anche il grande finanziere possedeva un'anima casta in senso ampliato aveva sempre temuto che i sentimenti da lui destati in una donna potessero riguardare non lui ma il suo denaro e perciò praticava soltanto le donne alle quali lui pure dava denaro e non sentimenti non aveva mai avuto un amico perché aveva paura di essere sfruttato ma soltanto amici d'affari anche se la merce di scambio era di natura spirituale così era impregnato d'esperienza ma intatto e in pericolo di rimaner solo quando incontrò Diotima che il destino gli riservava le forze segrete che erano nei due si scontrarono tali cozzi si possono soltanto paragonare con il passaggio dei monsoni con la corrente del golfo con i moti sismici e vulcanici della crosta terrestre forze mostruosamente superiori a quelle umane affini alle stelle si misero in movimento dall'uno all'altro oltre ai confini dell'ora e del giorno fiumane immense in simili istanti non ha nessuna importanza quel che si dice sopra la piega dritta dei pantaloni il corpo di Arnheim pareva torreggiare nel divino isolamento di un gigantesco monte unita a lui dall'onda della valle gli stava di fronte Diotima irradiata di solitudine nella sua veste alla moda di allora che rivestiva gli omeri di piccoli palloncini dissimulava il seno sotto artistici drappeggi e sotto le ginocchia si restringeva intorno ai polpacci le perline delle portiere scintillavano come vasche di pesci le panoplie di lancia e di frezzi alle pareti irradiavano la loro pennuta e mortale passione e i volumi gialli di Kalman Levy sui tavolini tacevano come boschetti di limoni passiamo sotto reverente silenzio le prime parole scambiate idealità e morale sono i mezzi migliori per colmare gran buco che si chiama anima Anheim fu il primo a scuotersi dall'incantesimo non reputava possibile indugiare più a lungo in quello stato senza cadere in un vacuo ottuso placido ruminio o senza sorreggere raccolto fervore con una valida impalcatura di pensieri e di convincimenti che però non gli sarebbero stati del tutto consustanziali un mezzo che uccide l'anima ma poi ne fa tante piccole scatole di conserva per il pubblico consumo è sempre quello di mescolarla con la ragione con le convinzioni e con l'azione pratica ed è stato usato con successo da tutte le morali filosofie e religioni come abbiamo già detto Dio sa che cosa sia infine quest'anima non vi può essere dubbio che l'ardente desiderio di ascoltare lei sola non lasci d'avanzo un larghissimo margine una vera anarchia e abbiamo esempi di delitti addirittura commessi da anime per così dire chimicamente pure invece non appena un'anima ha un po' di morale di religione o di filosofia un'approfondita educazione borghese oppure degli ideali in materia di dovere e di bellezza ecco che le è donato un sistema di precetti clausole e istruzioni per l'uso che essa deve osservare prima ancora di potersi credere un'anima degna di nota e la sua massa incandescente come quella di un alto forno viene condotta attraverso un ben regolato sistema di crojuoli allora non rimangono sostanza che logici problemi di interpretazione per esempio se un'azione cada sotto questo o quel comandamento e l'anima offre il tranquillo spettacolo di un campo dopo la battaglia dove i morti giacciono immobili e si può vedere subito se ancora si agiti o gemma qua e là un residuo di vita perciò l'uomo affretta più che può il procedimento se lo tormentano crisi di fede come accade talvolta in gioventù passa tosto alla persecuzione degli infedeli se è l'amore che lo tortura lo trasforma in matrimonio e se è sopraffatto da qualche altro entusiasmo si sottrae all'impossibilità di vivere in permanenza nel fuoco incominciando a vivere per quel fuoco vale a dire riempie i molti momenti della sua giornata ciascuno dei quali esige un contenuto e uno sprone non con la sua condizione ideale ma con l'attività necessaria per la sua condizione ideale cioè con i molti mezzi ostacoli e incidenti che gli danno certissima garanzia di non conseguirlo mai perché solo i pazzi gli squilibrati e i maniaci possono resistere a lungo in mezzo al fuoco dell'entusiasmo l'uomo sano deve contentarsi di dichiarare che senza una scintilla di quel fuoco misterioso la vita non gli parrebbe degna ad essere vissuta l'esistenza di Arnheim era piena di attività era un uomo positivo e aveva ascoltato con un sorriso bonario e non senza comprensione per i bei principi sociali della vecchia Austria la proposta di fondare una cucina imperatore francesco giuseppe per la minestra dei poveri e il discorso sulla correlazione fra il senso del dovere e le musiche militari si guardava bene dal riderne come aveva fatto Ulrich perché era convinto che occorre molto meno coraggio e superiorità per seguire grandi pensieri che per trovare in quelle ben nate nature dozzinali e un po' ridicole il nocciolo commovente dell'idealismo ma quando Diotima quella statua classica con un tocco viennese ebbe pronunciato la frase un'Austria mondiale fra giroventi come una fiamma e umanamente quasi altrettanto incomprensibile il suo animo fu scosso di lui si raccontava una storia nella sua casa di Berlino egli possedeva una sala zeppa di sculture gotiche e barocche ora la chiesa cattolica ad Arnheim tanto cara suola raffigurare i suoi santi e vessilliferi in atteggiamento diastatico rapimento lì c'erano santi che morivano in tutte le posizioni e l'anima torceva il corpo come un capo di biancheria dal quale si strizza l'acqua le brazze incrociate come spalle e i codi arronciliati tolti dal loro vero ambiente e riuniti in una stanza estranea facevano pensare a una donata di catatonici in un manicomio la collezione era molto famosa e attirava in casa di Arnheim molti storici dell'arte con i quali con i quali gli conversava eruditamente ma sovente gli andava a sedersi tutto solo nella sua sala e allora la sua impressione era tutt'altra provava dentro di sé uno stupore simile a spavento come davanti a un mondo mezzo demente sentiva che in origine nella morale ardeva un fuoco ineffabile ma di cui ormai anche uno spirito come il suo non poteva quasi far altro che fissare le braci semispente questa oscura visione di ciò che tutte le religioni e mitologie esprimono quando narrano che le leggi sono state donate all'uomo dagli dèi nei primordi del mondo la vaga idea cioè di uno stato originario dell'anima che deve essere stato non del tutto irreprensibile e pur tuttavia gradito agli dèi formava allora uno strano margine di inquietudine intorno al suo pensiero uso altrimenti a spaziare orgogliosamente lontano e Arnheim aveva un giardiniere un uomo profondamente schietto diceva lui col quale si intratteneva sovente a parlare della vita dei fiori perché da un uomo così si impara molto di più che da uno scienziato finché un giorno si accorse che il giardiniere lo derubava diciamo pure che portava via con una specie di disperato accanimento tutto quello che poteva arraffare e metteva da parte il ricavato per farsi indipendente era l'unico pensiero che lo dominava giorno e notte ma una volta scomparve anche una statuetta e la polizia scoprì i fatti la sera quando venne informato della scoperta Arnheim fece chiamare l'uomo e per tutta la notte gli rimproverò gli sviamenti della sua maniaca avidità di guadagno si raccontava che lui pure fosse agitatissimo e di tanto in tanto gli venisse voglia di ritirarsi a piangere in una buia stanzetta attigua infatti invidiava quell'uomo per motivi che non sapeva spiegarsi e il mattino seguente lo consegnò alla polizia la storia era confermata da amici stretti di Arnheim or bene la sua disposizione d'animo era la stessa ora che rimasto solo in una stanza con Diotima sentiva qualcosa come le vampe silenziose del mondo fiammeggiare intorno alle quattro pareti 46 Arnheim in una sola persona è quel che sono tutti gli altri separatamente nelle settimane che seguirono il salotto di Diotima ebbe di nuovo una magnifica fioritura tutti accorrevano per sentire le ultime notizie dell'azione parallela e per vedere l'uomo nuovo che Diotima si diceva aveva conquistato un navabbo tedesco un ricchissimo ebreo un originale che scriveva poesie dettava il prezzo del carbone ed era intimo amico dell'imperatore di Germania non soltanto le dame e i gentili uomini appartenenti al mondo del conte Landstorff e alla diplomazia gremivano il salotto ma anche l'industria e l'intellettualità borghese erano più assidue di prima così si incontravano specialisti di lingua evve e compositori che non conoscevano una nota l'uno dell'altro direttori di fabbriche e direttori spirituali gente che alla parola corso pensavano al corso dei valori chi ha il corso degli astri e chi ha un corso universitario ma adesso succedeva una cosa mai vista prima era un uomo che sapeva parlare a ognuno nella sua lingua e quest'uomo era Arnheim ormai si teneva lontano dalle sedute ufficiali dopo la sgradevole esperienza della prima e non sempre partecipava ai ricevimenti perché spesso era fuori città della carica di segretario naturalmente non si era più parlato lui stesso aveva spiegato a Diotima che l'idea era inopportuna anche per lui e Diotima pur non potendo più guardare Ulrich senza considerarlo un usurpatore era sottomessa al giudizio di Arnheim questi andava e veniva 4 o 5 giorni trascorrevano come nulla ed egli ritornava da Parigi Roma Berlino le ore che passava accanto a Diotima non rappresentavano più una piccola porzione della sua vita ma era quella che preferiva e vi partecipava con tutto il suo essere che gli sapesse parlare di industria con i grandi industriali e di finanza con i banchieri era comprensibile ma era in grado di conversare con altrettanta competenza di fisica molecolare di misticismo o di tiro al piccione era un parlatore eccezionale quando incominciava non finiva più così come non si può terminare un libro prima di aver detto tutto quello che preme di dire ma il suo eloquio era calmo signorile scorrevole quasi un po' malinconico come un ruscello ombreggiato da cupici e spugli così che la sua loquacità appariva ineluttabile le sue letture e la sua memoria erano veramente di una vastità fenomenale egli poteva usare con gli scienziati le più precise espressioni tecniche della loro specialità ma conosceva altrettanto bene ogni persona importante dell'aristocrazia inglese francese o giapponese ed era a casa sua nei campi di corse e di golf non soltanto d'Europa ma anche d'Australia e d'America così persino i cacciatori di camosci i domatori di cavalli i mecenati dei teatri di corte che erano venuti per vedere un ricco ebreo stravagante lasciavano la casa di Diotima con un rispettoso crollar del capo un giorno sua signoria presa in disparte un ric e gli disse sa la aristocrazia degli ultimi cent'anni ha avuto una gran disdetta con i suoi precettori una volta erano persone che poi finivano quasi tutte nell'enciclopedia e questi mentori a loro volta introducevano nei nostri palazzi maestri di pittura e di musica i quali per gratitudine eseguivano opere di cui è costituita oggi la nostra vecchia cultura ma da quando ci sono scuole per tutti le persone del mio ceto mi scusi prendono una laurea i precettori non so come mai diventano mediocri la nostra gioventù fa benissimo a cavalcare cacciare il fagiano e il cinghiale corteggiare le belle donnine quando si è giovani non c'è niente di male ma una volta i precettori indirizzavano una parte di queste energie giovanili alla caccia dell'arte e della cultura oltre che dei fagiani oggi purtroppo non succede più simili idee frullavano ogni tanto per la mente di sua signoria d'improvviso si voltò del tutto verso Ulrich e concluse vede è stato quel funesto anno 48 che ha diviso la borghesia dalla nobiltà con danno di entrambi si guardò intorno preoccupato andava regolarmente in collera quando alla camera gli oratori dell'opposizione facevano sfoggio di cultura borghese e avrebbe voluto che la vera cultura borghese fosse prerogativa dei nobili ma quei poveri nobili non sapevano che farsene era un'arma per essi invisibile quella con cui venivano colpiti e poiché nel corso di quell'evoluzione avevano vie più perduto prestigio adesso venivano da Diotima per vedere un po' come stavano le cose talvolta il conte Leinsdorf osservando tutto quel movimento si sentiva il cuore stretto avrebbe deciderato che le possibilità che si offrivano in quella casa fossero prese più sul serio caro conte la borghesia ha oggi con gli intellettuali la stessa disdetta che l'alta nobiltà ebbe a suo tempo con i precettori tentò di confortarlo Ulrich essi la restano estranei guardi come stanno tutti a bocca aperta davanti a quel dottor Arnheim ma il conte Leinsdorf appunto ad Arnheim stava pensando d'altronde quella non è nemmeno più cultura continuò Ulrich è un fenomeno come l'arcobaleno che però si può acciuffare e palpare lui parla d'amore e di economia di chimica e di viaggi in canoa è uno scienziato un possidente e un borsista in una parola lui è in una persona sola quel che noi siamo separatamente e questo ci fa stupire lei scuote la testa ma io sono convinto che la nuvola del cosiddetto progresso a cui nessuno può guardare dentro la scodellato lì in mezzo a noi non ho scosso il capo per quello che dice lei rettificò sua signoria pensavo al dottor Arnheim tutto sommato bisogna ammettere che è una personalità interessante 47 i tre motivi della celebrità di Arnheim e il mistero del tutto ma tutto questo non era che l'impressione consueta prodotta dalla persona del dottor Arnheim egli era un uomo di grande formato la sua attività estendeva sui contenuti della terra come su quelli del sapere egli conosceva tutto i filosofi l'amministrazione statale la musica il mondo lo sport parlava correntemente cinque lingue gli artisti più famosi del mondo erano suoi amici ed egli comprava l'arte di domani in erba a prezzi non ancora saliti era sovente invitato alla corte imperiale e discorreva con gli operai possedeva una villa di stile ultramoderno riprodotta in tutte le riviste d'architettura e un vecchio castello cadente nelle lande dell'aristocratica marca di Brandeburgo che pareva proprio la culla imporrita dell'idea prussiana tanta versatilità e capacità d'assimilazione è raramente accompagnata da produttività propria ma anche in questo Armheim era un'eccezione una o due volte l'anno si ritirava in campagna e scriveva le esperienze della sua vita spirituale di quei saggi e memorie ne aveva già composto una bella serie ed erano ricercatissimi raggiungevano alte tirature ed erano tradotti in parecchie lingue infatti non si ha fiducia in un medico ammalato ma quel che ha da dire uno che ha saputo provvedere molto bene a se stesso deve contenere una certa dose di verità questo era il primo motivo della sua fama il secondo traeva origine dalla natura della scienza la scienza da noi è tenuta in alta considerazione e giustamente ma anche se riempie certamente tutta la vita quando uno si consideri per esempio allo stadio dell'attività renale ci sono pure momenti momenti umanistici vogliamo dire in cui si è costretti a ricordare il rapporto che esiste fra i reni e la nazione perciò in Germania si cita così sovente Goethe se un accademico vuol dar prova di possedere non soltanto l'erudizione ma anche uno spirito vivo dettamente proteso verso l'avvenire lo dimostra soprattutto col citare scritti la cui conoscenza non soltanto gli fa onore ma ancor più gliene promette come un titolo azionario che sale e in tali casi le citazioni tolte dai libri di Paul Ardheim godevano di un favore sempre crescente le scorribande che egli faceva nei vari campi scientifici per suffragare le sue opinioni generali non sempre contenevano in vero le più severe esigenze dimostravano sì la vastità delle letture di cui egli disponeva a menadito ma l'uomo del mestiere vi scopriva inesorabilmente quelle piccole inesattezze quegli abbagli che rivelavano il dilettante così come basta una cucitura per distinguere un abito fatto in casa da un altro eseguito in una vera sartoria tuttavia non bisogna credere che questo impedisse alla gente del mestiere di ammirare Arnheim sorridevano soddisfatti di sé e gli incuteva loro rispetto per la sua modernità perché tutti i giornali parlavano di lui perché era un re della finanza perché le sue opere paragonate alle opere spirituali dei re precedenti erano di certo superiori e dopo aver fatto notare che nel proprio campo essi avevano ben altra autorità e erano grati di avergliene data l'occasione e lo proclamavano un uomo d'ingegno una mente geniale o addirittura universale e che per gli specialisti è come per gli uomini dire di una donna che è una bellezza a giudizio delle altre donne la terza ragione della celebrità di Arnheim era la sapienza finanziaria non se la cavava male con quei vecchi esperti capitani se doveva concludere un grosso affare con loro metteva nel sacco anche i più agguerriti costoro però non lo stimavano granché come uomo d'affari e lo chiamavano il principe ereditario per distinguerlo da suo padre la cui lingua corta e spessa non sapeva discorrere fluentemente ma in compenso pregustava a gran distanza e dai segni più impercettibili il sapore di un affare questo essi temevano e rispettavano ma quando sentivano le esigenze filosofiche che il principe ereditario imponeva al loro mondo e che intrettava anche alle conversazioni più positive essi sorridevano egli era famoso perché nelle sedute dei consigli d'amministrazione citava i poeti e affermava che l'economia non si può distinguere da tutte le altre attività umane e che bisogna trattarla in correlazione con tutti gli altri problemi della vita nazionale spirituale e persino intima ed essi pur sorridendo di tali idee dovevano bene accorgersi che proprio con quelle divagazioni sugli affari interessava ogni giorno di più l'opinione pubblica oggi nella pagina finanziaria domani in quella politica o culturale dei grandi giornali si pubblicava ogni giorno una notizia che lo riguardava la recensione di un suo lavoro il commento di un suo discorso l'annunzio di una sua visita a un sovrano o a un circolo d'arte e ben presto nella cerchia silenziosa dei grandi imprenditori usi ad agire dietro uscichiusi a doppia mandata non ci fu nessun altro uomo di cui fuori si parlasse tanto come di lui non bisogna poi credere che i presidenti consiglieri d'amministrazione direttori generali e direttori di banche fonderie consorzi miniere società di navigazione siano per davvero così malvagi come vengono sovente rappresentati a prescindere dal loro senso sviluppatissimo della famiglia la ragione interiore della loro vita è il denaro e cioè una ragione provvista di ottimi denti e di uno stomaco sano erano tutti persuasi che il mondo sarebbe molto migliore se lo si abbandonasse al libero gioco della domanda e dell'offerta invece che alle corazzate alle baionette alle maestà ai diplomatici digiuni di scienze economiche ma poiché il mondo è com'è e per via di un vecchio pregiudizio una vita che serve prima al proprio vantaggio e poi di conseguenza al vantaggio di tutti è assai meno apprezzata che la cavalleria e il civismo e le cariche statali stanno su un piano morale più alto che quelle private erano gli ultimi a non tenerne conto e notoriamente approfittavano con vigore dei vantaggi che trattative doganali armate o truppe impiegate contro gli scioperanti offrono al bene pubblico per questa strada però gli affari portano alla filosofia perché oggidì solo i criminali osano nuocere al prossimo senza filosofia e così si abituarono a considerare Arnheim come una specie di nuzio apostolico delle loro faccende con tutta l'ironia che avevano in serbo per le loro inclinazioni erano ben lieti di possedere in lui un rappresentante che poteva difendere i loro interessi tanto a un raduno episcopale quanto a un congresso di sociologia e gli finì anzi per esercitare su di loro un influsso simile a quello di una moglie bella e colta che disdegna l'eterna attività commerciale del marito ma giova al negozio perché ammirata da tutti ora basta immaginare l'effetto della filosofia di Metternich o di Bergson applicata ai problemi del prezzo del carbone o della politica monopolistica per intendere in qual modo trionfante Arnheim Junior potesse agire ora a Parigi ora a Pietroburgo ora a Città del Capo su riunioni industriali e in uffici direttoriali quando vi compariva come invitato di suo padre e doveva essere ascoltato dal principio alla fine i risultati erano tanto imponenti quanto misteriosi e da tutto ciò era sorta la fama della superiorità dell'uomo e della sua mano felice la narrazione dei buoni successi di Arnheim potrebbe continuare potremmo parlare dei diplomatici che maneggiavano le questioni importanti ma a loro estrane e dell'economia con la cautela di uomini a cui è affidata la cura di un elefante un po' in fido mentre lui lo trattava con la confidenza del suo guardiano indigeno degli artisti ai quali egli dirado era utile ma che tuttavia avevano l'impressione di trovarsi davanti a un mecenate e infine dei giornalisti che anzi avrebbero diritto di essere menzionati per primi perché erano stati proprio costoro con plausi e incensamenti a far di Arheim un grand'uomo senza accorgersi del rapporto inverso perché era entrata loro una pulce nell'orecchio e credevano di sentir crescere l'erba del tempo l'aspetto fondamentale del suo successo era dappertutto il medesimo circondato dall'alone magico della sua ricchezza e dalla fama del suo ingegno egli doveva sempre praticare persone che nel proprio campo lo superavano ma si guadagnava la loro simpatia come profano con sorprendenti nozioni della loro specialità e li intimidiva rappresentando nella propria persona i rapporti del loro mondo con altri mondi di cui essi non avevano nessuna idea così era diventata sua natura agire in un ambiente di specialisti come un tutto un intero vagheggiava talvolta un'epoca vai mariana o fiorentina dell'industria del commercio l'egemonia di forti personalità sollecite di aumentare il benessere che fossero capaci di coordinare e guidare le diverse produzioni tecniche scientifiche e artistiche tale capacità egli la sentiva in se stesso possedeva il talento di non mostrarsi mai superiore nelle cose singole e dimostrabili e di venire sempre a galla in ogni situazione grazie a un equilibrio fluido e ad ogni istante automaticamente rinnovato e che è forse la qualità fondamentale dell'uomo politico ma Anheim era inoltre convinto che fosse un profondo mistero lo chiamava il mistero dell'insieme infatti anche la bellezza di una persona non consiste in qualcosa di singolo e di dimostrabile ma in quel magico insieme che si giova persino delle piccole bruttezze e allo stesso modo la bontà e l'amore la dignità e la grandezza di una creatura sono quasi indipendenti dalle sue azioni e sono esse in grado di nobilitare tutto ciò che essa fa il perché è un mistero ma nella vita d'insieme alla precedenza sui particolari dunque la piccola gente può ben essere fatta delle proprie virtù e difetti ma è il grand'uomo che conferisce alle proprie qualità il loro alto grado e se il segreto del suo successo sta nel fatto che questo non può essere spiegato da nessuno dei suoi meriti e caratteri proprio questa presenza di una forza che supera ciascuna delle singole manifestazioni è il segreto su cui posa tutto ciò che vi è di grande nella vita così l'aveva descritto Arnheim in uno dei suoi libri e mentre scriveva era quasi sembrato di afferrare per un lembo del mantello il soprannaturale illusione che traspariva dal testo 48 incipienti contrasti fra vecchia e nuova diplomazia in relazioni con persone la cui specialità era l'appartenenza all'aristocrazia non facevano eccezione a quella regola Arnheim smorzava la propria signorilità e si limitava così modestamente all'aristocrazia dello spirito consapevole dei propri limiti e privilegi che dopo un po' di tempo i portatori di nobilissimi nomi accanto a lui avevano l'aria di facchini con la schiena incurvata da quel grosso peso chi lo notò più acutamente fu di ottima e la riconobbe il mistero dell'insieme con l'intelligenza di un artista che vede avverato il sogno della sua vita in maniera da escludere ogni ritocco adesso era perfettamente riconciliata col suo salotto Arnheim l'aveva ammonita a non sovrastimare l'organizzazione esterna volgari interessi materiali avrebbero dominato l'intenzione pura e gli attribuiva maggior valore al salotto il capo di visione Tuzzi invece espresse il timore che per quella via non si sarebbe potuto superare il baratro dei discorsi aveva cavallato le gambe incrociandovi sopra le mani scarne brune fortemente venate con i suoi baffetti e i suoi occhi orientali pareva vicino ad Arnheim impettito e vestito irreprensibilmente di morbida stoffa scura un tagliaborse levantino accanto a un armatore di brema erano due grandezze opposte e quella austriaca che obbedendo ad un gusto molto composito si concedeva volentieri una punta di trascuratezza non si riteneva per nulla inferiore il capo di visione Tuzzi aveva un suo modo molto carino di informarsi dei progressi dell'azione parallela come se lui non dovesse sapere da sé e senza intermediari quel che succedeva in casa sua saremmo lieti di apprendere il più presto possibile quel che si progetta disse e guardò sua moglie e Arnheim con un amichevol sorriso che significava io in questo caso sono un estraneo poi riferì che l'opera di sua moglie del conte Langsdorf procurava già molte preoccupazioni al ministro degli esteri nell'ultimo colloquio con sua maestà il ministro aveva cercato di sapere quali manifestazioni in occasione del giubileo avrebbero potuto contare sulla augusta approvazione dell'imperatore e specialmente fino a quel punto era aggredito al grazioso monarca il progetto di promuovere un'azione internazionale per la pace precorrendo la marcia del tempo perché questo sarebbe stato il solo modo possibile dichiarò Tuzzi di dar forma politica all'idea concepita da sua signoria dell'universalità dell'Austria ma egli continuò sua maestà con la serena coscienza e il sovrano di serbo che erano noti in tutto il mondo aveva subito ribattuto energicamente in dialetto viennese uff non mi va di essere cacciato avanti e ora non si sapeva se si trattasse di una decisa opposizione sovrana oppure no intorno ai piccoli segreti della sua professione Tuzzi aveva la delicata indelicatezza dell'uomo che al tempo stesso sabè incustodire i segreti grossi finì col dire che le ambasciate avevano avuto l'incarico di sondare l'umore delle corti straniere poiché non si conosceva bene quello della corte austriaca e bisognava pur stabilire un punto fermo in fondo le possibilità erano molte dalla convocazione di una conferenza della pace a un convegno dei venti monarchi o all'arredamento della corte internazionale dell'AIA con grandi tele di artisti austriaci oppure alla fondazione di un istituto per i bimbi e gli orfani delle domestiche olandesi infine chiese qual era l'atteggiamento della corte di Prussia Anheim dichiarò di non esserne informato il cinismo austriaco non nauseava lui che sapeva chiacchierare con tanta eleganza in presenza di Tuzzi si sentiva bottonato come un uomo politico che intende far capire che quando si parla di affari di stato il tono ha da essere freddo e grave in tal guisa le due contrastanti signorilità stile governativo e stile di vita si fronteggiavano non senza rivalità davanti a Diotima ma mette un levriero accanto a un mastino un salice vicino a un pioppo un calice di cristallo su un campo arato un ritratto su una barca a vela insomma poni l'una accanto all'altra due forme di vita selezionate e caratteristiche ecco che fra di esse si scava un vuoto si annullano a vicenda diventano irrimediabilmente crudelmente ridicole Diotima lo sentiva negli occhi e negli orecchi senza capirlo e spaventata diede un'altra piega al discorso dichiarando con grande risolutezza al marito che lei con l'azione parallela intendeva in primo luogo ottenere un grande risultato spirituale e avrebbe accolto nella direzione del movimento solo le esigenze di uomini veramente moderni Anheim le fu riconoscente di aver restituito dignità all'idea appunto perché doveva da allora difendersi dall'impressione di colare a picco non desiderava scherzare con gli avvenimenti che giustificavano in gran parte i suoi incontri con Diotima come uno che stia per annegare non ha voglia di scherzare con il suo salvagente ma con suo stesso stupore si sentì domandare a Diotima non senza un dubbio nella voce chi intendesse dunque accogliere nel gruppo direttivo spirituale della grande azione naturalmente Diotima era ancora indecisa gli incontri con Anheim le avevano ispirato una tal folla di impulsi e di idee che non era arrivata a trarne risultati precisi Anheim le aveva detto e ripetuto bensì che non contava tanto il carattere democratico del comitato quanto la partecipazione di persone forti energiche larghe di mente Dai ascoltandolo pensava soltanto tu e io benché non fosse ancora una decisione e nemmeno un riconoscimento adesso era probabilmente proprio quello che il pessimismo nella voce di Anheim le ricordava perché dispose ma esiste poi ai nostri giorni qualcosa che si possa definire così grande e importante da volerlo avverare a tutti i costi questo è appunto il segno caratteristico di un tempo in cui si è perduta la sicurezza interiore delle epoche sane che ben di rado ne nascono cose capaci di assurgere a grande nobiltà e importanza osservò Anheim il capodivisione Tuzzi aveva abbassato gli occhi su un granello di polvere dei suoi calzoni così che il suo sorriso si poteva interpretare come un consenso insomma vediamo un po' che cosa potrebbe essere che cosa potrebbe essere continuò Anheim la religione questa volta il capodivisione sollevò il suo sorriso Anheim non aveva pronunziato la parola con l'enfasi e la risolutezza dell'altro giorno quando era portata ad orecchi di sua signoria ma pur sempre con sonora gravità di ottima protestando contro il sorriso del marito replicò e perché no anche la religione certo ma poiché si tratta di prendere una decisione pratica ha mai pensato di nominare un vescovo nel comitato che deve stabilire per l'azione patriottica un fine consono ai tempi Dio è tremendamente fuori moda non possiamo figurarselo in marsina col volto raso e una scriminatura impeccabile lo vediamo con l'aspetto e le vesti di un patriarca e che cosa c'è oltre la religione la nazione lo stato di ottima fu molto contenta perché tutti soleva considerare lo stato un argomento da uomini da non discutere in presenza di donne ora però tacque e sbatté soltanto gli occhi come per lasciare intendere che ci sarebbe stato parecchio da dire su quel tema la scienza riprese anahem la cultura rimane l'arte in verità toccherebbe ad essa rispecchiare l'unità della vita e il suo ordine interiore ma noi conosciamo il quadro che oggi essa ci offre anarchia generale estremismi incoerenti la nuova meccanizzata vita sociale e sentimentale ha già avuto la sua epopea per opera di Stendhal Balzac e Flaubert Dostoyevsky Streamberg e Freud hanno rivelato i demoni del subcosciente noi che viviamo oggi abbiamo la radicata sensazione che in tutto questo per noi non rimanga niente da fare qui il capodivisione Tuzzi dichiarò che lui quando voleva leggere qualcosa di solido prendeva Omero oppure Peter Rossegger Anheim raccolse l'osservazione avrebbe aggiunto la Bibbia con la Bibbia Omero Rossegger o Reuter si può fargliela ed eccoci al centro del problema supponiamo di avere un nuovo Omero e chiediamoci con estrema sincerità se saremmo davvero capaci di dargli ascolto io credo che dovremmo rispondere di no il nuovo Omero non c'è perché non ne abbiamo bisogno Anheim era ormai in sella e galoppava se ne avessimo bisogno ci sarebbe perché infine nella storia del mondo non accade nulla di negativo che cosa significa dunque che noi trasponiamo nel passato tutti i fatti più grandi ed essenziali Omero e Cristo non sono mai stati raggiunti e tantomeno solpassati non c'è nulla di più bello del cantico dei cantici il gotico e il rinascimento stanno innanzi al moderno come un paesaggio alpestre sovrasta una pianura dove si vedono ai nostri giorni grandi figure di condottieri come sembrano modeste oggi perfino le imprese di Napoleone in confronto a quelle dei faraoni l'opera di Kant è vicino a quella di Buddha la poesia di Goethe è vicino a quella di Omero ma infine noi viviamo e per qualcosa dobbiamo vivere dunque quali conseguenze bisogna trarne nessun'altra che questa qui però Arnheim si interruppe e assicurò che esitava a denunciarla perché l'unica conclusione possibile era che tutte le cose da noi ritenute grandi e importanti non hanno niente da fare con quello che è la forza intima della nostra vita e sarebbe chiese il capodivisione Tuzzi contro l'affermazione che si dà troppa importanza alla maggior parte delle cose non aveva nulla da eccepire nessuno può dirlo oggigiorno rispose Arnheim il problema della civiltà si può risolvere soltanto col cuore con l'apparire di una persona nuova con la vista interiore e la volontà pura la ragione non ha saputo far altro che indebolire il grande passato e ridurlo al liberalismo ma forse noi non vediamo abbastanza lontano e calcoliamo con misure troppo piccole ogni istante può essere quello di una svolta nella storia del mondo Giotima avrebbe voluto ribattere che allora non rimaneva più niente per l'azione parallela ma stranamente le oscure visioni di Arnheim l'affascinavano forse era ancora oppressa da un senso di dover imparare lezioni noiose quando le toccava leggere i libri più recenti e parlare dei quadri più nuovi il pessimismo infatto di arte la liberava da molte bellezze che in fondo non le piacevano affatto e in fatto di scienza attenuava la sua paura della civiltà delle cose che contano e che si devono sapere così il giudizio negativo di Arnheim sui tempi moderni fu per lei un sollievo subitamente sentito e le sorse in cuore il grato pensiero che la melanconia di Arnheim fosse in qualche modo collegata con lei altri sviluppi il capodivisione Tuzzi decide di venire in chiaro della persona di Arnheim Diotima aveva indovinato giusto dal momento in cui Arnheim si era accorto che il seno di quella meravigliosa donna che aveva letto i suoi libri sull'anima era sollevato e mosso da un potere inequivocabile era sentito invadere da un turbamento a lui finora ignoto a dirla breve con parole sue era il turbamento di un moralista che improvvisamente inaspettatamente trova il cielo sulla terra e se si vuole capire ciò che egli sentiva basta immaginare come sarebbe se intorno a noi non vi fosse null'altro che quella laguna azzurra e silente del cielo con bianchi ciuffi di nuvole natanti considerato per se stesso il moralista è un uomo buffo e sgradevole come insegna l'odore di quella povera gente rassegnata che non possede nulla al mondo tranne la propria morale la morale ha bisogno di alti compiti onde ritrarra importanza e significato e perciò Arnheim aveva sempre cercato il complemento della propria natura moraleggiante negli avvenimenti mondiali nella storia nell'interpretazione ideologica della propria attività era la sua idea favorita trasportare i pensieri nelle sfere del potere e trattare gli affari solo in connessione con i problemi dello spirito spesso e volentieri attingeva esempi dalla storia per riempirli di nuova vita la parte della finanza nell'epoca moderna gli pareva simile a quella della chiesa cattolica cioè un potere che agisce di dietro le quinte arrendevole e inarrendevole nelle sue relazioni con le autorità dominanti e talora paragonava la propria opera a quella di un cardinale questa volta però era partito piuttosto per capriccio e sebbene non solesse intraprendere senza qualche proposito nemmeno un viaggio di caprizzo non poteva tuttavia neanche ricordare come ne fosse sorto in lui il primo progetto progetto d'altronde impegnativo reggeva il suo corso qualcosa come un'ispirazione imprevista un subitaneo impulso e forse era per questa piccola circostanza di libertà che un viaggio di di porto a Bombay gli sarebbe parso meno esotico che il soggiorno nell'appartata metropoli austriaca dove era capitato l'idea assolutamente impensabile in Prussia di essere stato invitato a far parte dell'azione parallela aveva fatto il resto e lo aveva indotto a una disposizione d'animo fantasiosa e illogica come un sogno le cui contraddizioni non sfuggivano alla sua intelligenza pratica senza che questa tuttavia fosse in grado di spezzare l'incanto favoloso probabilmente avrebbe potuto ottenere il suo scopo con mezzi più semplici per strade dritte ma si considerava in un periodo di vacanza della ragione il suo genio degli affari lo puniva di quelle evasioni nel mondo delle fiabe stemperando in una generalità grigia il nero limite morale che egli aveva dovuto imporsi ma una così estesa contemplazione nel buio come quella volta in presenza di Tuzzi non ebbe luogo una seconda volta anche perché il capodivisione Tuzzi si faceva vedere solo di sfuggita e Arnheim doveva dividere le sue parole fra le più varie persone che in quel bel paese gli trovava straordinariamente ricettive davanti a sua signoria dichiarò infruttuosa la critica e ateo il presente lasciando ancora una volta a intendere che solo il cuore poteva riscattare l'uomo da un'esistenza così negativa e per Giotima soggiunse che solo la civilissima Germania meridionale sarebbe stata capace di liberare l'anima tedesca e quindi forse anche il mondo dagli eccessi del razionalismo e della smania di calcolare attorniato da signore parlò della necessità di organizzare la finezza dei sentimenti per salvare il mondo dalla gara degli armamenti e dalla mancanza di anima commentò in mezzo a un cerchio di uomini d'azione la sentenza di Hölderlin che in Germania non vi sono più uomini ma soltanto professioni e nessuno può bene operare nella propria professione se non ha il senso di una superiore unità meno di tutti il finanziere così egli concluse la sua dissertazione ma ascoltavano volentieri perché era bello che un uomo ricco di tanti pensieri fosse anche ricco di quattrini e il fatto che ognuno di quelli che gli parlavano se ne veniva via con l'impressione che un'impresa come l'azione parallela fosse una faccenda assai dubbia carica delle più insidiose contraddizioni spirituali rafforzava in tutti la convinzione che nessun altro sarebbe stato adatto come lui ad assumere il comando di quell'avventura ma in capodivisione Tuzzi non sarebbe stato senza parere uno dei principali diplomatici del suo paese se non si fosse accorto della penetrante presenza del dottor Hanheim in casa sua soltanto non sapeva che cosa pensarne tuttavia non lo mostrava perché un diplomatico non rivela mai i suoi pensieri quel forestiero gli era sommamente antipatico in sé ma anche diciamo così per principio e che avesse scelto manifestamente il salotto di sua moglie come campo d'operazioni per chissà quali misteriosi disegni gli appariva una provocazione non credette neanche per un attimo alle assicurazioni di Diotima che il Nabab visitasse così di frequente la città danubiana perché quel clima di antica cultura era il più confacente al suo spirito si trovava insomma davanti a un problema che non sapeva risolvere per mancanza di dati da che un uomo simile nelle sue relazioni d'ufficio non gli era mai capitato davanti e da quando Diotima gli aveva esposto il suo progetto di riservare ad Arnheim un posto direttivo nell'azione parallela e si era lagnata dell'opposizione di sua signoria Tuzzi era seriamente perplesso teneva in pochissimo conto tanto l'azione parallela che il conte Lansdorf ma aveva trovato così sorprendentemente privo di opportunità politica il ghiribito di sua moglie che in quel momento gli era parso di veder cadere come un castello di carte la lunga virile opera d'educazione che si lusingava ad aver compiuto e fra di sé il capo di visione Tuzzi si servì proprio di quell'immagine mentre di solito non si permetteva mai l'uso di similitudini perché sono troppo letterarie e sanno di cattivo comportamento in società ma questa volta era proprio scosso in seguito però Diotima con la testardaggine migliorò la propria posizione era diventata suavemente aggressiva e aveva parlato di una nuova specie di uomini che non possono più abbandonare passivamente ai tecnici la responsabilità spirituale dell'andamento del mondo poi aveva parlato della delicatezza femminile che può essere talvolta dono profetico e dirigere lo sguardo assai più lontano che il giornaliero lavoro professionale infine disse che Arnheim era un europeo e il suo ingegno era universalmente noto che in Europa gli affari di stato erano condotti con spirito troppo positivo e troppo poco internazionalista e che il mondo non avrebbe trovato pace finché non fosse vivificato da un soffio di cosmopolitismo austriaco così come sul suolo della monarchia la vecchia cultura austriaca braccia e sorregge i ceppi di lingue diverse non aveva mai osato contrastare tanto risolutamente con la superiorità del marito ma il capodivisione Tuzzi si sentì momentaneamente rassicurato perché non aveva mai preso le aspirazioni di sua moglie più sul serio che le questioni di Sartoria era felice che gli altri l'ammirassero e prese a considerare la faccenda con maggiore indulgenza come il caso di una donna amante dei bei colori che una volta tanto abbia scelto un nastro troppo sgargiante si accontentò di ripeterle con cortese gravità i motivi per cui il mondo maschile escludeva la possibilità di affidare a un prussiano la cura di interessi austriaci amice d'altronde che poteva essere vantaggioso stringere amicizia con un uomo così singolare e assicurò a Diotima che l'avrebbe frainteso le sue riserve se ne avesse concluso che non gli era gradito vederla il più sovente possibile in compagnia di Arnheim la di sé sperava che in tal modo gli si sarebbe presentata l'occasione di tendere un tranello all'intruso solo quando vide che Arnheim riportava trionfi dovunque tornò a dire che Diotima si mostrava troppo impegnata con quell'uomo ma dovette di nuovo sperimentare che il non rispettava più come un tempo la sua volontà lo contraddiceva e dichiarava che le sue preoccupazioni erano ubbie decise come uomo di non combattere contro la dialettica di una donna ma di aspettare l'ora in cui le sue previsioni avrebbero trionfato da sole ma ecco che fu sollecitato da una spinta violenta una notte infatti lo turbò qualcosa che pareva un pianto infinitamente lontano da principio si inquietò appena si chiese soltanto cos'era ma di minuto in minuto la distanza spirituale si accorciava un poco e a un tratto la minacciosa perturbazione fu proprio accanto al suo orecchio ed egli si destò così subitamente dal sonno che si levò a sedere di ottima di ottima giaceva sul fianco e non dava segno di vita ma egli in qualche modo sentì che era sveglia la chiamò piano per nome ripete l'appello e tentò con mano gentile di volgere verso di sé la candida spalla ma quando vi fu riuscito e il viso di lei apparve nel buio al di sopra della spalla ecco che di ottima lo guardava irritata con un'aria di sfida e si vedeva che aveva pianto intanto purtroppo il sonno prepotente aveva di nuovo sopraffatto tuzzi rovesciandolo giù sui cuscini e la faccia bianca di di ottima gli fluttuava davanti come una caricatura dolorosa che lui non capiva più che cosa succede prontorò con la fievole voce di basso dell'uomo maldesto e gli colpì l'orecchio una risposta corrucciata chiara sgradevole che piombò nella sua sonnolenza e vi rimase come una moneta lucente nell'acqua hai un sonno così agitato che è impossibile dormire accanto a te aveva detto di ottima brusca e dura e gli aveva udito ma con questo aveva già preso congedo dalla veglia senza poter approfondire il rimprovero sentiva soltanto che gli era stato fatto un grave torto dormire tranquillo contava secondo lui tra le virtù essenziali del diplomatico perché era condizione di ogni vittoria su quel punto non bisognava toccarlo ed egli si sentì gravemente offeso dalla censura di diottima capì che c'era in lei qualcosa di cambiato non gli passò per il capo nemmeno nel sonno di sospettare sua moglie di patente infedeltà tuttavia non ebbe il minimo dubbio che il dispiacere inflitto a lui personalmente non avesse un rapporto con Arnheim dormì rabbiosamente fino al mattino e si svegliò con la ferma risoluzione di far luce su quel fastidioso individuo 50 casa Fischel Leo Fischel della Lloyd Bank era quel direttore di banca o per essere esatti procuratore col titolo di direttore che per motivi inesplicabili aveva dimenticato di rispondere a un invito del conte Landstorff e dopo non era più stato invitato d'altronde anche quel primo invito era dovuto esclusivamente alle relazioni di sua moglie Clementine Clementine Fischel proveniva da una vecchia famiglia di funzionari suo padre era stato presidente della corte dei conti il nonno consigliere camerale e tre dei suoi fratelli rivestivano alte cariche in diversi ministeri 24 anni prima aveva sposato Leo per due ragioni primo perché le famiglie di alti funzionari hanno qualche volta più figliuoli che quattrini secondo per romanticismo perché in confronto con la parsimoniosa ristrettezza della casa paterna il lavoro bancario le era sembrato un'attività spregiudicata e adatta ai tempi e nel diciannovesimo secolo una persona estruita non giudicava il valore di un'altra persona dal fatto che se fosse israelita o cattolica anzi sembrava allora un segno di raffinata cultura elevarsi al di sopra dell'ingenuo pregiudizio antisemita della gente comune la poveretta dove sperimentare più tardi che in tutta l'Europa si levava lo spirito del nazionalismo e con esso un'ondata di aggressioni agli ebrei per cui ella si trovò fra le braccia invece di un uomo illuminato e stimato un essere deleterio disgregatore non autoctono da principio si era ribellata con tutto lo sdegno di un cuore magnanimo ma con l'ander degli anni l'ostilità ingenuamente crudele che sempre più dilagava piegò il suo orgoglio e il suo precidizio generale la intimidì ne accadde perfino nei contrasti sempre più violenti fra lei e il marito quando egli per cause che rifiutava di chiarire non oltrepassò il grado di procuratore e perso ogni probabilità di diventare veramente direttore di nome di fatto di ribattere alzando le spalle a certe parole che più la ferivano che il carattere di Leo non aveva nessuna affinità col suo sebbene di fronte agli estrane non rinegasse mai i principi della sua gioventù in fondo quei contrasti non erano altro che mancanza d'armonia come molti matrimoni viene a galla un'infelicità per così dire naturale appena gli sposi cessano di essere ciecamente felici da quando la carriera di Leo sarà incagliata in un ufficio digerente Clementi non poteva più scusare certe sue originalità col dire che lui non sedeva in un tranquillo ufficio ministeriale ma al terraio ronzante del tempo e chissà se non l'aveva sposato proprio per quel verso di Goethe le sue fedine sul viso rasato che una volta insieme agli occhiali troneggianti sul naso ricordavano un lord inglese con le basette ma adesso la facevano pensare a un agente di borsa e certi suoi modi di parlare e di gestire cominciarono a diventarle addirittura insopportabili nei primi tempi ella cercò di correggere ma si scontrò con enormi difficoltà perché si vide che in nessuna parte del mondo esistono regole per stabilire se un paio di basette facciano venire in mente un lord oppure un agente di cambio e se un paio d'occhiali abbiano sul naso un posto che accompagnato da gesti possa esprimere l'entusiasmo o invece il cinismo oltre a ciò Leo Fisher non era affatto un uomo disposto a lasciarsi migliorare le critiche intese a trasformarlo in un ideale in un ideale di bellezza cristiano germanico egli le dichiarò buffoneria mondane indegne di un uomo di buon senso e rifiutò di prenderle in considerazione perché quanto più sua moglie si scandalizzava di qualche particolare tanto più egli insisteva sulle grandi linee direttive della ragione così casa Fischel era diventata poco a poco il campo di battaglia di due opposte concezioni del mondo il direttore Fischel amava filosofare ma non più di dieci minuti al giorno mi piaceva riconoscere il fondamento razionale dell'esistenza umana credeva nella sua remuneratività morale che immaginava organizzata a somiglianza di una grande banca e ogni giorno apprendeva con soddisfazione i nuovi progressi annunciati dai giornali questa fede nelle incrollabili norme della ragione e del progresso mi aveva reso per molto tempo possibile di sbrigare con un'alzata di spalle o con una risposta secca i rimproveri di sua moglie ma poiché la sventura aveva voluto che nel corso di quel matrimonio gli umori del tempo si stornassero dalle antiche massime del liberalismo favorivoli a Leo Fischel dai grandi principi della libertà di pensiero della dignità umana e del libero scambio e che nei paesi dell'occidente la ragione e il progresso venissero spodestati da teorie razziali e da ciniche parole d'ordine nemmeno lui ne rimase immune sulle prime aveva negato sulle prime aveva negato recisamente quegli sviluppi giusto come il conte Lansdorf soleva negare certe deplorivoli manifestazioni di carattere pubblico aspettò che scomparissero da sé e quell'attesa è il primo grado appena percepibile della tortura della rabbia che la vita infligge agli uomini diretto giudizio il secondo grado si chiama di solito e così lo chiamava anche Fischel veleno il veleno è lo stil di cidio di nuove concezioni in morale in arte in politica nella famiglia nei giornali nei libri e negli scambi che è già accompagnato da un senso di impotenza davanti all'ineluttabile ed a indignate negazioni che non possono sottrarsi a un certo riconoscimento del fatto evidente ma al direttore Fischel non fu risparmiato neanche il terzo e ultimo grado in cui singoli acquazzoni e piovaschi di novità si sono riuniti in una pioggia durevole e col tempo questo diventa uno dei più spaventosi martiri che possa toccare a un uomo il quale dedichi alla filosofia soltanto dieci minuti al giorno Leo imparò in quante cose l'uomo possa avere opinioni diverse l'istinto di avere ragione un bisogno che è quasi sinonimo di dignità umana incominciò ad abbandonarsi in casa Fischel ad autentici eccessi attraverso i secoli quell'istinto ha prodotto migliaia di mirabili filosofie opere d'arte libri azioni e fazioni e se questo mirabile ma anche fanatico e mostruoso istinto nato insieme con la natura umana non ha che dieci minuti da dedicare alla filosofia della vita o alla discussione di problemi fondamentali della convivenza domestica è inevitabile che come una goccia di piombo fuso esploda in innumerevoli punti e aculei che possono cagionare ferite dolorosissime esplodeva alla domanda se si doveva o non si doveva licenziare una cameriera e se gli stuzzicadenti vanno messi sulla tavola oppure no ma in qualunque modo esplodesse aveva la proprietà di reintegrarsi subito in due concezioni della vita inesauribilmente ricche di particolari di giorno le cose non andavano troppo male perché il direttore Fischel era all'ufficio ma di notte era una creatura umana e questo aggravava enormemente i rapporti fra lui e Clementine tutte le cose oggi sono così complicate che un uomo in fondo può muoversi a suo agio solo su un terreno e per lui era quello delle cambiali e dei depositi ragion per cui di notte inclinava a una certa condiscendenza Clementine invece restava pungente e inflessibile perché era cresciuta nell'atmosfera uguale e coscienziosa di una famiglia di impiegati e per di più il suo orgoglio di classe non le concedeva di far camere separate per non impicciolire ancora più l'abitazione già insufficiente ma la stanza da letto in comune quando è buia mette l'uomo nella situazione di un attore che davanti a una platea invisibile debba recitare la parte simpatica ma già molto trita dell'eroe che incanta un leone irato da anni gli invisibili spettatori di Leo non avevano mai dato il minimo segno di consenso o di dissenso e bisogna pur dire che questo finisce per scuotere i nervi più saldi la mattina alla prima colazione che secondo una rispettabile tradizione facevano sempre insieme Clementine era intenerita come un cadavere congelato e Leo vibrava di risentimento perfino la loro figlia Gerda se ne accorgeva e piena d'orrore e di ripugnanza immaginava la vita coniugale come un combattimento di galli nelle tenebre notturne Gerda aveva 23 anni ed era l'oggetto preferito delle liti fra i suoi genitori Leo Fischel trovava che era ora di provvederle un buon marito Gerda però rispondeva sei antiquato caro papà aveva scelto i suoi amici in una turba di coetanei cristiano germanici che non avevano la minima probabilità di farsi una posizione ma in compenso disprezzavano il capitale e sdottoravano che mai un ebreo era stato capace di proporre un alto scopo all'umanità Leo Fischel li definiva balordi antisemiti e avrebbe voluto metterli alla porta ma Gerda diceva tu non capisci papà si tratta soltanto di simboli e Gerda era nervosa e anemica e si agitava talmente se non si lasciava con circospezione così Fischel tollerava quell'andirivieni come Ulisse aveva dovuto tollerare in casa sua i corteggiatori di Penelope perché Gerda era il raggio di sole nella sua vita ma non tollerava tacendo ma non tollerava tacendo perché tale non era la sua natura era convinto di sapere da sé che cosa fossero la morale e le idee sublimi e lo diceva ad ogni occasione per acquistare un benefico in flusso su Gerda e Gerda rispondeva ogni volta si avresti perfettamente ragione papà se al giorno d'oggi questo problema non dovesse essere considerato da un punto di vista completamente diverso dal tuo e che cosa faceva Clementin quando Gerda parlava così nulla taceva con l'aria compunta ma Leo poteva star sicuro che dietro alle sue spalle lei secondava la volontà di Gerda come se avesse saputo che cosa sono i simboli Leo Fischel aveva sempre avuto buone ragioni di credere che il suo cervello giudaico fosse superiore a quello di sua moglie e nulla lo rivoltava come vederla trarre vantaggio dalle pazzie di Gerda perché proprio lui tutto a un tratto non avrebbe più dovuto essere capace di ragionare modernamente quello era un partito preso ricordava allora quel che succedeva di notte non era più soltanto una denigrazione del suo onore glielo volevano strappare l'onore con le radici e tutto di notte l'uomo ha soltanto una camicia addosso e sotto c'è subito il carattere nulla lo protegge né le cognizioni né le abilità professionali si impegna tutta la propria persona e nient'altro perché dunque Clementin quando si parlava del pensiero cristiano germanico faceva una faccia come se lui fosse un selvaggio l'uomo è infine una creatura che sopporta i sospetti così poco come la carta velina sopporta la pioggia da quando Clementin non trovava più che Leo fosse bello lo trovava insopportabile e da quando Leo si sentiva sospettato da Clementin fiutava ad ogni passo una congiura in casa sua con tutto ciò Clementin e Leo come tutti quelli che se ne lasciano convincere dalla morale e dalla letteratura avevano il preconcetto di essere legati l'uno all'altro dalle loro passioni caratteri destini e azioni in realtà la vita è fatta invece per una buona metà non di azioni ma di teorie che si adottano per proprie di pareri e di contropareri e dell'impersonalità accumulata di ciò che si è udito e si sa la sorte di questi due coniugi dipendeva in massima parte da un torbido tenace e disordinato a cattastarsi di pensieri che non rappresentavano la loro opinione bensì l'opinione pubblica ed erano modificati con questa senza che essi vi si potessero opporre a paragone di tale dipendenza quella che li legava l'uno all'altro era una particella minuscola un residuo a sesso verchiamente valutato e mentre si convincevano di avere una vita privata e mettevano in dubbio reciprocamente la loro volontà e il loro carattere la difficoltà sciagurata era l'irrealtà di quel conflitto che si dissimulavano con tutti i sospetti possibili e immaginabili la disgrazia di Leo Fischel era di non saper giocare a carte e di non provare gusto a portare a spasso qualche bella ragazza affaticato dal suo lavoro egli soffriva invece di uno spiccato amore della famiglia mentre sua moglie che non aveva nient'altro da fare se non rappresentare giorno e notte il seno di quella famiglia non era più tratta in inganno da fantasie romantiche in materia talvolta Leo Fischel provava un senso di soffocazione qualcosa di indefinibile che lo assaliva da tutti i lati egli era un'alacre piccola cellula del corpo sociale che faceva con zelo il proprio dovere ma era errorata da succhi avvelenati e quantunque il suo fabbisogno di filosofia fosse già largamente coperto egli lasciato in asso dalla compagna della sua vita e incominciò da uomo che invecchiava e che non vedeva motivo di abbandonare la moda ragionevole della sua gioventù a sospettare la profonda nullità della vita spirituale la sua amorfa mutevolezza di forme la lenta ma incessante rivoluzione che fa ruotare ogni cosa con sé e in una di quelle mattine avendo la mente occupata da problemi di famiglia Fischel era dimenticato di rispondere alla lettera di sua signoria e per molte mattine seguenti dovette ascoltare le descrizioni degli avvenimenti svoltisi in casa Tuzzi intese a fargli rimpiangere di aver trascurato quell'occasione per introdurre Gerda nella migliore società Fischel stesso aveva la coscienza poco pulita perché anche il suo direttore generale e il governatore della banca di stato erano andate alla seduta ma come è noto si respingono i rimproveri tanto più violentemente quanto più ci si sente sospesi tra colpevolezza e incolpevolezza ogni volta però che Fischel con la superiorità dell'uomo che lavora cercava di burlarsi dell'azione patriottica gli spiegavano che un finanziere d'animo adeguato ai tempi come Paul Arnheim la pensava già in modo interamente diverso era incredibile tutto quello che Clementine e anche Gerda la quale altre volte sopponeva naturalmente ai desideri della madre erano riuscite a sapere intorno al nababbo e poiché anche in borsa si raccontavano di lui cose strane Fischel fu costretto in una posizione di difesa perché non si sentiva di far coro ma neppure di sostenere che non bisognava prendere sul serio un uomo con simili relazioni d'affari ma Fischel per stare sulla difensiva si fece opportunamente una contromina vale a dire oppose il silenzio più impenetrabile a tutte le allusioni riguardo a casa Tuzzi ad Arnheim all'azione parallela e alla propria defezione fece prendere informazioni sulla vita di Arnheim ed attese in segreto un avvenimento che rivelasse di colpo la vacuità dell'intera fazzenda e facesse precipitare le alte quotazioni da essa raggiunte in famiglia il capodivisione Tuzzi scopre un difetto nel funzionamento del suo ministero il capodivisione Tuzzi dopo aver deciso di vederci chiaro nella personalità di Arnheim ebbe presto la soddisfazione di scoprire una grave lacuna nell'organizzazione del ministero degli esteri e della casa imperiale oggetto delle sue sollecitudini non c'era personale in grado di affrontare un caso come quello di Arnheim lui Tuzzi di opere letterarie non conosceva oltre qualche libro di memorie che la Bibbia Omero e Roziger e se ne gloriava perché così evitava la dispersione ma che in tutto il ministero degli esteri non ci fosse un uomo che avesse letto un libro di Arnheim era senz'altro una lacuna il capodivisione Tuzzi aveva il diritto di far chiamare nel proprio ufficio gli altri funzionari con mansioni direttive ma il mattino dopo quella nottata funestata da pianti si era recato dal capo dell'ufficio stampa spinto dalla sensazione che non si poteva concedere piena dignità ufficiale a un motivo come quello che lo conduceva a cercare quel colloquio il capo dell'ufficio stampa ammirò il capodivisione Tuzzi per la quantità di particolari personali che questi conosceva intorno ad Arnheim convenne di avere già udito parecchie volte quel nome ma escluse subito di possedere nei suoi archivi incartamenti che lo riguardassero perché non ricordava che fosse mai stato oggetto di un rapporto ufficiale e l'elaborazione di quel materiale giornalistico non si estendeva come era ben comprensibile alla vita privata delle persone Tuzzi si affrettò a concedere che non poteva essere diversamente ma osservò che oggi era difficile stabilire il confine tra il significato pubblico e il significato privato di certi fatti e persone l'idea che il capo dell'ufficio stampa trovò molto acuta dopodiché i due capi sezioni convendero di trovarsi davanti a un interessante difetto del sistema quella mattina doveva essere tutto tranquillo in Europa perché i due capi divisioni fecero venire il direttore dell'ufficio e gli ordinarono di intestare un incartamento ad Arnheim dottor Paul anche se per ora sarebbe rimasto vuoto dopo il direttore dell'ufficio vennero chiamati i direttori dell'archivio dei documenti e dell'archivio dei ritagli di stampa i quali seppero rispondere a memoria fieri della propria valentia che nei loro registri il nome di Arnheim non figurava finalmente furono chiamati i pubblicisti che avevano la mansione di spogliare quotidianamente i giornali e di presentare i ritagli ai capi ed ebbero tutti l'aria di saperla lunga quando fu chiesto loro di Arnheim assicurarono che nei giornali era nominato spesso e con favore dei suoi iscritti però non seppero dire nulla perché la sua attività essi dichiararono non rientrava nel campo dei resoconti ufficiali il funzionamento perfetto del meccanismo ministeriale era dimostrato bastava premere un campanello e ciascuno degli impiegati uscì dalla stanza convinto di aver luminosamente dimostrato la sua capacità proprio come le avevo detto disse soddisfatto il capo dell'ufficio stampa rivolgendosi a Tuzzi nessuno ne sa niente i due capi avevano ascoltato il rapporto con un dignitoso sorriso sedevano quasi imbalsamanti dall'ambiente per l'eternità come mosche nell'ambra in sontuose poltrone di cuoio sul soffice tappeto rosso davanti ai tendaggi rossocupi che rivestivano le alte finestre della stanza bianca e oro arredata ai tempi di Maria Teresa e concordarono nel giudizio che quel difetto nel sistema da loro finalmente scoperto era difficilmente riparabile nell'ufficio stampa si vantò il capo del medesimo si registrano si registrano tutte le manifestazioni pubbliche ma il concetto di ciò che è pubblico bisogna pur tracciare un confine posso garantire che ogni interruzione lanciata quest'anno da un deputato in qualunque assemblea si ritrova entro dieci minuti registrata nei nostri archivi e ogni interruzione degli ultimi dieci anni purché riguardi la politica estera entro mezz'ora al massimo lo stesso posso dire di qualsiasi articolo di giornale i miei impiegati lavorano coscienziosamente ma queste sono manifestazioni tangibili per così dire responsabili e connesse con poteri concetti e relazioni stabilite e se io mi domando da un punto di vista puramente tecnico sotto quale denominazione l'impiegato che fa il catalogo o gli estratti dovrebbe registrare un saggio di un tale che scrive solo per sé beh di chi per esempio Tuzzi suggerì premurosamente il nome di uno degli scrittori più giovani che frequentavano il salotto di Diotima il capo dell'ufficio stampa lo guardò di sotto in su tardo e inquieto va bene diciamo di quello ma dov'è il confine fra ciò che si prende in considerazione e ciò che si lascia da parte ci sono state persino delle poesie politiche bisognerebbe forse tener conto di ogni versezzatore o soltanto degli autori del Burgtheater risero entrambi e poi come ricavarne esattamente quel che vogliono dire a quei tipi lì anche se fossero Schiller o Goethe si intende che c'è sempre un significato sublime ma in pratica si contraddicono ogni tre parole i due signori avevano finito per convincersi che correvano il pericolo di adoperarsi per qualcosa di impossibile prendendo la parola anche in quel senso mondano di ridicolo al quale i diplomatici sono sensibilissimi non si può ammettere al ministero tutto uno stato maggiore di critici letterali e teatrali disse Tuzzi ridendo ma d'altra parte se ci si pensa non si può negare che quella gente eserciti un influsso sulla formazione delle opinioni dominanti e per conseguenza anche sulla politica questo però non si fa in nessun ministero degli esteri del mondo obiettò il capo dell'ufficio stampa certo ma goccia goccia si scava la pietra secondo Tuzzi questa citazione esprimeva molto bene un preciso pericolo bisognerebbe pur tentare di organizzare qualcosa ma avrei molto da obiettare dichiarò l'altro anch'io naturalmente disse Tuzzi verso la fine del colloquio aveva una sensazione sgradevole come di sentirsi la lingua impastata e non sapeva distinguere se era una sciocchezza quello di cui aveva parlato o se non si sarebbe rivelato come una conseguenza della perspicacia per cui era famoso neanche il capo dell'ufficio stampa poteva risolvere il dubbio e perciò i due signori si ripromisero di discutere di nuovo la questione un altro giorno il capo dell'ufficio stampa diede ordine di acquistare per la biblioteca dell'ufficio tutte le opere di Arnheim affinché la faccenda avesse una conclusione e il capo di visione Tuzzi si recò alla sezione politica dove fece chiedere all'ambasciata di Berlino un rapporto confidenziale sulla persona di Arnheim era l'unica cosa che per il momento gli restasse da fare e prima che il rapporto giungesse non aveva più che sua moglie per informarlo di Arnheim cosa che ormai gli era assolutamente sgradevole ripensò al detto di Voltaire che gli uomini si servono delle parole per celare i loro pensieri e dei pensieri per giustificare le loro ingiustizie certo questa era sempre stata la diplomazia ma che un uomo parlasse e scrivesse tanto come Arnheim per nascondere dietro le parole le sue vere intenzioni lo inquietava come qualcosa di nuovo che bisognava scoprire 52 Moosbrugger cambia prigione Christian Moosbrugger l'assassino della prostituta appena i giornali ebbero smesso di pubblicare le cronache del suo processo venne identificato e la commozione del pubblico si volse verso altri oggetti solo un gruppo di periti continuò ad occuparsi di lui il suo difensore aveva presentato ricorso in Cassazione chiedendo una nuova perizia del suo stato mentale l'esecuzione era stata rimandata a tempo indeterminato e Moosbrugger venne trasferito in un'altra prigione le precauzioni usate per il trasporto lo lusingarono fucili carichi una scorta numerosa catene alle mani e ai piedi era oggetto di molte attenzioni avevano paura di lui e questo a Moosbrugger piaceva prima di salire nel carrozzone cellulare si guardò intorno in cerca d'ammirazione e godette delle occhiate stupite dei passanti il vento freddo che spazzava la strada giocò coi suoi ricci l'aria lo penetrò solo per due secondi poi una guardia lo spinse di dietro per farlo salire alla vettura Moosbrugger era vanitoso non gli piaceva essere spinto così ebbe paura che le guardie lo urtassero inveissero contro di lui o lo deridessero il gigante incatenato non osò guardare nessuno degli agenti e scivolò docilmente verso il fondo della vettura della morte però non aveva paura a questo mondo bisogna sopportare molte cose che certamente fanno più male del capestro e vivere un paio d'anni di più o di meno ha poca importanza l'orgoglio passivo di un uomo che è stato molto tempo in carcere gli vietava di temere il castigo ma ad ogni modo non era attaccato alla vita che cosa nella vita avrebbe potuto essergli caro forse il vento primaverile o le grandi strade di campagna o il sole sono cose che ti fanno sentire soltanto stanco polveroso e accaldato nessuno che le conosca veramente può amarle poter raccontare e a rintrattoria ho mangiato un ottimo arrosto di maiale pensava Mosbrugger questo sì era già qualcosa di più ma ormai bisognava rinunciarvi piuttosto gli avrebbe fatto piacere una soddisfazione della sua vanità che aveva sempre dovuto sopportare stupide offese dalle ruote attraverso la panca scosse diseguali si comunicavano al suo corpo di là della grata dello sportello il selciato fuggiva via i carri restavano indietro ogni tanto uomini e donne o bambini ondeggiavano obliqui dietro le sbarre una vettura di piazza comparve laggiù alle spalle crebbe venne innanzi sprizzò vita come l'incudine sprizza scintille le teste dei cavalli parve volessero entrare nello sportello poi lo strepito degli zoccoli e il fruscio morbido delle ruote gommate si persero dietro la parete moosbrugger voltò lentamente il capo e tornò a guardare il soffitto alla linea d'incontro con la parete laterale fuori il traffico rumorezzava mugiva era atteso come un telone sul quale passa ogni tanto l'ombra di qualche evento per moosbrugger quel tragitto era una distrazione del motivo si curava poco tra due tempi di prigione oscuri statici sfrecciava un quarto d'ora di opaca spuma bianca quello era stato sempre l'aspetto della sua libertà non particolarmente bello la faccenda dell'ultimo pranzo gli pensò il capellano della prigione il boia e il quarto d'ora prima che tutto sia finito non sarà mica tanto diversa verrà avanti anche quella sulle ruote dovrò sforzarmi di non essere sbalzato giù dalla panca non vedrò e non udrò granché in mezzo a un mucchio di gente affacendata la cosa migliore sarà che alla fine più nessuno vi romperà le scatole la superiorità di un uomo che si è liberato dal desiderio di vivere è grandissima moosbrugger si ricordò del commissario che gli aveva fatto il primo interrogatorio era un uomo distinto che parlava piano guardi il signor moosbrugger gli aveva detto le faccio soltanto questa preghiera non mi privi del successo e moosbrugger aveva risposto va bene se ci tiene tanto al successo scriviamo subito il verbale il giudice non ci voleva credere ma il commissario l'aveva confermato davanti alla corte se non vuole alleggerire spontaneamente la sua coscienza mi dì almeno questa soddisfazione personale la faccia per me il commissario aveva ripetuto la frase in tribunale persino il presidente sorrideva con benevolenza e moosbrugger si era alzato in piedi tutto il mio gradimento alla deposizione del signor commissario proclamò ad alta voce e aggiunse con un elegante inchino sebbene il signor commissario mi abbia congedato con le parole credo che non vi vedremo mai più ecco che invece l'onore e il piacere di rivedere oggi il signor commissario il sorriso d'intesa con se stesso illuminò il viso di moosbrugger ed egli dimenticò le guardie che gli sedevano di fronte sballottate anch'esse dai sobbalsi del carrozzone 53 a colloquio con Walter e Clarisse Ulrich si dimostra reazionario Clarisse disse a Ulrich bisogna fare qualcosa per moosbrugger quell'assassino è musicale Ulrich aveva fatto la visita che era stata impedita da quel suo arresto carico di conseguenze Clarisse gli si era aggrappata al risvolto della giacca Walter stava lì accanto con una faccia non del tutto sincera musicale che cosa intendi dire chiese Ulrich sorridendo Clarisse fece un viso vergognoso e allegro involontariamente commesse la vergogna le prorompesse da ogni tratto del volto ed ella per reprimerla dovesse imporsi un'espressione allegra si staccò da lui così disse adesso sei diventato un uomo influente non era sempre facile capirla l'inverno era già cominciato una volta e poi se n'era andato lì in periferia c'era ancora neve di stese bianche e fra mezzo come acqua oscura la terra nera il sole non dava tutto uniformemente Clarisse portava una giacca arancione e un berretto di lana turchina andarono a passeggio tutti e tre e Ulrich in mezzo a quella campagna sconvolta dal disgelo dovette spiegare a Clarisse gli scritti di Arnheim vi si trattavano le serie algebriche e gli anelli di Benzolo il materialismo storico e l'universalismo i pilastri di ponti l'evoluzione della musica lo spirito dell'automobilismo i 606 la teoria della relatività la teoria atomica di Bohr la saldatura autogena la flora dell'Himalaya la psicoanalisi la psicologia individuale quella sperimentale quella fisiologica quella sociale e tutte le altre conquiste che impediscono all'epoca da esse illustrata di produrre uomini veri buoni e normali ma nelle opere di Arnheim tutto questo era descritto in maniera molto rassicurante perché egli asseriva che tutto quel che non si capisce è semplicemente uno sviamento di forze intellettuali infruttuose mentre il vero è sempre la semplicità la dignità umana e l'attrazione verso le verità sovrumane a cui ognuno può attingere purché viva semplicemente e sia in armonia con le stelle oggi di molti sostengono teorie simili spiegò Ulrich ma quelle di Arnheim vengono credute perché ciascuno può immaginarselo come un uomo ricco e famoso che sa di certo quello che dice è stato sull'Himmalaia possiede parecchi automobili e quanto agli anelli di benzolo può portarne finché gli pare Clarisse volle sapere come erano gli anelli di benzolo mossa da una vaga reminiscenza di anelli di corniola sei deliziosa Clarisse dichiarò Ulrich che bisogno ha di sapere quelle stupidaggini di chimica la difese Walter ma poi si mise a difendere anche i libri di Arnheim che aveva letto non voleva affermare che Arnheim fosse il non plus ultra ma era il meglio che l'epoca presente avesse prodotto uno spirito nuovo scienza indiscutibilmente ma al tempo stesso molto al di sopra del sapere così trascorse la passeggiata il risultato fu che tutti avevano i piedi bagnati e il cervello in fiamme come se i sottili lamoscelli nudi luccicanti al sole si fossero loro conficcati come schegge negli occhi e tutti desideravano una tazza di caffè caldo e si sentivano smarriti la neve si scioglieva fumando dalle scarpe Clarisse era contenta che la stanza si insudiciasse e Walter continuava a stringere quelle sue forti labbra femmine perché voleva attaccare lite Ulrich narrò dell'azione parallela giunti ad Arnheim ricominciarono a discutere ora ti dico quel che mi urta di lui ripete Ulrich l'uomo scientifico è oggi una cosa inevitabile non si può non voler sapere e mai in nessuna epoca è stata così grande come oggi la diversità fra l'esperienza di uno specialista e quella di un profano basta vedere l'abilità di un massaggiatore o di un pianista oggi non si metterebbe più in lizza un cavallo senza un'adeguata preparazione solo nei problemi della vita umana ciascuno si crede ancora competente a prendere qualsiasi decisione e un vecchio pregiudizio afferma che uomo si nasce e si muore ma quando penso che 5.000 anni fa le donne scrivevano ai loro amanti le stesse identiche lettere di oggi non posso più leggere una di queste lettere senza chiedermi se non bisognerebbe cambiare Clarisse si dimostrò disposta al consenso Walter invece sorrise come un facchiero deciso a non batter ciglio mentre gli trafiggono le guance con uno spillone questo vuol dire in poche parole che tu fino a nuovo ordine ti rifiuti di essere uomo e gli commentò pressa poco ammetterlo ha uno spiacevole sapore di dilettantismo ma voglio fare anche un'altra ammissione riprese Ulrich dopo aver riflettuto un poco i specialisti non hanno mai finito di specializzarsi non soltanto non hanno finito oggi ma non possono neanche figurarsi il compimento della loro attività forse nemmeno lo desiderano come ci si può immaginare che l'uomo avrà ancora un'anima quando abbia imparato a capirla e a trattarla perfettamente sotto l'aspetto biologico e psicologico e tuttavia aspiriamo a quello stato ecco come la conoscenza è un atteggiamento una passione un atteggiamento illecito in fondo perché come la dipsomania l'erotismo e la violenza anche la smania di sapere foggia un carattere che non è equilibrato non è vero che il ricercatore insegue la verità è la verità che insegue il ricercatore egli la subisce il vero è vero e il fatto è reale senza curarsi di lui egli ne ha soltanto la passione è un dipsomone della realtà e questo foggia il suo carattere e non gliene importa un fico che dalle sue scoperte venga fuori qualcosa di completo di umano di perfetto di che che sia è una creatura piena di contraddizioni passiva e tuttavia straordinariamente energica e poi chiese Walter e poi cosa non vorrei mica dire che possiamo contentarcene io mi contenterei disse Ulrich tranquillo le nostre opinioni su quanto ci circonda ma anche su noi stessi cambiano tutti i giorni viviamo in un periodo di transizione forse se noi non affrontiamo meglio che fino ad ora i nostri compiti più profondi questo periodo durerà fino alla fine del mondo eppure quando si è messi nello stanzino buio non bisogna come i bambini mettersi a cantare per la paura fingere di sapere come dobbiamo comportarci qua giù è appunto cantare per la paura puoi sgolarti da far cadere il soffitto ma è paura e nient'altro d'altronde io sono persuaso che stiamo correndo al galoppo siamo ancora lontani dai traguardi essi non si avvicinano noi non li vediamo neanche sbarriremo ancora molte volte la strada e dovremo mutare i cavalli ma un giorno domani o fra duemila anni l'orizzonte comincerà a muoversi e ci verrà incontro con immenso fragore la stanza era in penombra nessuno può vedermi in faccia pensò Ulrich non so nemmeno io se sto mentendo aveva parlato come quando in un momento di incertezza si riassume il risultato di una certezza di decenni ricordò che quel sogno giovanile che stava comunicando a Walter si era svuotato da un pezzo era meglio non parlare più e allora ribatte Walter con la credine dovremmo rinunciare a cercare un senso nella vita Ulrich domandò perché mai gli occorresse un senso secondo lui poteva andare anche così Clarisse fece una risatina non per malignità ma la domanda le era sembrata tanto buffa Walter accece il lume non parendogli necessario che Ulrich godesse di fronte a Clarisse i vantaggi dell'uomo tenebroso una luce sgradevole e abbacinante li investì tutti e tre Ulrich riprese ostinato quello che ci occorre nella vita è la persuasione che le nostre faczende vanno meglio di quelle del vicino voglio dire i tuoi quadri la mia matematica la moglie il figlio di Tizio e di Caio tutto ciò che dà a un uomo la sicurezza di non essere assolutamente niente di straordinario ma che nel suo modo di non essere niente di straordinario egli può essere difficilmente uguagliato Walter non era ancora tornato alla sua seggiola era in lui un senso di eccitazione di trionfo gridò lo sai che cosa dici sei un vero austriaco ecco tu predichi la filosofia del governo austriaco tirare a campare forse non è cattiva come tu credi ribatte Ulrich il bisogno appassionato di precisione di rigore di bellezza può arrivare a far concludere che il tirare a campare va al meglio di tutti i conati dello spirito nuovo ti faccio i miei complimenti per aver scoperto la missione universale dell'austria Walter voleva ribattere ma l'impeto che l'aveva fatto balzar su dalla seggiola non era soltanto di trionfo era anche come dire in desiderio di andare fuori un momento esitava fra due desideri ma le due cose non si potevano abbinare e il suo sguardo si staccò dal viso di Ulrich muovendo verso la porta quando furono soli Clarisse esclamò quell'assassino è musicale cioè tacque e poi seguitò enigmaticamente non si può dire nulla ma tu devi fare qualcosa per lui e cosa devo fare? liberarlo tu sogni? non pensi mica davvero tutte quelle cose che dice a Walter? domandò Clarisse e i suoi occhi sembravano esitere una risposta di cui egli non poteva indovinare il contenuto non so che cosa tu voglia egli disse Clarisse fissava ostinatamente le sue labbra poi ripete devi fare lo stesso quello che ho detto e saresti trasformato Ulrich la scrutava non capiva bene forse non aveva afferrato qualche parola un paragone una similitudine che desse senso al suo dire era molto strana sentirla parlare così naturalmente senza quel senso come se si trattasse di una qualunque esperienza da lei fatta ma in quel momento rientrò Walter ti posso concedere incominciò l'interruzione aveva disacerbato il discorso tornò a sedersi sullo sgabello del pianoforte e contemplò soddisfatto le sue scarpe a cui erano attaccate zolle di terra pensò perché alle scarpe di Ulrich non si attacca la terra essa è l'ultima salvezza dell'uomo europeo Ulrich invece guardava le gambe di Walter sopra le scarpe erano rivestite di calze nere di cotone e avevano la forma non bella di gambe flosce di ragazza è molto apprezzabile che un uomo ai nostri tempi aspiri ancora ad essere completo ma che non è possibile opinò Ulrich prova a dare un'occhiata al giornale è assolutamente impenetrabile vi si parla di tante cose che non basterebbe il cervello di un Leibniz per capirle ma non ce ne accorgiamo nemmeno siamo diventati diversi non c'è più un uomo completo di fronte a un mondo completo ma un qualche cosa di umano che si muove in un comune liquido nutritivo giustissimo disse subito Walter non esiste più la cultura completa in senso ghettiano ma per questo motivo ogni pensiero ha oggi un pensiero opposto e ogni tendenza ha una tendenza contraria ogni azione e il suo rovescio trovano oggi nell'intelletto le più sottili ragioni perché si possono tanto difendere quanto condannare io non capisco come tu possa giustificare questo Ulrich alzò le spalle bisogna ritirarsi in solitudine disse Walter Piano si può vivere anche così replicò l'amico forse siamo sulla strada dello stato formicaio o di qualche altra divisione anticristiana del lavoro Ulrich pensò fra sé che si poteva ugualmente andare d'accordo come litigare sotto la cortesia il disprezzo traspariva chiaro come i bocconi ghiotti sotto la gelatina sapeva che anche le sue ultime parole dovevano irritare Walter ma provava l'acuto desiderio di parlare con una persona con la quale potesse sentirsi in perfetta armonia fra lui e Walter c'erano state un tempo colloqui così una forza segreta estrae allora le parole dall'anima e nessuna fallisce la mira ma se si parla con avversione esse salgono come nebbie da una superficie gelata guardò Walter senza rancore era sicuro che anche egli aveva l'impressione di deformarsi davanti a se stesso col procedere di quel dialogo ma che ne dava la colpa a lui tutto ciò che si pensa è simpatia o antipatia si disse Ulrich in quel momento ciò gli parve così giusto ed evidente che lo sentì come una costrizione fisica simile al vacillare con corde di due persone strettamente abbrazzate si volse a guardare Clarisse ma Clarisse da un pezzo non l'ascoltava più aveva preso in un certo momento il giornale che le stava davanti sul tavolo poi era andata scrutando in se stessa perché mai questo le desse un godimento così profondo sentiva davanti agli occhi l'assoluta impenetrabilità di cui Ulrich aveva parlato e il giornale fra le sue mani le braccia svolgevano l'oscurità e si aprivano da sole formavano col tronco del corpo i due bracci di una croce e ad essi era sospeso il giornale questo era il piacere che ella provava ma le parole per descriverlo non esistevano in lei ella sapeva soltanto che guardava il giornale senza leggerlo e le pareva che Ulrich fosse qualcosa di enigmaticamente barbarico una forza fine a lei stessa senza che le venisse in mente nulla di più preciso le sue labbra erano semiaperte come per un sorriso ma inconsapevolmente in una tensione stupefatta e distaccata Walter seguitò con voce smorzata hai ragione quando dici che oggi più nulla è serio ragionevole o anche soltanto trasparente ma perché non vuoi capire che la colpa è proprio del razionalismo dilagante che appesta ogni cosa in tutti i cervelli si è nidata la smania di diventare sempre più razionali di specializzare sempre più la vita e in pari tempo l'impossibilità di raffigurarsi che cosa sarà di noi quando giunteremo a conoscere suddividere tipizzare meccanizzare e regolare tutto così non si può andare avanti mio dio rispose Ulrich indolentemente il cristiano dell'epoca monastica doveva essere credente sebbene non potesse figurarsi che un paradiso con nuvole e arpe piuttosto noioso e noi abbiamo paura del paradiso della ragione che ci ricorda i banchi allineati i regoli e le orribili figure di gesso degli anni di scuola e ho il presentimento che tutto ciò avrà per conseguenza un'orgia sfrenata della fantasia soggiunse Walter sovra pensiero c'era in quella frase una piccola viltà e una piccola astuzia e gli pensava alla misteriosa irragionevolezza di Clarisse e mentre parlava della ragione che sbocca in eccessi pensava a Ulrich e altri due non se ne adessero conto e questo gli procurò il dolore e il trionfo dell'incompreso avrebbe dato qualunque cosa per pregare Ulrich di non mettere più piede in casa sua se questo fosse stato possibile senza provocare la ribellione di Clarisse così i due uomini guardarono Clarisse in silenzio Clarisse si accorse improvvisamente che non discutevano più si fregò gli occhi e ammiccò con affetto a Ulrich e Walter che inondati di luce gialla sedevano davanti alla finestra inazzurrata dal crepuscolo come in un armadio di vetro Musil Soliman e Arnheim l'assassino di Christian Mosbugger aveva però un'altra amica qualche settimana prima il quesito se egli fosse colpevole o vittima le aveva commosso il cuore come molti altri ed ella si era fatta un concetto un po' diverso da quello del tribunale il nome Christian Mosbugger le piaceva e le suggeriva l'immagine di un uomo alto solitario seduto presso un vecchio mulino coperto di muschio ad ascoltare il fragore dell'acqua era fermamente convinta che le accuse contro di lui sarebbero inaspettatamente cadute quando si trovava in cucina o in sala da pranzo a cucire le sembrava che Mosbugger scrollate via le sue catene le venisse accanto ed ella si abbandonava alle più folli fantasticherie in esse non era affatto escluso che Christian se lei e Raquel lo avesse conosciuto in tempo avrebbe rinunciato alla sua carriera ad assassino e sarebbe diventato un capo brigante di straordinario avvenire il povero uomo nella sua cella non la sapeva del cuore che curva sulla biancheria di Diotima batteva per lui non c'era molta distanza dalla casa del capo di visione Tuzzi alle carceri giudiziarie un'aquila sarebbe volata da un tetto all'altro con pochi colpi d'ala Mos vuol dire muschio e Brugger si riallaccia a bricche ponte ma per l'anima moderna che sorvola come se niente fosse oceani e continenti nulla è tanto impossibile quanto trovare contatto con le anime che abitano dietro la cantonata così anche le correnti magnetiche si erano disperse e da qualche tempo Raquel amava l'azione parallela invece di Mos Brugger anche quando nei saloni le cose non procedevano come avrebbero dovuto e le anticamere non mancavano mai gli avvenimenti appassionati Raquel che prima aveva sempre trovato il tempo di leggere i giornali che finivano in cucina non ci riusciva più da quando era diventata la piccola sentinella dell'azione parallela sempre di guardia dal mattino alla sera adorava Diotima il capodivisione Tuzzi sua signoria il conte Lansdorf il Nababbo e da che sarà accorta che incominciava ad avere una parte importante in casa anche Ulrich allo stesso modo un cane ama gli amici di casa con un solo affetto e tuttavia con odori diversi che rappresentano un cambiamento eccitante ma Raquel era intelligente di Ulrich per esempio che pì subito che era sempre un po' in contrasto con gli altri la sua fantasia la sua fantasia gli assegnava un compito particolare e non ancora definito nell'azione parallela egli la guardava sempre con simpatia e la piccola Raquel si accorgeva che la contemplava molto a lungo quando credeva di non essere visto era certa che volesse qualcosa da lei aspettava curiosa la sua personcina bianca si stirava voluttuosamente e dai begli occhi neri lo dardeggiavano piccole punte d'oro Ulrich sentiva il crepitio di quel piccolo corpo senza poterselo spiegare mentre lei si aggirava fra i pomposi mobili e visitatori e ne aveva anche qualche distrazione il suo posto nell'estimazione di Raquel era dovuto per non piccola parte a misteriosi discorsi di corridoio che avevano scosso la posizione preminente di Arnheim perché quel buomo sfolgorante aveva senza saperlo oltre a lui e a Tuzzi un terzo nemico nella persona del suo piccolo servo Soliman il moretto era la fibbia lucente della cintura magica che la zona parallela aveva stretto alla vita di Raquel un ometto buffo venuto al seguito del suo signore dal paese delle fiabe nella casa dove serviva Raquel e da lei accettato immediatamente come il personaggio a lei destinato in quel racconto di fate così voleva l'ordine sociale il nababbo era il sole e apparteneva ad Iotime Soliman toccava a Raquel ed era un frammento deliziosamente multicolore che il sole faceva brillare e che ella voleva per sé ma tale non era esattamente l'opinione del ragazzo sebbene piccolo di statura era già tra i 16 e i 17 anni ed era un essere pieno di romanticismo di malignità e di pretese personali Arnheim l'aveva tolto da una compagnia di ballerini nell'Italia meridionale e se l'era portato con sé quella creaturina che si dimenava stranamente con la malinconia del suo sguardo scimmiesco e aveva toccato il cuore e il nababbo decise di dischiudergli una vita più alta era il desiderio di un'intima fedele compagnia che sovente coglieva come una debolezza quel uomo solitario ma che egli di solito vinceva raddoppiando di attività e fino al 14esimo anno aveva trattato Solomon sbadatamente ed a uguale così come si allevavano un tempo nelle ricche dimore i fratelli di latte dei propri figli lasciandoli partecipare a tutti i giochi e i piaceri prima che venisse il momento in cui dovevano capire che il latte della madre contava meno che il latte della balia giorno e notte mentre il padrone era alla scrivania o in lunghi colloqui con illustri visitatori Solomon era rimasto accucciato ai suoi piedi dietro alle sue spalle o sulle sue ginocchia aveva letto Scott Shakespeare e Dumas quando trovava Scott Shakespeare e Dumas in giro per la stanza e aveva imparato a compitare sul lessico tascabile delle scienze spirituali mangiava le chicche del padrone e incominciò presto quando nessuno lo vedeva a fumare anche le sue sigarette un maestro veniva apposta per lui e gli impartì un po' irregolarmente a causa dei molti viaggi le nozioni elementari con tutto ciò Solomon si annoiava terribilmente e nulla gli piaceva quanto i lavori domestici ai quali gli era permesso partecipare perché quella era un'occupazione vera e da adulti che appagava il suo bisogno d'attività ma un giorno e non era trascorso molto tempo da allora il suo padrone l'aveva fatto chiamare e gli aveva dichiarato amabilmente che egli non aveva corrisposto del tutto alle sue aspettative che ormai non era più un bambino e su lui Arnheim cravava la responsabilità di fare del piccolo domestico un uomo a modo perciò aveva deciso di trattarlo d'ora in poi da quello che doveva essere in futuro in modo che ci si avvezzasse per tempo molti uomini giunti più tardi al successo soggiunse Arnheim avevano incominciato con lustra scarpe e lavare i piatti e in questo stava la loro forza perché l'essenziale era di fare fin da principio ogni cosa fino in fondo quell'ora in cui la indefinita creatura di lusso era diventato un servitore convitto e alloggio e un piccolo salario aveva cagionato nel cuore di Soliman una devastazione di cui Arnheim non ebbe alcun sospetto Soliman non aveva capito nulla delle spiegazioni di Arnheim ma le aveva indovinate con distinto e odiava il padrone per il cambiamento prodottosi nella sua vita non rinunciò nemmeno allora ai libri ai dolci alle sigarette ma mentre prima si prendeva semplicemente quel che gli faceva gola da allora in poi derubò Arnheim con piena coscienza e la sua sete di vendetta era così insaziabile che a volte fracassava nascondeva o buttava via degli oggetti che con meraviglia di Arnheim il quale oscuramente se ne ricordava non ricomparivano mai più mentre Soliman si vendicava così come un coboldo si dominava però perfettamente nello svolgimento delle sue mansioni e nella piacevolezza del contegno come prima egli era il cocco di tutte le cuoche fantesche cameriere d'albergo e visitatrici che lo viziavano con occhiate e sorrisi i monelli di strada lo guardavano ironici ma curiosi ed egli continuò a considerarsi un personaggio importante ed interessante benché conculcato anche il padrone gli donava ancora talvolta un'occhiata soddisfatta e lusingata o una parola amichevole e saggia tutti in generale lo lodavano come ragazzo pronto e servizievole e quando succedeva che Soliman poco prima si fosse caricato la coscienza di qualche misfatto particolarmente grave e gli assaporava con un sorriso premuroso la propria superiorità come un cubetto inghiottito di ghiaccio gelido ardente la fiducia del giovinetto Roquel se l'era conquistata nel momento stesso in cui gli aveva comunicato che in casa sua si stava probabilmente preparando la guerra ed allora le era toccato sentire da lui le più scandalose rivelazioni su Arnheim il suo idolo benché apatico e disgustato Soliman aveva una fantasia che pareva un cuscinetto di spilli irta di pugnali e di spade e in tutti i suoi racconti su Arnheim rimbombava galoppo di cavalli sagitavano fiaccole e scale di corda le confidò che non si chiamava affatto Soliman e le disse un nome lungo e strano pronunciato così in fretta che lei non riuscì a metterselo in mente più tardi le rivelò anche il suo segreto era figlio di un principe negro e l'avevano rubato da bambino al padre che possedeva migliaia guerrieri vitelli schiavi e pietre preziose Arnheim l'aveva comperato per rivenderlo poi al principe padre ad altissimo prezzo ma lui voleva fuggire e finora non l'aveva ancora fatto perché il paese di suo padre era tanto lontano Raquel non sarebbe stata così stupida da credere a queste storie ma invece ci credeva perché nell'azione parallela nessuna misura dell'incredibile le pareva troppo grande avrebbe anche voluto proibire a Soliman di denigrare Arnheim in quel modo ma dovette accontentarsi di opporre alla sua temerità una diffidenza mista a orrore perché la possibilità che il Navabo non fosse degno di fiducia prometteva nonostante i dubbi prodigiosi incombenti appassionanti complicazioni nell'azione parallela erano nuvole d'uragano dietro le quali l'uomo solitario presso il murino coperto di muschio scompariva e una luce livida si concentrava sulla faccetta scimmiesca e ghignante di Soliman 55 i comitati dell'azione parallela lavorano a lacremente Clarisse scrive a sua signoria e propone l'anno di Nietzsche a quel tempo Ulrich doveva andare da sua signoria due o tre volte la settimana aveva a disposizione una stanza alta slanciata incantevole anche come spazio in sé davanti alla finestra c'era una grande scrivania in stile Maria Teresa dalla parete pendeva un grosso quadro dove scintillavano cube certe chiazze rosse azzurre e gialle che raffiguravano cavalieri intenti a infilzare con le lance le parti molli di altri cavalieri giacenti a terra e la parete opposta era occupata da una signora solitaria le cui parti molli erano accuratamente protette da un corsaletto da vespa tra punto d'oro non si capiva perché l'avessero confinata lì tutta sola perché apparteneva evidentemente alla famiglia Langsdorf e il suo viso giovane incipriato somigliava a quello del conte come un orma nella neve asciutta somiglia a un orma nell'argilla bagnata del resto Ulrich aveva poche occasioni di contemplare il volto del conte dall'ultima seduta l'azione parallela era entrata in una fase di attività così intensa che sua signoria non poteva più consacrarsi ai sublimi pensieri ma doveva passare la giornata a leggere istanze a ricevere visitatori a concedere interviste e a recarsi in carrozza di qua e di là così aveva già conferito col presidente del consiglio con l'arcivescovo col cancelliere di corte e al senato aveva preso contatto con i membri dell'alta aristocrazia e dell'alta borghesia Ulrich non aveva partecipato a questi colloqui e sapeva soltanto che tutte le parti si aspettavano forti resistenze politiche dalle parti avverse cosicché ciascuna dichiarava che avrebbe potuto appoggiare tanto più energicamente l'azione parallela quanto meno vi avesse figurato e per il momento si faceva soltanto rappresentare da osservatori nei comitati di settimana in settimana quei comitati facevano tali progressi che era un piacere come era stato deciso nella seduta inaugurale avevano diviso il mondo in tante sezioni dai grandi punti di vista della religione dell'istruzione del commercio dell'agricoltura e via discorrendo e ogni comitato faceva parte un rappresentante del ministero relativo e i comitati tutti si dedicavano al loro compito di ricevere ciascuno di concerto con tutti gli altri i rappresentanti del popolo e delle corporazioni per accoglierne i desideri suggerimenti e le richieste e inoltre al comitato centrale in questo modo si sperava di far affluire al comitato centrale le principali forze morali del paese coordinate e riepilogate e se aveva già la soddisfazione di vedere aumentare il traffico epistolare i dispacci dei comitati e il comitato centrale poterano già dopo poco tempo richiamarsi a dispacci precedenti e aprirsi con una frase che diventava ogni volta più altisonante e incominciava con le parole in riferimento alla lettera numero tale del nostro ufficio e precedentemente alla lettera numero talaltro barra numero e qui seguiva un terzo numero e tutti quei numeri crescevano a ogni missiva erano già i segni di una sana crescenza e per di più anche le ambasciate cominciarono a mandare rapporti semi ufficiali sulle impressioni che la prova di forza del patriottismo austriaco andava producendo all'estero e gli ambasciatori stranieri cercavano già cautamente l'occasione di farsi dare ragguagli e i deputati fattissi attenti si informavano delle ulteriori intenzioni e l'iniziativa privata incominciò a manifestarsi con le lettere di ditte che si prendevano la libertà di sottoporre proposte oppure chiedevano un punto d'appoggio per collegare la loro casa al movimento patriottico c'era un apparato organizzativo e poiché c'era doveva lavorare e poiché lavorava si mise a correre e quando un'automobile comincia a correre su un vasto terreno anche se non c'è nessuno al volante percorrerà non pertanto un bel po' di strada che offrirà uno spettacolo singolare e persino impressionante si ebbe così un grande impulso in avanti e il conte Leinsdorf incominciò a sentirlo inforcava lo stringinaso e leggeva tutta la corrispondenza da cima a fondo con estrema gravità non erano più le proposte e desiderata di gente ignota e passionale che lo inondavano in principio prima che l'azione parallela fosse instradata su un binario regolare neanche se quelle richieste domande venivano dal seno del popolo erano però firmate da presidenti di società alpinistiche di leghe del libero pensiero congregazioni femminili circoli artigiani associazioni sportive club di cittadini e quegli altri goffi raggruppamenti che percorrono il trapasso dall'individualismo al collettivismo come i mucchietti di spazzature percorrono i turbini del vento e anche se sua signoria non sempre consentiva ciò che gli chiedevano vedeva nell'insieme un progresso considerevole si toglieva gli occhali restituiva la lettera al consigliere ministeriale o al segretario che gliel'aveva consegnata e approvava col capo soddisfatto senza pronunciar parola sentiva che l'azione parallela procedeva per una via buona e regolare e la strada vera si sarebbe trovata il consigliere ministeriale che riprendeva la lettera la deponeva di solito su un mucchio di altri scritti e finito quel lavoro guardava negli occhi sua signoria allora finalmente sua signoria parlava tutto questo va benissimo ma non possiamo dire né sì né no finché non sappiamo nulla di preciso intorno al punto essenziale dei nostri scopi questo però il consigliere ministeriale l'aveva già letto negli occhi di sua signoria a ogni scritto precedente ed era anche la sua personale opinione egli teneva in mano una matita d'oro con la quale aveva già scritto in calza ogni lettera la formula magica PROCR questa abbreviazione negli uffici di Cacania voleva dire procrastinato e cioè il linguaggio comprensibile da decidersi più tardi ed era un esempio di cautela per cui nulla si lascia perdere e nulla si precipita procrastinate venivano ad esempio le istanze dei piccoli impiegati per un soccorso straordinario alla moglie in puerperio finché il bambino era cresciuto e capace di guadagnarsi la vita da sé per il motivo che forse nel frattempo sarebbero state emanate leggi in proposito e il buon cuore dei superiori non voleva respingere previamente la domanda ma si procrastinava anche la richiesta di personaggi o uffici influenti che non si poteva offendere con un rifiuto pur sapendo che un altro ufficio influente si opponeva alla loro richiesta e per principio tutti i casi che si presentavano per la prima volta venivano procrastinati finché non si presentasse un caso analogo ma sarebbe male burlarsi di quelle consuetudini burocratiche perché fuori degli uffici si procrastina ancora di più com'è poco importante ad esempio che nei discorsi della corona i re ripetano sempre la promessa di combattere i turchi o i pagani quando si pensa che nella storia dell'umanità quando si pensa che nella storia dell'umanità non si è mai cancellata del tutto e neppure del tutto conclusa una frase perché risulta di tanto in tanto quel ritmo disordinato del progresso che somiglia straordinariamente a un bue con le ali e bisogna osservare che negli uffici almeno qualcosa si perde nel mondo invece non si perde mai nulla così la procrastinazione è una formula fondamentale dell'edificio della nostra vita ma quando a sua signoria qualcosa sembrava particolarmente urgente egli era costretto a scegliere un altro metodo in quei casi mandava innanzitutto la proposta a corte al suo amico il conte Stalburg con la domanda se si potesse prenderla in considerazione come provvisoriamente definitiva secondo l'espressione usata da lui dopo un po' di tempo aggiungeva regolarmente la risposta e su quel punto non si poteva trasmettere per il momento l'augusta volontà ma appariva invece opportuno lasciare che si formasse da sé un'opinione pubblica e secondo l'accoglienza da essa fatta alla proposta tenuto conto di altre esigenze che eventualmente potessero sorgere si sarebbe in seguito riesaminata la questione la pratica in cui la proposta si era ormai trasformata veniva quindi inoltrata al di castero di sua aspettanza e di là tornava indietro con l'annotazione che l'ufficio non si riteneva competente a prendere una decisione da solo dopo di che il conte Leinsdorf si prendeva nota di proporre una delle prossime sedute del comitato centrale che fosse costituita una sottocommissione interministeriale onde studiare il problema inesorabilmente fermo era soltanto nei casi in cui gli veniva sottoposto uno scritto che non portava la firma né del presidente di un circolo né di un'associazione religiosa scientifica o artistica riconosciuta dallo Stato giunse in quei giorni una lettera simile scritta da Clarisse in cui ella si richiamava Ulrich e suggeriva la proclamazione di un anno austriaco di celebrazioni nicciane chiedeva che in pari tempo si facesse qualcosa per l'assassino Moosbrugger questa proposta le era stata dettata dalla sua qualità di donna e dalla coincidenza che Nietzsche era malato di mente e Moosbrugger pure Ulrich fece fatica a mascherare la sua irritazione con uno scherzo quando il conte Langstorff dimostrò quella lettera di cui egli aveva già riconosciuto la calligrafia stranamente immatura ma intersecata da spessità di trasversali e da sottolineature energiche tuttavia il conte Langstorff avvedendoci del suo imbarazzo disse con bontà e gravità l'idea non è senza interesse ed è espressa con fuoco ed entusiasmo ma purtroppo queste proposte individuali dobbiamo metterle agli atti se no non si arriva ad alcun risultato poiché lei conosce personalmente la signora che ne è l'autrice vuol consegnare la lettera a sua cugina 56 entusiasmi Diotima fa strane esperienze sulla natura delle grandi idee Ulrich si mise in tasca una lettera per farla sparire d'altronde non sarebbe stato facile parlare con Diotima che da quando era uscito l'articolo sull'anno austriaco era in preda ad un disordinato entusiasmo non solamente Ulrich le portava tutti i documenti che gli passava il conte Lannisdorf ma anche la posta le recava giornalmente montagne di lettere e di ritagli di stampa i librai le mandavano pacchi di libri in visione il viavai in casa sua aumentava come il mare si gonfia quando il vento e la luna se lo succhiano d'accordo anche il telefono non taceva un momento e se la piccola Raquel non fosse stata all'apparecchio con lo zelo di un arcangelo dandole stessa la maggior parte dei raguagli Diotima sarebbe crollata sotto il peso di tali impegni quella crisi di nervi che non veniva mai e vibrava sempre nel suo corpo dava a Diotima una felicità che ella non conosceva ancora era un fremere un sentirsi tutta errorata di importanza uno screcchiolio come quello della pressione in una pietra posta al fastigio dell'edificio del mondo un formicolio come l'impressione del nulla quando si è sulla vetta di una montagna che sovrasta tutte le altre in una parola era il senso della posizione improvvisamente rivelatosi alla figlia di un modesto maestro e giovane moglie di un viceconsole borghese quale ella era sempre rimasta nonostante l'ascesa nella parte più fresca della sua natura questo senso della posizione è uno degli stati fondamentali benché inavvertiti dell'esistenza come il non accorgersi che la terra gira o che noi portiamo un contributo personale alle nostre percezioni l'uomo camminando sul terreno di una patria di una religione o di una tassa sulle entrate porta la maggior parte delle proprie vanità sotto i piedi perché gli hanno insegnato che non è lecito portarla nel cuore e mancanza di una posizione si accontenta pure cosa che è data a tutti di trovarsi sulla punta momentaneamente più alta della colonna del tempo sorgente dal nulla vale a dire di vivere proprio ora che tutti gli antecessori sono ridotti in polvere e i posteri non sono ancora nati ma se questa vanità che di solito è inconscia sale a un tratto per qualche motivo dai piedi alla testa può produrre una mite pazzia simile a quella delle vergini che credono di essere gravide del globo terrestre perfino il capodivisione Tuzzi faceva ora adiotima l'omaggio di chiederle come procedeva il movimento o la pregava talvolta di assumersi qualche piccola missione e allora il sorriso quel quale parlava di solito nel salotto cedeva luogo a una grave solennità si continuava a ignorare fino a quel punto la maestà graziosissima gradisse l'idea di mettersi alla testa di un'azione pacifista internazionale ma Tuzzi a questa possibilità associava sempre l'inquieta raccomandazione che Diotima non facesse il minimo passo nel campo della politica estera senza avergli prima chiesto il suo avviso anzi consigliò subito di badar bene quando l'azione per la pace si fosse veramente tradotta in realtà che non ne sorgessero complicazioni politiche non era affatto il caso e gli dichiarò alla consorte di respingere un'idea così bella nemmeno se c'era l'eventualità che si attuasse davvero bisognava però assolutamente mantenere aperte fin dal principio tutte le possibilità tanto di esecuzione quanto di ritirata riegò poi a Diotima le differenze tra una proposta di disarmo una conferenza della pace e un incontro di sovrani fin giù al mentovato arredamento del palazzo dell'Aia con grandi tele di pittori austriaci e non aveva mai parlato così seriamente con sua moglie a volte ritornava persino in stanza da letto con la busta dei documenti sotto il brazzo per completare le sue spiegazioni ad esempio si aveva dimenticato di aggiungere che secondo la sua opinione personale ogni attuazione del concetto austria universale era possibile soltanto in unione con un'iniziativa pacifista o umanitaria se non sarebbe stata una pericolosa incoscienza o peggio ancora Diotima rispondeva con un sorriso paziente mi sforzerò di tener conto dei tuoi desideri ma non devi esagerare l'importanza che può avere per noi la politica estera c'è nell'interno del paese un fermento liberatore che sale dall'anonima profondità del popolo e tu non sai quante suppliche e progetti mi giungano tutti i giorni era ammirevole perché senza lasciarlo scorgere doveva lottare con difficoltà imponenti nei dibattiti della commissione centrale composta dai vari rappresentanti della religione della giustizia dell'agricoltura dell'istruzione eccetera tutte le proposte del centro incontravano la gelida e timorosa riservatezza che Diotima aveva trovato nel marito quando l'attenzione di lui non s'era ancora destata e qualche volta l'impazienza le toglieva il coraggio ed ella non poteva nascondersi che quella resistenza del mondo inerte sarebbe stata difficile a spezzare mentre per lei l'anno dell'Austria era evidentemente l'anno dell'Austria universale e doveva erigere le nazioni austriache a modello di tutte le nazioni del mondo e a questo scopo bastava dimostrare che lo spirito aveva in Austria la sua vera patria altrettanto chiaro appariva che per i tardi cervelli occorreva ancora un contenuto speciale e l'integramento di un'idea che per la sua natura più ovvia che generale venisse incontro alla ragione e Diotima passava a lunghe ore a cercare in molti libri un'idea che avesse quei requisiti e si intende che doveva essere soprattutto un'idea simbolica e austriaca ma andava facendo curiose esperienze circa il carattere delle grandi idee salvedeva di vivere in una grande epoca perché essa pullulava di grandi idee ma non si può credere quanto è difficile tradurne in realtà la più grande e la più importante appena si andate tutte le condizioni necessarie meno una sapere qual è l'idea più grande e più importante ogni volta che Diotima s'era quasi decisa a una scelta doveva riconoscere che anche l'idea opposta era grande è così e lei non poteva farci nulla gli ideali hanno strane proprietà e fra le altre anche quella di trasformarsi nel contrario quando si vuol seguirli scrupolosamente c'erano ad esempio Tolstoi e Berta Sutner due scrittori pacifisti le cui idee erano allora quasi ugualmente famose ma come può l'uomo pensava Diotima senza la violenza procurarsi anche soltanto un pollo arrosto e che cosa fare dei soldati se come pretendono quei due non bisogna ammazzare resterebbero disoccupati i poveretti e per i delinquenti sarebbe una cuccagna ma circolavano già appelli di quel genere e si raccoglievano firme Diotima non avrebbe mai potuto figurarsi una vita senza verità eterne ma ora si accorgeva con stupore che ogni verità eterna è doppia o tripla perciò l'uomo di buonsenso che in questo caso era il capodivisione Tuzzi che in tal modo salvava in certa misura anche l'onore a una radicata diffidenza per le verità eterne non contesterà mai che esse siano indispensabili ma è persuaso che quelli che le prendono alla lettera sono pazzi secondo il suo giudizio che gli offriva soccorrevolmente alla moglie gli ideali umani contengono un eccesso di esigenze che condurrebbe alla rovina se non lo si prendesse poco sul serio fin da principio come prova migliore Tuzzi adduceva che negli uffici dove ti si occupa di cose serie parole come ideale e verità eterna non si sentono mai se a un impiegato venisse mai in mente di metterle in qualche documento gli si consiglierebbe subito di andare alla visita medica e di farsi dare un periodo di riposo ma Liotima pur ascoltando tristemente attingeva da quei momenti di debolezza nuove forze per immergersi nelle sue ricerche persino il conte Lansdorff si meravigliò di tanta energia spirituale quando trova finalmente il tempo di andarla a trovare la signoria aspicava un'iniziativa sorta dal cuore del popolo desiderava sinceramente conoscere la volontà popolare e purificarla con cauti interventi dall'alto perché non intendeva presentarla a suo tempo all'augusta maestà come un dono del bizantinismo ma come un segno di ravvedimento dei popoli trascinati nel vortice della democrazia Liotima sapeva che sua signoria restava attaccato al concetto imperatore della pace e a una splendida manifestazione della vera Austria pur non respingendo radicalmente l'idea dell'Austria universale in quanto essa esprimeva il sentimento di una famiglia di popoli schierata intorno al suo patriarca da quella famiglia però sua signoria escludeva sottomano e tacitamente la Prussia pur non trovando nulla da ridire sulla persona del dottor Arnheim che anzi aveva definito un uomo interessante non vogliamo nulla di patriotico in senso trito e gli ammoniva dobbiamo scuotere la nazione il mondo l'idea di celebrare un anno dell'Austria è bellissima e in fondo ho già detto anch'io ai giornalisti di guidare verso quell'obiettivo la fantasia del pubblico ma mai pensato mia cara se restiamo all'idea dell'anno dell'Austria cosa si debba fare in questo benedetto anno lo vede questo è il punto bisogna pure saperlo occorre influire un poco dall'alto se no gli elementi immaturi restano padroni del campo e io non trovo assolutamente il tempo di farmi venire delle idee Diotima vide che sua signoria era piena di cruci e rispose vivamente l'azione deve culminare in un gran simbolo oppure non si fa niente questo è certo deve commuovere il cuore del mondo ma anche bisogno di essere guidata dall'alto è incontestabile l'anno dell'Austria è un'idea ottima ma a parere mio l'anno universale è ancora meglio l'anno dell'Austria universale in cui lo spirito europeo vedrà nell'Austria la sua vera patria piano piano ammonì il conte Langsdorf che già molte volte sarà spaventato per la temeralietà della sua amica forse le sue idee sono ancora un po' troppo audaci Diotima lei lo ha già detto una volta ma non si può mai essere abbastanza cauti dunque che cosa ha immaginato di poter fare in questo anno dell'Austria ma con quella domanda il conte Langsdorf guidato dalla dirittura che improntava il suo pensiero aveva proprio toccato il punto più dolente in Diotima caro conte e la disse dopo qualche esitazione questa a cui lei mi chiede risposta è la più difficile domanda del mondo ho pensato di riunire al più presto possibile il fiorfiore del mondo intellettuale pensatori e poeti e aspetterò i suggerimenti che essi esprimeranno prima di pronunciarmi così va bene esclamò sua signoria tutta lieta del rinvio così va bene non si può mai essere troppo guardinghi se lei sapesse quel che mi tocca udire tutti i giorni l'azione parallela suscita esitazioni ma nella storia dell'umanità non vi sono volontari regressi una volta sua signoria ebbe anche il tempo di discorrere a lungo con Ulrich quel dottor mi fa poco a genio gli confidò certo è un uomo di grande intelligenza e posso capire è sua cugina ma insomma è un prussiano sta sempre lì a osservare sa quando ero bambino nel 65 mio padre aveva al castello di Hrudim un ospite per le partite di caccia che stava sempre lì anche lui come un testimonio e un anno dopo si scoprì che nessuno sapeva chi l'avesse introdotto in casa nostra e che era un generale dello stato maggiore prussiano con questo non voglio dire nulla di male ma non mi piace che Arnheim sappia tutto di noi signor conte disse Ulrich sono lieto che lei mi offra l'occasione di parlare francamente è ora di prendere qualche provvedimento io sto facendo certe esperienze che mi danno da pensare e che non sono adatte per un osservatore straniero l'azione parallela dovrebbe ispirare a tutti una gioconda commozione non è questo che si propone la signoria vostra eh sì naturalmente ma invece accade l'opposto esclamò Ulrich ho l'impressione che essa deprima e preoccupi visibilmente tutte le persone colte la signoria crollò il capo e girò un pollice intorno all'altro come faceva sempre quando il suo umore soscurava nella meditazione anche egli aveva fatto esperienze simili a quelle che Ulrich ora gli riferiva da quando si è saputo che io ho a che fare con l'azione parallela raccontò Ulrich non passo tre minuti con una persona che mi parla di argomenti generali senza che mi domandi ma che cosa vuoi concludere con questa azione parallela non ci sono più né grandi uomini né grandi opere ai giorni nostri già esclusi però loro stessi interruppe sua signoria conosco la musica la sento anch'io i grandi industriali se la prendono con la politica che non li favorisce abbastanza con le dogane protettive e i politici ce l'hanno con l'industria che non finanzia sufficientemente le elezioni giustissimo riprese Ulrich certamente i chirurghi credono che la chirurgia dai tempi di Bilrod abbia fatto progressi dicono soltanto che la medicina e tutte le scienze fisiche giovano troppo poco alla chirurgia e la vostra signoria me lo concede direi addirittura che anche i teologi sono persuagi che la teologia abbia in qualche modo progredito da Cristo in poi ma il conte Leinsdorf alzò una mano con illusiva indulgenza ebbene chiedo scusa se ho detto qualcosa di sconveniente avrai potuto astenermene giacché quello che ne vorrei concludere ha un significato generale i chirurghi dicevo sostengono che le ricerche fisiche non mantengono ciò che si può razionalmente pretendere da esse se invece si parla del presente con un fisico e gli si lamenta che gli piacerebbe alzare un po' lo sguardo dalle sue ricerche ma al teatro s'annoia e non trova un romanzo che lo diverta o lo stimoli se si parla con un poeta questo dichiara che non c'è più fede e se infine poiché voglio ora lasciare da parte i teologi si parla con un pittore si può scommettere che affermerà che in un'epoca così destituita di poesia e di filosofia la pittura non può dare il suo meglio l'ordine secondo il quale ciascuno si scarica sull'altro non è sempre lo stesso ma ricordo il gioco dell'uomo nero se vostra signoria lo conosce o del mercante in fiera e la regola a cui obbedisce o la legge non la posso scoprire in conclusione ho paura che ciascun uomo in particolare sia ancora abbastanza contento di sé ma in generale e per qualche motivo comune a tutti si sente a disagio nella sua pelle e sembra che la zona parallela abbia il compito di mettere in evidenza questo stato di cose santo cielo rispose sua signoria senza che si capisse bene quel che intendeva dire nient'altro che ingratitudine d'altra parte riprese Ulrich ho già due cartelle piene di proposte scritte di indole generale che non ho ancora avuto occasione di rimettere a vostra signoria a una delle due ho messo per sopra scritta ritorniamo a infatti un numero straordinario di persone ci comunica che il mondo una volta andava meglio di adesso e basta che la zona parallela lo riconduca a quel punto oltre alla naturale aspirazione del ritorno alla fede troviamo il ritorno al barocco al gotico alla natura a guete al diritto tedesco alla purezza dei costumi e a diverse altre cose già ma forse nel mazzo potrebbe esserci un pensiero giusto e non bisognerebbe scoraggiarlo opinò il conte o anche darsi ma come rispondere presa attentamente in esame la sua pregiata eccetera eccetera non riteniamo ancora giunto il momento oppure abbiamo letto con interesse e la preghiamo di inviarci particolari sul modo come desidera ripristinare il mondo in stile gotico barocco eccetera eccetera Ulrich sorrideva ma il conte Leinstorf trovò che in quel momento era un po' troppo frivolo e si dedicò a tutto a girare un pollice intorno all'altro con aria scostante la sua faccia colpizzo atteggiata a durezza ricordava l'epoca di Wallenstein e dopo un po' egli esternò un'opinione davvero degna di nota caro dottore e gli dichiarò nella storia dell'umanità non vi sono regressi volontari questa dichiarazione stupì in primo luogo il conte Leinstorf stesso che aveva voluto dire tutt'altra cosa era conservatore era irritato con Ulrich e intendeva osservare che la borghesia ha disdegnato lo spirito universale della chiesa cattolica e ora ne porta le conseguenze sarebbe anche stato ovvio magnificare i tempi del centralismo assoluto quando il mondo era governato secondo criteri unitari da persone consce della propria responsabilità ma un tratto mentre stava ancora cercando le parole sarei accorto che sarebbe stata veramente una brutta sorpresa svegliarsi un mattino senza bagno caldo e senza ferrovia e se invece dei giornali ci fosse stato soltanto un araldo dell'imperatore che passava a cavallo per le strade sicché il conte Leinstorf pensò quello che era una volta non sarà mai più allo stesso modo e mentre lo pensavano era molto stupito ammesso infatti che nella storia non vi siano regressi volontari l'umanità somiglia a un uomo spinto innanzi da un impulso misterioso e sinistro senza ritorno e senza meta e questa era una condizione molto curiosa ora sua signoria possedeva una straordinaria capacità di tener così ben divisi due pensieri contradditori da non lasciare che si incontrassero nella sua coscienza ma questo pensiero che era contrario a tutti i suoi principi gli avrebbe dovuto respingerlo tuttavia aveva preso in simpatia Ulrich e se i suoi impegni gliene lasciavano il tempo era felicissimo di delucidare con logica rigorosa certi argomenti politici a quel giovanotto vivace di mente e così ben raccomandato che però come borghese era un po' al di fuori delle questioni veramente vitali ma quando si incomincia con la logica in cui un pensiero risulta naturalmente del pensiero precedente non si sa mai dove si va a finire perciò il conte Leinstorf non ritrattò la sua dichiarazione e si limitò a guardar fissamente Ulrich in silenzio Ulrich prese l'altra cartella e approfittò del silenzio per consegnare tutte e due le cartelle a sua signoria questa l'ho dovuta intestare andiamo verso incominciò a spiegare ma sua signoria diede un balzo e disse che il suo tempo era aspirato lo pregò di rimandare il seguito a un'altra volta quando ci fosse più agio di riflettere del resto sua cugina darà proprio per questo un ricevimento alle persone di maggiore insegno e annunciò già in piedi ci vada anche lei ci vada mi raccomando io non so se mi sarà concesso di assistervi Ulrich si riprese le due cartelle e il conte Leinstorf si volse ancora nel vano scuro della porta è naturale che davanti a un grande assunto tutti si perdano d'animo ma li scuoteremo li scuoteremo il suo senso del dovere non gli permetteva di lasciare lì Ulrich senza alcun conforto 58 Moosbrugger medita intanto Moosbrugger era sistemato alla meglio nella sua nuova prigione appena chiusa la porta l'avevano investito con urli e male parole alle sue proteste si era sentito minacciare di botte e ben ricordava lo avevano segregato in una cella da solo quando lo portavano a prendere aria in cortile lo ammanettavano e gli occhi dei guardiani non lo lasciavano mai l'avevano rapato benché la sua condanna non fosse ancora convalidata con la scusa di misurarlo lo avevano strofinato con un sapone puzzolente sotto il pretesto di una disinfezione era un vecchio cliente lui sapeva che nulla di tutto ciò era permesso ma dietro il portone di ferro non è facile salvaguardare la propria dignità facevano di lui quel che volevano lui vuole essere condotto dal direttore e presentò le sue lagnanze il direttore dovette ammettere che certe cose non corrispondevano al regolamento ma non erano punizioni e gli spiegò erano precauzioni Mosfrugger protestò col cappellano delle carceri ma quegli era un buon vegliardo la cui affettuosa cura d'anime aveva l'inveterato difetto di venir meno davanti ai delitti sessuali e gli li aborriva con l'incomprensione di un corpo che non ne ha mai sfiorato nemmeno l'orlo ed era perfino sgomento che Mosfrugger con la sua aria onesta detestasse in lui la debolezza della pietà personale lo rinviò al medico dell'istituto mentre lui stesso come in tutti i casi del genere elevava semplicemente al creatore una gran supplica senza entrare in particolari e alludendo così in generale ai traviamenti della natura terrena che Mosfrugger vi risultava compreso insieme con gli eretici e i liberi pensatori il medico della prigione invece disse a Mosfrugger che tutte le cose di cui si lagnava non erano così gravi gli diede una buon aria manata sulle spalle e non si lasciò indurre in nessun modo ad ascoltare le sue lamentele perché se Mosfrugger aveva capito bene era tutto inutile finché la facoltà non avesse deciso se egli era un pazzo oppure un simulatore Mosfrugger si avvide con stizza che tutti costoro parlavano come gli faceva comodo e che appunto quel parlare dava loro la forza di far di lui quel che volevano ebbe il sentimento della gente semplice che bisognerebbe tagliare la lingua alle persone colte guardò la faccia sfregiata del dottore la faccia arida del sacerdote e la faccia osteramente gioviale del burocrate si vide guardato da tutte e tre in tre modi diversi e c'era in quei volti qualcosa di inaccessibile a lui ma ad essi comune che era stato per tutta la vita il suo nemico la forza coesiva che fuori comprime ogni uomo con la sua vanagloria in mezzo a tutt'altra carne era un po' allentata nella casa di pena dove la vita era tutta di attesa e il vivo rapporto reciproco degli uomini anche se rude e violento era diluito da un'ombra di realtà Mosfrugger reagì al rilassamento dopo la battaglia del processo con tutto il suo fisico robusto gli sembrava di essere un dente che si muove la pelle gli prudeva si sentiva contagiato e disfatto era una desolata ipersensibilità nervosa che lo coglieva talvolta la donna che era sottoterra e che lo aveva messo in quel guaio quando la paragonava con sé gli appariva come un pezzo di donna massiccia e cattiva di fronte a un bambino tuttavia Mosfrugger nel complesso non era scontento da molte cose si avvedeva di essere considerato lì dentro una persona importante e questo lo lusingava persino le provvidenze di cui tutti i detenuti fruivano indistintamente gli davano soddisfazione lo stato da quando avevano commesso una colpa doveva nutrirli vestirli tenerli puliti preoccuparsi del loro lavoro della loro salute farli cantare e fornirli di libri mentre prima non l'aveva mai fatto Mosfrugger godeva di quelle attenzioni anche se erano severe come un bambino che è riuscito a costringere la madre a occuparsi irosamente di lui ma non desiderava che durassero a lungo l'idea di averla condanna a morte commutata in ergastolo o di essere rinchiusa di nuovo in un manicomio suscitava in lui la ribellione che sentiamo quando tutti gli sforzi di evadere dalla nostra vita ci riconducono regolarmente nella vecchia odiata condizione di prima egli sapeva che il suo difensore aveva chiesto la revisione del processo e una nuova perizia medica ma si proponeva di opporvisi in tempo e di ottenere che lo uccidessero aveva stabilito che il suo addio al mondo doveva essere degno di lui perché tutta la sua vita era stata una lotta per il proprio diritto nella cellula di segregazione Mossbrugger cercò di definire che cos'era il suo diritto ma non sapeva dirlo ma era la cosa di cui era sempre stato defraudato per tutta la vita mentre lo pensava si sentiva gonfiare il cuore la sua lingua si inarcò e prese le mosse come un cavallo al passo spagnolo per accentuare solennemente l'idea il diritto pensò con estrema lentezza per definire il concetto e pensava come se stesse parlando con qualcuno il diritto non può essere dalla parte del torto , non è vero? e a un tratto gli balenò in mente il diritto è la giustizia era così il suo diritto era la sua giustizia guardò il suo letto di legno per sedervisi sopra si voltò goffamente tirò in vano il pancaccio avvitato al suolo e si calò giù esitando gli avevano negato giustizia ripensò alla padrona che aveva a sedici anni si era sognato di aver qualcosa di freddo sul ventre che poi gli era sparito in corpo aveva gridato era caduto dal letto e il mattino dopo si era sentito rotto per tutte le membra ora gli altri apprendisti gli avevano detto una volta che se si mostra il pugno a una donna facendo un poco sporgere il pollice fra l'indice e il medio quella è incapace di resistere dicevano tutti di averlo già provato lui era sotto sopra e a pensarci si sentiva andar via il terreno sotto i piedi oppure gli pareva che la testa non gli stesse sul collo al solito modo insomma gli succedeva qualcosa di non del tutto normale e di poco rassicurante padrona disse vorrei fare una bella cosa erano soli lei lo guardò negli occhi e dovette leggervi qualcosa perché disse fila via di qui allora egli tese verso di là il pugno col pollice che sporgeva ma la magia riuscì solo a mezzo la padrona si fece di porpora e gli sbatte in faccia il mestolo di legno che aveva in mano così pronta che lui non pote scansarsi e se ne accorse soltanto quando il sangue cominciò a colargli dalla bocca ma di quel momento si ricordava perfettamente perché il sangue gli fece un tuffo si rovesciò e gli salì agli occhi e gli si buttò sulla poderosa donna che lo aveva così atrociamente offeso il padrone accorse e quello che accadde poi fino al momento in cui si trovò sulla strada con le gambe molli e le sue robe gli furono scaraventate dietro era come veder lacerare brandelli un gran panno rosso così avevano beffeggiato e sprezzato il suo diritto ed egli riprese il vagabondaggio si trovava giustizia per le strade su tutte le donne aveva già diritto qualcun altro e sulle mele degli alberi e sui luoghi per dormire e i gendarmi e i giudici erano peggio dei cani ma che cos'era in fondo quella cosa per cui la gente lo agguantava e poi lo buttava in manicomi e prigioni Musprugger non era mai riuscito a spiegarselo chiaro fissava a lungo con sforzo gli angoli e il pavimento della sua cella era come un uomo al quale è caduta in terra una chiave e non poteva trovarla il pavimento e gli angoli ridiventavano netti e tranquilli nel grigiore del giorno dopo essere stati fino a un istante prima come un terreno di sogno dal quale scaturisce improvviso un oggetto o una persona se vi cade una parola Musprugger chiamava raccolta tutta la sua logica ma un ricordo preciso ce l'aveva soltanto di tutti i luoghi dove la cosa incominciava avrebbe potuto enumerarli e descriverli una volta era accaduto a Linz un'altra volta a Braila di mezzo erano passati anni e anni e per ultimo qui a Vienna vedeva ogni pietra davanti a sé chiara come le pietre di solito non sono ricordava anche il cattivo umore che accompagnava sempre la cosa come se invece di sangue nelle vene gli scorresse un veleno si sarebbe potuto dire o qualcosa di simile per esempio lui lavorava all'aperto le donne gli passavano accanto non voleva guardarle perché gli davan fastidio ma ne passavano sempre delle altre allora i suoi occhi incominciavano a seguirle con ribrezzo ed era proprio quel lento andirivieni degli occhi come rimestare di dentro una massa di pece o di cemento che si rappiglia poi si accorgeva che il pensare gli diveniva difficile il suo pensiero l'alzava ordinariamente lento le parole gli cagionavano fatica non ne trovava mai abbastanza e a volte quando parlava con qualcuno accadeva che l'interlocutore lo guardasse stupefatto senza capire quanto esprimeva una singola parola se Mossbrugger pronunciava lentamente e gli invidiava tutti gli uomini che avevano imparato fin da bambini a parlare con facilità a lui le parole si attaccavano come gomma al palato per dispetto proprio nei momenti in cui più ne aveva bisogno e qualche volta passava un'eternità prima che una sillaba si spicciasse e venisse fuori era logico concludere che ciò non poteva avere una causa naturale ma quando lui in tribunale diceva che erano i frammassoni o i gesuiti o i socialisti che lo perseguitavano in tal modo nessuno voleva capirlo gli avvocati è vero parlavano meglio di lui e gli facevano ogni sorta di obiezioni ma non avevano la minima idea di come si svolgessero veramente le cose dopo un po' di tempo che questo durava Mosbrugger ebbe paura provate a mettervi per istrada con le mani legate e a vedere che cosa fa la gente sapere che la sua lingua o qualcosa che stava ancora più giù era come attaccato con la colla gli dava un senso penoso di incertezza che egli si affannava a nascondere ma poi si trovava improvvisamente davanti a un confine netto e si potrebbe anche dire senza suono a un tratto si sentiva un soffio freddo oppure nell'aria compariva proprio davanti a lui una grossa palla e lo colpiva nel petto e nello stesso momento sentiva qualcosa in sé nei suoi occhi sulle sue labbra o nei muscoli del viso all'intorno tutto si cancellava sanneriva e mentre le case si posavano sugli alberi due o tre gatti guizzavano veloci fuori dai cespugli e sparivano durava solo un attimo e poi egli usciva da quello stato allora incominciava il periodo in cui tutti volevano sapere qualcosa e parlavano continuamente gli facevano le domande più assurde e purtroppo lui ricordava gli avvenimenti molto vagamente ne riteneva soltanto il senso perché quei periodi erano tutto senso certe volte duravano pochi minuti ma potevano anche persistere per intere giornate o magari tramutarsi in altri simili che andavano avanti per mesi per cominciare con questi ultimi perché erano i più semplici che secondo Mo Spruger perfino un giudice era in grado di capire egli udiva allora voci o musiche oppure soffi e ronzii o anche sibili e strepiti spari rimbombi risate richiami chiacchieri e sussurri venivano da tutte le parti erano nei muri nell'aria nei vestiti e nel suo corpo egli aveva l'impressione di portarseli in corpo finché tacevano e quando venivano fuori si nascondevano nelle vicinanze mai molto lontani da lui mentre lavorava le voci gli parlavano per lo più con parole staccate e frasi brevi lo ingiuliavano e lo criticavano e se pensava qualcosa lo esprimevano prima ancora di lui oppure dicevano perfidamente il contrario di quel che gli voleva mosbrugger scoppiava dal ridere all'idea che perciò volessero dichiararlo malato lui quelle voci e visioni non le trattava altrimenti che scimmie era un divertimento vedere e sentire quel che combinavano mille volte più bello che i tenaci grevi pensieri della sua mente se però lo stuzzicavano troppo andava in collera era ben naturale poiché era sempre stato molto attento alle parole usate per lui mosbrugger sapeva che ciò si chiamava avere delle allucinazioni e acconsentiva ad ammettere questo suo vantaggio sugli altri che non erano capaci egli vedeva infatti molte cose che gli altri non vedevano dai paesaggi animali mostruosi ma trovava molto esagerata l'importanza che davano a tutto ciò e quando il soggiorno e il manicomio gli diventava troppo sgradito dichiarava senz'altro che simulava i dottoroni gli chiedevano se sentiva molto rumore la domanda aveva poco senso naturalmente a volte era forte come il tuono quel che lui udiva e altre volte era appena un lievissimo mormorio anche i dolori che lo tormentavano ogni tanto potevano essere insopportabili o invece le zeri come un'immaginazione l'importante non stava in questo sovente egli non avrebbe saputo descrivere esattamente ciò che vedeva udiva e sentiva sapeva però che cos'era qualche volta era assai confuso le visioni venivano dall'esterno eppure un barlume di discernimento gli diceva pure che venivano tuttavia da lui stesso l'importante era che non importa affatto se le cose siano all'interno o all'esterno nel suo stato era come acqua limpida ai due lati di una trasparente parete di vetro e nei suoi grandi periodi Mosbrugger non badava alle voci e alle visioni ma pensava soltanto diceva così perché la parola gli aveva sempre fatto impressione pensava meglio degli altri perché pensava di dentro e di fuori qualcosa pensava dentro di lui contro la sua volontà e gli diceva che i pensieri gli venivano già fatti e senza che gli perdesse la sua lenta riflessività virile anche le più piccole inezze lo eccitavano come accade a una donna quando ha il latte nelle mammelle il suo pensiero fluiva allora come un ruscello abbevelato da cento sorgenti attraverso una grassa prateria Mosbrugger aveva abbandonato il capo sul petto e guardava il legno fra le sue dita qui la gente chiama lo scoiattolo gatto della querza nell'assa invece dicono volpe degli alberi un uomo che ha viaggiato queste cose le sa e poi gli psichiatri facevano tanto d'occhi quando mostravano a Mosbrugger l'immagine di uno scoiattolo e lui rispondeva questa è una volpe o forse una lepre ma può anche essere un gatto o altro allora gli domandavano in fretta quanto fa 14 più 14 e lui rispondeva con circospezione super giù da 28 a 40 quel super giù li metteva in una perplessità che divertiva molto Mosbrugger è tanto semplice lo sa anche lui che aggiungendo 14 a 14 si arriva a 28 ma chi ha detto che ci si debba fermare lì lo sguardo di Mosbrugger si spinge ancora più avanti come quello di un uomo che è giunto a una cresta di montagna stagliata sul cielo e ora vede che dietro a quella altre ancora ne sorgono e se un gatto della querza non è un gatto né una volpe né una lepre non è il caso di stare a sofisticare ha un po' di tutti e tre e si arrampica sugli alberi secondo l'esperienza e la convinzione di Mosbrugger non si poteva mai spiccare completamente una cosa dal resto perché tutto era interdipendente era già accaduto in vita sua di dire a una ragazza bocca di rosa ma all'improvviso la parola cedeva nelle cuciture e succedeva qualcosa di molto penoso il viso diventava grigio come la terra velata di nebbia e su un lungo gambo si protendeva una rosa allora la tentazione di prendere un coltello e di reciderla oppure di darle un colpo perché tornasse al suo posto in mezzo alla faccia era irresistibile certo Mosbrugger non impugnava subito il coltello lo faceva soltanto quando non poteva più venirne a capo in altro modo di solito gli ci voleva appunto tutta la sua forza gigantesca per tenere insieme il mondo quando era di buon umore poteva guardare in faccia un uomo e scorgervi il proprio viso come lo si vede tra i pesciolini e i sottolicchiari di un ruscello poco profondo ma quando si incupiva gli bastava dare un'occhiata a uno per riconoscere in lui l'uomo che dappertutto l'aveva attirato in una briga anche se adesso cercava di mutar volto che cosa gli volevano obiettare tutti litighiamo quasi sempre con lo stesso uomo se si volesse indagare chi sono gli individui con i quali attacchiamo così irragionevolmente lite si vedrebbe che è l'uomo per l'ingegno del quale noi abbiamo la chiave e in amore quanti sono che guardano dalla mattina alla sera lo stesso viso amato ma si chiudono gli occhi non sanno dire com'è o anche senza amore e senza odio a quali mutamenti sono sottoposte perpetuamente le cose a seconda dell'abitudine dell'umore e del punto di vista quante volte la gioia brucia e si consuma tutta non lasciando che un indistruttibile granello di malinconia quante volte un uomo colpisce a sangue freddo un altro ma potrebbe anche lasciarlo stare la vita si copre di una superficie che s'atteggia a dover essere giusto com'è ma sotto l'epidermi delle cose spingono e urgono Mossbrugger stava sempre coi piedi su due zolle e li teneva insieme ragionevolmente sforzandosi di evitare tutto ciò che poteva turbarlo ma qualche volta una parola gli prorompeva in bocca e quali rivoluzioni e quali sogni sbocciavano da una parola doppia spenta e raffreddata come gallo di roccia o labbra di rosa seduto sul pancaccio che gli serviva insieme di tavolo e di letto egli si dolse dell'educazione avuta che non gli aveva insegnato a esprimere debitamente le sue esperienze la ragazzetta con gli occhi da topo che ancora di sotterra gli procurava tanti fastidi gli faceva rabbia parteggiavano tutti per lei si alzò con fatica si sentiva fradicio come legno carbonizzato aveva di nuovo fame il vito carcerario era scarso per il colosso e lui non aveva denaro per migliorarlo in tali condizioni come poteva ricordare tutto ciò che volevano sapere da lui era stato uno di quei cambiamenti ecco per giornate per settimane così come viene il marzo o l'aprile e lì in vetta era poi accaduta la cosa lui stesso non ne sapeva niente di più di quanto era scritto nel verbale del commissariato e non sapeva neanche com'era arrivato fin là le cause le riflessioni di cui si ricordava le aveva già ripetute alle udienze ma quello che era accaduto in realtà gli appariva come se all'improvviso egli avesse detto fluentemente in una lingua straniera qualcosa che lo aveva reso molto felice ma che non riusciva più a ripetere purché tutto questo finisca il più presto possibile pensò Mossbrugger escursione nel regno logico morale per definire giuridicamente Mossbrugger bastava una frase Mossbrugger era uno di quei casi limiti che fuori della giurisprudenza e della medicina legale sono noti anche al profano come casi di diminuita capacità di intendere e di volere caratteristica di questi infelizi è che essi non hanno soltanto una salute da poco ma anche una malattia da poco la natura ha la strana mania di produrre in abbondanza tali individui natura non facit saltus la natura non fa salti ama le gradazioni e anche in scala più grande ama tenere il mondo in uno stato intermedio fra la sanità e l'idiozia ma la giurisprudenza non se ne dà per inteso essa dice non datur terzium sive medium interduo contraddictoria cioè l'uomo è capace di agire illegalmente o non lo è perché fra i due opposti non esiste un terzo ossia un medio per questa capacità egli diventa punibile per questa punibilità diventa persona giuridica e come tale partecipa il beneficio superpersonale dell'ajure chi non lo capisce subito pensi alla cavalleria se un cavallo a ogni tentativo di cavalcarlo si comporta da matto viene governato con cura speciale gli si danno i finimenti più morbidi i migliori cavalieri il foraggio più scelto e il trattamento più paziente se invece un cavaliere commette qualche mancanza lo si ficca in una gabbia piena di pulci lo si priva del mangiare e lo si ammanetta il motivo di questa differenza è che il cavallo appartiene soltanto al regno animale empirico mentre il dragone appartiene al mondo logico morale in questo senso l'uomo si distingue dalla bestia e possiamo aggiungere anche dall'alienato mentale per il fatto che secondo le sue qualità intellettuali e morali egli è capace di agire contro le leggi e di compiere crimini e poiché solo la punibilità è la qualità che fa di lui un uomo morale si capisce che il giurista deve attaccarvisi con ferrea tenacia purtroppo v'è anche il fatto che gli psichiatri legali i quali sarebbero competenti a opporvisi sono di solito molto più timorosi nella loro professione che i giuristi e si dichiarano veramente malate solo le persone che non sanno guarire il che è una modesta esagerazione perché non sanno guarire neanche le altre essi fanno distinzione fra malattie mentali inguaribili altre che con l'aiuto di dio dopo qualche tempo migliorano da sé e altre ancora che il medico non può guarire ma che il paziente potrebbe evitare posto che per una sorte provvidenziale agissero su di lui al momento giusto opportuni influssi e considerazioni il secondo e il terzo gruppo comprende quei malati di qualità inferiore che l'angelo della medicina tratta come infermi se si presentano a lui clienti privati ma che abbandona pavidamente all'angelo della giustizia se gli capitano fra i piedi nella pratica giudiziaria Mosbrugger era un caso così durante la sua vita onesta interrotta dai delitti di una sinistra ebrezza sanguinaria era stato ammesso e dimesso da infiniti manicomi e considerato paralitico paranoico epilettico e pazzo periodico prima che nell'ultimo processo due psichiatri particolarmente coscienziosi gli restituissero la sanità si intende che nella grande aula gremita non c'era una sola persona compresi due medici che non fosse convinta che Mosbrugger era in qualche modo ammalato ma non lo era in modo conforme alle condizioni poste dalla legge e accettabile da cervelli scrupolosi perché se si è parzialmente malati si è anche secondo l'opinione dei maestri del diritto parzialmente sani essendo parzialmente sani si è almeno in parte responsabili e se si è in parte responsabili si è responsabili del tutto perché l'irresponsabilità dicono loro è lo stato in cui l'individuo possiede la forza di determinarsi da sé a uno scopo preciso indipendentemente da ogni necessità coercitiva e una simile determinazione non la si può in paritempo avere e non avere ciò non esclude che vi siano persone le quali per le loro condizioni e disposizioni abbiano enormi difficoltà a reprimere gli istinti immorali e a trovare l'esito verso il bene e una persona di tal genere nella quale circostanze che altri non avvertirebbero neppure bastano a provocare la decisione di compiere un delitto era appunto Mohs Brugger ma in primo luogo le sue facoltà spirituali e mentali erano a parere del tribunale abbastanza intatte perché egli usandole avesse potuto evitare il delitto e per conseguenza non c'era ragione di togliergli il bene morale della responsabilità in secondo luogo una giustizia ben ordinata esige che venga punita ogni azione delittuosa compiuta coscientemente e volontariamente e in terzo luogo la logica dei giuristi presume che in tutti i malati di mente ad eccezione di quegli infelicissimi che tirano fuori la lingua quando si chiede a loro quanto fa sette per sette o che rispondono io se invitati a dire il nome di sua maestà imperiale e reale esista ancora sia pur ridotta al minimo la capacità di distinguere e di disporre di sé e che sarebbe bastato uno sforzo dell'intelligenza e della volontà per riconoscere il carattere delituoso del lato e resistere agli istinti criminali è proprio il meno che si possa chiedere a gente così pericolosa le corti di giustizia sono come cantine dove la saggezza degli avi sta chiusa in bottiglie si aprono le bottiglie e viene da piangere nel constatare com'è scipito il sommo e più fermentato grado dello sforzo umano verso la precisione prima di diventare perfetto e tuttavia certe persone non indurite se ne possono ubriacare è un fenomeno noto che l'angelo della medicina dopo aver ascoltato per un po' le dissertazioni dei giuristi dimentichi molto spesso la propria missione e gli ripiega allora le ali fruscianti e si comporta nelle aule dei tribunali come un angelo di complemento della giurisprudenza 60 l'ideale dei tre trattati ovvero l'utopia della vita esatta in tal modo Mosbrugger era arrivato alla condanna capitale e doveva soltanto all'autorità del conte Leinsdorf e alla sua simpatia per Ulrich la probabilità che il suo stato mentale venisse ripreso ancora una volta in esame Ulrich però non aveva allora la minima intenzione di preoccuparsi anche in seguito della sorte di Mosbrugger la scoraggiante miscela di crudeltà e sofferenza che è la stoffa di tali persone gli era tanto sgradevole quanto la miscela di sbadataggine e minuziosità che distingue i giudizi pronunciati contro di loro sapeva benissimo che cosa pensare di lui considerando obiettivamente il caso e quali misure si potevano tentare con quegli uomini che non sono adatti né alla prigione né alla libertà e per i quali anche i manicomi sono insufficienti ma sapeva anche che migliaia di altri uomini se ne rendevano conto e dibattevano instancabilmente questioni di quel genere volgendole verso i lati che più particolarmente li interessavano e che lo stato alla fine avrebbe ucciso Mosbrugger perché in questo stadio di incompiutezza è la cosa più chiara più sicura e più a buon mercato sarà una crudeltà a rassegnarvi sì ma anche i più veloci mezzi di locomozione fanno più vittime che tutte le tigri dell'India ed evidentemente la mentalità spietata incosciente e leggera con cui noi lo sopportiamo ci consente d'altronde innegabili successi questa disposizione dell'animo così occhiuta per ciò che è più vicino e così cieca per le cose nel loro insieme ha la sua più significativa espressione in un ideale che si potrebbe chiamare l'ideale dell'opera di una vita consistente in non più di tre tratterelli o monografie qui sono attività spirituali in cui non i grossi volumi ma i piccoli sagzi possono fare l'orgoglio di un uomo se qualcuno ad esempio scoprisse che le pietre in circostanze finora mai osservate sono capaci di parlare gli basterebbero poche pagine per descrivere e spiegare un fatto così sconvolgente sui buoni principi invece si possono sempre scrivere nuovi libri e questo non è soltanto un fatto di erudizione ma costituisce un metodo per non venire mai in chiaro dei più importanti problemi del vivere si potrebbero classificare le attività umane secondo il numero di parole di cui hanno bisogno più gliene occorrono e più c'è da pensare male del loro carattere tutte le cognizioni attraverso cui è passato il genere umano dalle vesti di pelli fino agli aeroplani riempirebbero insieme con le loro dimostrazioni allo stato definitivo tutt'al più di una bibliotechina portatile mentre una libreria grande come la terra non basterebbe ad accogliere tutto il resto senza parlare dell'ampia discussione che è stata condotta non con la penna ma con la spada e con le catene sorge spontaneo il pensiero che noi esercitiamo assai irrazionalmente il nostro mestiere di uomini se non lo pratichiamo secondo il metodo delle scienze che ci hanno dato un esempio così luminoso tale è stato in verità il clima e la disposizione di un'epoca durata un numero di anni nemmeno decenni che Ulrich in parte aveva ancora vissuto si pensava a quel tempo ma questo è andato volutamente impreciso non si può dire chi e quanti pensavano così però lo si sentiva nell'aria che forse si sarebbe potuto vivere esattamente oggi ci si chiederà che cosa vuol dire la risposta sarebbe che ci si può immaginare un'opera di vita consistente invece che in tre trattati in tre poesie oppure in tre azioni nelle quali la personale capacità di rendimento sia spinta al massimo grado sarebbe all'incirca come tacere quando non si ha niente da dire fare soltanto il necessario quando non si hanno compiti speciali da eseguire e questa è la cosa più importante restare insensibili quando non si ha l'indescrivibile senso di allargare le proprie capacità elevati in alto da un'ondata della creazione si osserverà che in tal modo si dovrebbe abolire la più gran parte della nostra vita psichica ma questo non sarebbe poi una perdita tanto deplorevole la tesi che un gran consumo di sapone dimostri una grande pulizia non è necessariamente valida per la morale dove è più giusta la nuova proposizione che una esagerata smania di lavarsi indica condizioni intime poco pulite sarebbe un esperimento interessante quello di limitare all'estremo il consumo di morale di qualunque tipo essa sia che accompagna ogni nostro operare e accontentarsi di essere morali solo nei casi eccezionali quando è consigliabile ma in tutti gli altri casi considerare il proprio operare come la necessaria standardizzazione di viti e matite e niente più è vero che allora non succederebbe più molto di buono ma qualcosa di migliore non resterebbe nessun talento ma soltanto il genio scomparirebbero dal quadro della vita le insipide copie prodotte dalla pallida somiglianza tra le azioni e le virtù e al loro posto subentrerebbe l'inebriante comunione nella santità in una parola di ogni quintale di morale rimarrebbe un milligrammo di un'essenza che è miracolosamente beatifica anche nella quantità di un milionesimo di grammo si ribatterà che questa è utopia sì certo lo è utopia ha pressa poco lo stesso significato di possibilità il fatto che una possibilità non è una realtà vuol dire semplicemente che le circostanze alle quali essa è attualmente legata non glielo permettono altrimenti sarebbe invece una impossibilità se la sciogliamo dai suoi legami e lasciamo che si sviluppi ecco che nasce l'utopia si fogge su per giù lo stesso processo come quando un ricercatore osserva la metamorfosi degli elementi in un fenomeno composto e ne trae le sue conclusioni l'utopia è l'esperimento in cui si osservano la probabile trasformazione di un elemento e gli effetti che essa produrrebbe in quel complicato fenomeno che chiamiamo vita ora se l'elemento osservato è la stessa esattezza lo si isola e lo si lascia sviluppare lo si considera un'abitudine del pensiero e un atteggiamento di vita e si fa in modo che la sua forza esemplare influisca su tutto ciò che tocca così si arriva a un uomo in cui si forma una paradossale combinazione di esattezza e di indeterminatezza e gli possiede quella incorruttibile voluta freddezza che rappresenta il temperamento che coincide con la precisione ma all'infuori di tale qualità tutto il resto è indefinito le stabili condizioni dell'animo che sono garantite da un'etica hanno scarso valore per un uomo la cui fantasia tende ai cambiamenti e soprattutto quando l'esigenza di un massimo ed esattissimo adempimento si traspone dal piano intellettuale a quello delle passioni sia come si è accennato prima lo stupefacente risultato che le passioni scompaiono e al loro posto compare qualcosa di simile a un fuoco primigenio di bontà questa è l'utopia dell'esattezza non si saprà come un uomo siffatto debba trascorrere le sue giornate già che non può liberarsi eternamente nell'atto della creazione e avrà sacrificato a una immaginaria conflagrazione il fuocarello domestico di sensazioni limitate ma quest'uomo esatto oggi esiste come uomo nell'uomo egli vive non solo nel ricercatore ma anche nel commerciante nell'organizzatore nello sportivo nel tecnico sia pure soltanto per adesso in quelle ore più importanti della giornata che essi chiamano non la loro vita ma la loro professione perché l'uomo esatto che prende tutto con tanta meticolosità e senza pregiudizi da nulla abborrisce come dall'idea di prendere allo stesso modo se stesso e non c'è dubbio ahimè che considererebbe l'utopia di se stesso come un tentativo immorale ai danni di una persona che ha serie occupazioni a cui attendere perciò Ulrich nella questione se sia bene conformare al gruppo più potente di attività interiori le altre attività oppure no in altre parole se si possa trovare un senso e uno scopo a ciò che ci avviene o che ci è avvenuto in tutta la sua vita era sempre rimasto abbastanza solo 61 anche la terra ma specialmente Ulrich si inchina all'utopia del saggismo la precisione come atteggiamento umano richiede anche un essere e un agire precisi richiede essere ed agire nel senso di esigenza massima qui però bisogna fare una distinzione in verità non vi è soltanto la precisione fantastica che in realtà non esiste ancora ma anche la precisione pedantesca e queste due si distinguono per il fatto che quella fantastica s'attiene alla realtà e quella pedantesca alle visioni della fantasia l'esattezza ad esempio con cui lo spirito bizzarro di Mohs Brugger veniva immesso in un sistema di concetti giuridici bimillenari somigliava agli sforzi pedanteschi di un pazzo che vuole infilzare con uno spillo un uccello in libero volo nell'aria ma non si curava minimamente dei fatti bensì del concetto fantastico del giure invece la precisione mostrata dagli psichiatri nei confronti del grande quesito se Mohs Brugger si potesse condannare a morte oppure no era in tutto e per tutto esatta perché non si rischiava a dire altro se non che il suo quadro clinico non coincideva con nessun altro quadro clinico osservato sinora e rimetteva ogni decisione nelle mani dei giuristi in quell'occasione l'aula del tribunale offriva veramente un'immagine della vita perché tutte le alacri creature umane che troverebbero assurdo servirsi di un'automobile di più di cinque anni o farsi curare una malattia secondo metodi in uso dieci anni fa e che dedicano altresì tutto il loro tempo volontariamente involontariamente al progresso di queste invenzioni e ne sono indotti a razionalizzare tutto ciò che entra nella loro sfera preferiscono abbandonare alle loro mogli le questioni della bellezza della giustizia dell'amore e della fede in breve tutti i problemi dell'umanità purché non abbiano addentellati con i loro affari e se le mogli non bastano a risolverle tutte a una varietà di uomini i quali raccontano loro in locuzioni millenarie certe favole sul calice e la spada della vita che essi ascoltano distratti annoiati e scettici senza crederci e senza pensare alla possibilità che tali problemi possano avere una diversa soluzione ci sono dunque in realtà due conformazioni mentali che non si combattono solamente ma di solito il che è peggio coesistono l'una accanto all'altra senza scambiar parola tranne l'assicurarsi reciprocamente che sono tutte e due utili e opportune ciascuna al suo posto l'una si accontenta di essere esatta e si attiene ai fatti l'altra non se ne accontenta ma guarda sempre all'insieme e deriva la sua conoscenza dalle verità cosiddette grandi ed eterne la prima ci guadagna in successo la seconda in dignità ed estensione è chiaro che un pessimista potrebbe anche dire che i risultati dell'una non valgono niente e quelli dell'altra non sono veri infatti che cosa ne facciamo del giorno del giudizio universale quando verranno pesate le opere umane di tre monografie sull'acido formico e anche se fossero 30 d'altra parte che cosa ne sappiamo del giudizio universale se non sappiamo neanche tutto quel che può saltar fuori fino ad allora dall'acido formico fra i due poli di questo né l'uno né l'altro oscillava l'umano sviluppo quando erano già passati 18 e non ancora 20 secoli perché l'umanità aveva appreso per la prima volta che alla fine dei giorni ci sarebbe stato quel supremo giudizio spirituale si sa per esperienza che a una direzione segue sempre la direzione opposta e quantunque sia pensabile ed augurabile che una tal conversione si compia come nel passo della vita che a ogni cambiamento di direzione si innalza per cause ignote l'evoluzione invece raramente acquista di più di quanto perde in deviamenti e distruzioni perciò il dottor paul arnheim aveva perfettamente ragione quando diceva ad ulrich che la storia non permette mai nulla di negativo la storia è ottimista prende sempre con entusiasmo una decisione e solo in seguito quella opposta così alle prime fantasie dell'esattezza non seguì affatto il tentativo di tradurla in atto ma le si abbandonò all'uso sensali degli ingegneri e degli scienziati e ci si volse di nuovo verso la conformazione mentale di più largo ambito e di maggiore dignità ulrich ricordava benissimo come era tornata in onore l'insicurezza si erano sempre più moltiplicate le lagnanze di gente che aveva una professione un po' incerta poeti critici donne e quelli che sono di professione i giovani costoro accusavano la scienza pura di essere una cosa nefasta che faceva a pezzi ogni altra opera dell'uomo senza saperla mai rimettere insieme e chiedevano a gran voce una nuova fede umana il ritorno a tutti i valori primordiali originali sorgivi il rinacimento spirituale e una quantità di altre cose del genere agli inizi Ulrich li aveva presi ingenuamente per individui con le ossa rotte che scendevano zoppiconi da cavallo gridando che avevano bisogno di ungersi l'anima ma poco a poco dovette riconoscere che quel grido ripetuto che gli era parso così buffo in principio trovavo un eco sempre più vasta la scienza non fu più considerata attuale il tipo dell'uomo impreciso che domina il tempo presente aveva cominciato ad imporsi Ulrich si era rifiutato di prendere tutto questo sul serio e aveva continuato a sviluppare a modo suo le proprie tendenze spirituali dal tempo più remoto della prima autocoscienza giovanile che spesso si ripensa più tardi con tanto turbamento e commozione sopravvivevano oggi nel suo ricordo certe immagini altra volta amate e fra queste la frase vivere ipoteticamente essa esprimeva ancora sempre il coraggio e l'involontaria ignoranza della vita in cui ogni passo è un rischio senza esperienza esprimeva il desiderio di grandi sviluppi e l'alito di irrevocabilità che ogni giovane sente quando entra con passo esitante nella vita Ulrich pensava che in fondo nulla di tutto ciò era da ritrattare un'eccitante sensazione di essere predestinato a qualche cosa e quanto vi è di bello e di unicamente certo in colui che contempla il mondo per la prima volta se sorveglia le proprie impressioni non può accettare nulla senza riserve egli cerca la possibile amante ma non sa se è quella giusta è capace di uccidere senza essere sicuro di doverlo fare la volontà di sviluppo della sua propria natura gli vieta di credere alle cose compiute ma tutto ciò che gli viene incontro sembra stranamente compiuto egli ne ha il sospetto quest'ordine non è saldo come finge di essere nessun oggetto nessun io nessuna forma nessun principio è sicuro tutto subisce un'invisibile ma incessante trasformazione vi è nell'instabile una maggior porzione ad avvenire vi è nell'instabile una maggior porzione ad avvenire che nello stabile e il presente altro non è che un'ipotesi non ancora superata che cosa avrebbe potuto fare di meglio che mantenersi libero dal mondo così come un ricercatore mantiene la sua libertà di giudizio di fronte a fatti che pretenderebbero divincolare prematuramente la sua fede perciò egli esita a fare di sé qualcosa carattere professione stabilità sono per lui concetti da cui traspare già la carcassa che ne sopravvanzerà sola egli cerca di intraprendere se stesso in un altro modo con una tendenza a tutto ciò che accresce il suo mondo interiore anche se è moralmente o intellettualmente proibito egli si può paragonare a un passo che può essere fatto da ogni lato ma è sempre condotto da un contrappeso a un altro e sempre più avanti e se a un certo momento crede di avere l'ispirazione giusta si accorge che una goccia di fuoco inesprimibile è caduta sul mondo e il suo brillare cambia l'aspetto della terra più tardi con l'accrescimento delle facoltà intellettuali tutto questo era diventato in Ulrich un'idea che egli non collegava più con la vaga parola ipotesi ma per ragioni precise con il particolare concetto di saggio all'incirca come nei vari capitoli di un saggio si considera un oggetto da molti lati diversi senza comprenderlo tutto perché un oggetto preso in tutto il suo insieme perde di colpo il suo volume e si riduce a un concetto così egli credeva di poter considerare e trattare nel modo più giusto il mondo e la propria vita il valore di un'azione o di una qualità anzi persino il suo carattere e la sua natura gli sembravano indipendenti dalle circostanze che l'accompagnavano dagli scopi a cui servivano in una parola dall'insieme variamente costituito a cui appartenevano del resto questa è soltanto la semplice descrizione del fatto che un assassino ci può apparire come un delitto oppure come un'azione eroica e l'ora d'amore come la penna caduta dall'ala di un angelo oppure di un'oca ma Ulrich generalizzava sicché tutti gli avvenimenti morali si svolgevano per lui in un campo d'energia la cui costellazione ricolmava di significato ed essi contenevano il bene e il male come un atomo contiene le possibilità di combinazioni chimiche erano in un certo modo quello che diventavano e così come la parola duro secondo che la durezza sia associata con amore crudeltà celo o rigore indica quattro diversissime essenze tutti gli avvenimenti morali gli apparivano nel loro significato come la funzione dipendente di altre in tal modo si formava un sistema infinito di connessioni in cui significati indipendenti come quelli che la vita comune attribuisce con grossolana approssimazione agli atti e ai caratteri non esistevano più ciò che appariva saldamente stabilito diventava un comodo pretesto per molti altri significati l'avvenimento diventava il simbolo di ciò che forse non avveniva ma si sentiva profondamente e l'uomo come compendio delle sue possibilità l'uomo potenziale la poesia non scritta della sua esistenza si contrapponeva all'uomo come opera scritta come realtà e carattere in fondo Ulrich secondo questo modo di vedere si sentiva capace di ogni virtù e di ogni malvagità e che le virtù come i vizi in un ordine sociale equilibrato vengano da tutti ma senza confessarlo considerate ugualmente fastidiose gli dimostrava appunto ciò che succede dappertutto in natura e cioè che ogni gioco di forze tende col tempo a un valore medio e a uno stato medio a un equilibrio e a un irrigidimento la morale in senso corrente non era altro per Ulrich che la forma senile di un sistema di forze che non si può scambiare per morale senza perdita di forza etica forse anche questo modo di vedere la vita esprimeva una certa incertezza l'incertezza però spesso non è che l'insufficienza delle solite valvole di sicurezza e dal resto sarà bene ricordare che anche un personaggio esperto come è l'umanità agisce a quanto pare secondo principi molto simili alla lunga essa ritratta tutto quel che ha fatto e lo sostituisce con altro anche per lei con l'andar del tempo i delitti si trasformano in virtù e viceversa essa costruisce grandi concatenazioni spirituali di tutti gli avvenimenti e dopo qualche generazione le lascia di nuovo crollare queste cose però avvengono successivamente anziché in un'unica vita e la catena dei tentativi dell'umanità non mostra un ritmo ascensionale mentre un cosciente saggismo umano avrebbe su per giù il compito di trasformare in volontà queste indolenti percezioni del mondo e molte singole linee di sviluppo indicano che ciò potrebbe accadere assai presto l'assistente di laboratorio di un ospedale che è bianco vestita mescola in un candido piattello di porcellana l'escremento di un paziente con acidi adatti fino ad ottenere una sostanza purpurea il cui giusto colore ricompensa il suo zelo si trova già adesso pur senza saperlo in un mondo più mutabile che non la giovane signora rabbrividente per la strada davanti al medesimo oggetto il criminale che è entrato nel campo morale di forze della sua azione si muove ormai soltanto come un nuotatore travolto da una corrente impetuosa e lo sa ogni madre il cui figliuolo sia mai stato travolto finora però non lo si è voluto credere perché non c'era posto per tale credenza la psichiatria definisce la sua vecchia allegria perturbazione euforica come a dire allegro malumore e ha scoperto che tutte le amplificazioni della castità come della sensualità della crudeltà come della pietà mettono capo al patologico ben poca importanza avrebbe dunque la vita sana se avesse perfine soltanto uno stato intermedio fra due esagerazioni che miseria se il nostro ideale non fosse davvero nient'altro che la negazione del trasmodare dei nostri ideali tali scoperte conducono dunque a vedere nella norma morale non più la stasi dei canoni fissi ma un equilibrio mobile che richiede a ogni istante prestazioni per il suo rinnovamento si incomincia a capire sempre meglio come sciocco attribuire al carattere di una persona certe sue tendenze alla ripetizione involontariamente acquisite e poi far responsabile di quelle ripetizioni il suo carattere si impara a riconoscere il gioco alterno fra il dentro e il fuori e appunto la comprensione di quel che c'è di impersonale nell'uomo ci fa scoprire nuove tracce dell'elemento personale tanti semplici modi fondamentali del comportamento umano l'istinto a costruirsi l'io che come l'istinto a costruirsi il nido negli uccelli edifica l'io servendosi di materiali diversi senza gran varietà di procedimenti si è già così vicini ad arginare come un torrente di montagna per mezzo di influssi determinati certe situazioni degenerate che diventa trascurataggine sociale o un resto di inattitudine non trasformare a tempo i criminali in arcangeli e così si potrebbero citare molte altre cose sparse non ancora costate che concorrono a farci sentire stanchi delle approssimazioni grossolane sorte in circostanze più facili per la loro applicazione e a poco a poco ci incalza il bisogno di trasformare le forme fondamentali di una morale che da duemila anni è stata adattata solo nelle piccole cose al gusto cangiante e di barattarla con un'altra più aderente alla mobilità dei fatti Ulrich era convinto che vi mancasse soltanto la formula quell'espressione che lo stato di un movimento prima ancora di essere raggiunto deve trovare in un momento felice affinché l'ultimo tratto di cammino possa essere percorso ed è sempre un'espressione audace che lo stato delle cose non giustifica ancora una combinazione di esatto e di non esatto di puntualità e di passione ma proprio negli anni che avrebbero dovuto spronare il suo zelo gli era successo qualcosa di strano egli non era un filosofo i filosofi sono dei violenti che non dispongono di un esercito e perciò si impadroniscono del mondo rinchiudendolo in un sistema probabilmente è questa la ragione per cui nei tempi di tirannia vi sono stati grandi filosofi mentre nei tempi di progresso civile e di democrazia non c'è verso che si produca una filosofia convincente almeno per quanto se ne può giudicare dal rammarico che si sente universalmente esprimere a questo proposito perciò oggi si filosofeggia moltissimo al minuto così che le botteghe sono i suoli luoghi dove si può comprare qualcosa senza una Weltanschauung mentre regna una pronunciata diffidenza contro la filosofia all'ingrosso la si ritene semplicemente impossibile e neanche Ulrich era esente da tale sfiducia anzi dopo le sue esperienze scientifiche la giudicava con un po' di ironia questo influiva sul suo comportamento cosicché da tutto ciò che vedeva egli era sollecitato a riflettere e tuttavia aveva un certo timore di riflettere troppo ma ciò che decideva in ultima analisi del suo comportamento era ben altro c'era nella natura di Ulrich qualcosa che agiva in un modo svagato paralizzante disarmante contro l'ordine logico contro la volontà univoca contro gli impulsi chiaramente indirizzati dell'ambizione e anche questo si riconnetteva alla parola di Ulrich a suo tempo saggismo anche se conteneva per l'appunto gli elementi che lui col tempo e con l'inconscia accuratezza aveva eliminati da quel concetto l'interpretazione della parola saggio come prova tentativo contiene solo approssimativamente l'allusione essenziale al modello letterario un saggio infatti non è l'espressione provvisoria o accessoria di una convinzione che in un'occasione migliore potrebbe essere elevata a verità ma però anche conosciuta come errore di questo genere sono soltanto i saggi e gli articoli che gli eruditici propinano come scarti del loro laboratorio un saggio è il definitivo e immutabile aspetto che la vita interiore di una persona assume in un pensiero decisivo nulla gli è più estraneo che l'irresponsabilità e la mediocrità delle idee che si suole chiamare soggettività ma anche il vero e il fanso il ragionevole e l'irragionevole non sono concetti applicabili a tali pensieri che sono sottoposti tuttavia a leggi assai severe sebbene lievi e inesprimibili in apparenza vi sono stati non pochi saggisti e maestri della vita interiormente fluttuante ma non avrebbe scopo elencarli il loro regno sta fra la religione e la scienza fra l'esempio e la dottrina fra l'amore intellettualis e la poesia sono santi con e senza religione e qualche volta sono semplicemente uomini coinvolti in un'avventura nulla d'altronde è caratteristico quanto l'involontaria esperienza che si fa con i tentativi scientifici e ragionevoli di interpretare questi grandi saggisti di trasformare la dottrina di vita così com'è in scienza di vita e di ricavare un contenuto dalla commozione dei commossi tanto ne rimane quanto del corpo delicato di una medusa tolta dall'acqua e abbandonata sulla sabbia la dottrina dei commossi davanti alla ragione dei non commossi si disfa in polvere con tradizione onestoltezza eppure non la si può definire fragile e inadatta alla vita perché altrimenti si dovrebbe dire che anche un elefante è troppo delicato per sopravvivere in uno spazio senza aria non corrispondente ai suoi bisogni sarebbe assai deplorevole se queste descrizioni suggerissero l'idea di un mistero o anche soltanto di una musica in cui prevalgono i suoni dell'arpa e i sospirosi glissandi è vero il contrario è il problema fondamentale Ulrich non se lo poneva soltanto come un dubbio ma lo formulava anche spassionatamente così un uomo che vuol lasciare libero gioco alla sua soggettività diventa magari scrittore ma che cosa deve fare un uomo che vuole qualcosa di intermedio fra i due di questi esempi intermedi se ne trovano in ogni precetto morale per esempio nel semplice e notissimo non ammazzare si vede alla prima occhiata che non è né una verità né una soggettività si sa che noi lo osserviamo strettamente sotto certi riguardi sotto altri riguardi sono concesse numerose eccezioni però entro limiti precisi ma in un gran numero di casi di una terza categoria cioè nella fantasia nei desideri nelle opere teatrali o nella lettura dei quotidiani noi ondeggiamo senza alcuna regola fra la tentazione e l'orrore una cosa che non è né una verità né una soggettività viene chiamata talvolta un'esigenza si è inchiodata questa esigenza ai dogmi della religione e a quelli della legge dandole così il carattere di una verità derivata ma i romanzieri ci narrano le eccezioni a cominciare dal sacrificio d'Abramo fino alla bella donna che ieri ha ucciso l'amante e lo riducono di nuovo in soggettività dunque ci si può aggrappare ai piloni o lasciarsi sbattere qua e là nel mezzo della corrente ma con quali sentimenti ciò che l'uomo sente per quel comandamento è un misto di cieca obbedienza compresa la natura sana che ripugna anche pur dall'idea di un'azione simile ma appena un po' turbata dall'alcol o dalla passione la commette di filato e dispensierato di guazzare in un mare di possibilità in precetto deve proprio essere inteso così Ulrich sentiva che un uomo il quale desidera con tutta l'anima di fare una cosa in tal modo non sa se la deve fare o se non la deve fare e a lui sembrava invece che si sarebbe potuto farla o non farla per intrinseca spinta dell'essere una voglia o un divieto non gli dicevano nulla l'attaccarsi a una legge superna o interna muoveva la sua ragione alla critica anzi e gli vedeva persino una diminuzione in quel bisogno di nobilitare dandogli una genealogia l'attimo sicuro di se stesso tuttavia il suo cuore era muto e solo la sua testa parlava ma egli sentiva che in un altro modo la sua decisione avrebbe potuto coincidere con la sua felicità potrebbe essere felice perché non uccide o essere felice perché uccide ma non potrebbe mai essere l'esattore indifferente di un'esigenza a lui imposta ciò che egli sentiva in quel momento non era un comandamento era una regione in cui aveva posto il piede capiva che lì tutto era già stabilito e pacificava i sensi come il latte materno ma non era più il pensiero quello che gli diceva queste cose e neanche il sentimento alla maniera solita come rotto in frammenti era un comprendere interamente eppure soltanto così come quando il vento recca da lungi un messaggio e non gli pareva né vero né falso né ragionevole né irragionevole ma ne era commosso come se una leggera beata esagerazione gli fosse caduta sul cuore e come non si può fare una verità con le parti vere di un saggio così non si può trarre da un simile stato una convinzione almeno non lo si può senza abbandonarlo come un amante deve abbandonare l'amore per descriverlo l'immensa commozione che a volte lo turbava inerte era in contraddizione con la sua smania di attività anelante a limiti e a forme ora è probabilmente giusto e naturale voler sapere prima di lasciar parlare il sentimento e involontariamente egli si immaginava che quello che egli intendeva trovare un giorno anche se non fosse stato una verità non avrebbe avuto minor consistenza di essa ma nel suo caso particolare egli era simile a un uomo che si procura un armamentario di arnesi e intanto a poco a poco gli viene meno l'intenzione di servirsene se gli avessero chiesto in qualunque momento mentre compilava trattati di geometria o di logica matematica oppure di scienze naturali quale scopo egli si proponesse avrebbe risposto che un solo problema vale veramente la pena di essere meditato e cioè quello del vivere giusto ma quando si solleva per molto tempo un'esigenza senza che se ne faccia nulla il cervello si addormenta proprio come si addormenta il braccio quando tiene sollevato un oggetto per molto tempo i nostri pensieri non resistono a una lunga immobilità come i soldati a una rivista d'estate se debbono star fermi un pezzo cascano a terra svenuti Ulrich a 26 anni aveva già pressapoco concluso l'abbozzo del suo concetto della vita sicché a 32 egli non pareva più del tutto sincero non aveva continuato a modellare i suoi pensieri e a parte un senso di incertezza e di tensione come quando si aspetta qualcosa a occhi chiusi erano scarsi in lui i moti personali da quando erano passati i giorni delle prime palpitanti scoperte tuttavia poteva essere un moto sotterraneo dello stesso genere quello che col tempo lo aveva ritardato nel lavoro scientifico e gli impediva di impegnarli tutta la sua volontà venne a trovarsi quindi in uno strano dissidio non si dimentichi che la mentalità scientifica è in fondo più religiosa di quella umanistica appena egli si degnasse di mostrarlesi nelle condizioni che essa prescrive per il riconoscimento della sua esistenza essa infatti gli si sottometterebbe mentre i nostri umanisti se egli si manifestasse troverbero soltanto che il suo talento non è abbastanza originale e la sua visione del mondo non è abbastanza comprensibile per poterlo mettere sullo stesso piano con certi ingegni veramente divini Ulrich dunque non poteva abbandonarsi così facilmente a vaga intuizioni come uno di coloro ma d'altra parte non poteva nascondersi di aver vissuto per anni a furia di esattezza solo contro se stesso e desiderava che gli accadesse qualcosa di imprevisto perché trovandosi in quella che egli chiamava un po' ironicamente la sua vacanza dalla vita non possedeva né in una direzione né nell'altra nulla che gli potesse dar pace forse si potrebbe dire a sua scusa che la vita in certi anni fugge incredibilmente rapida ma il giorno in cui bisogna incominciare a vivere le proprie ultime volontà prima di lasciarsene dietro i residui è ancora lontano e non si può spostare di questo egli vedeva la chiara minaccia perché erano passati sei mesi senza nessun mutamento mentre nella sua piccola e strampalata attività che si era addossato si lasciava sbattere di qua e di là e parlava amava parlare troppo e viveva con la disperata ostinazione di un pescatore che getta le sue reti in un fiume asciutto mentre con intenzione non faceva nulla di corrispondente dalla persona che pur sempre era e gli aspettava aspettava dietro la propria persona in quanto questa parola definisce quella parte dell'uomo che è modellata dal mondo e dal corso della vita e la sua tranquilla disperazione arginata lì dietro saliva giorno per giorno egli si trovava nel peggiore stato di emergenza della sua vita e disprezzava se stesso per le sue omissioni le grandi prove sono il privilegio dei grandi caratteri avrebbe voluto crederlo ma non è vero perché anche le più semplici nature nervose hanno le loro crisi così nel grande perturbamento non gli restava in fondo che quel resto di imperturbabilità che tutti gli eroi e i criminali posseggono e non è coraggio non è volontà non è sicurezza ma semplicemente un tenace attaccamento a se stessi duro a morire come un gatto anche quando è già tutto dilaniato dai cani se volete immaginare come viva un tal uomo quando è solo possiamo tutt'al più raccontare che di notte le finestre illuminate guardano nella stanza e i pensieri dopo essere stati usati stanno seduti in giro come i clienti nell'anticamera di un avvocato di cui non sono contenti o forse che Ulrich una volta e in una notte così aprì le finestre e guardò i tronchi nudi come serpi con i rami stranamente neri e lisci fra le coltri di neve del suolo e della chioma e improvvisamente ebbe voglia di scendere in giardino così com'era in veste da camera voleva sentire il freddo nei capelli quando fu sotto spense la luce per non stare nel vano luminoso della porta e solo dal suo studio una zona di luce penetrava nell'ombra un viotto lo portava al cancello sulla strada un altro lo tagliava indistintamente visibile Ulrich lo percorse a passi lenti e a un tratto l'oscurità torreggiante fra le vette degli alberi gli ricordò la gigantesca figura di Moosbrugger e le piante spoglie gli apparvero stranamente corporee brutte e bagnate come vermi e tuttavia così che avrebbe voluto abbracciarle e cadere ai loro piedi col viso inondato di lacrime ma non lo fece il sentimentalismo del suo impulso lo ributtò indietro nell'istante stesso in cui lo toccava attraverso la spuma lattea della nebbia apparvero al di là del cancello due o tre passanti attardati ed egli come la sua figura in vestaglia rossa si staccava adesso dai tronchi neri avrebbe potuto sembrar loro un pazzo ma fece il sentiero a passo fermo e rientrò in casa relativamente contento perché se c'era qualcosa in serbo per lui doveva essere tutt'altro e ria